Non mi sento molto bene, non mi taglierò le vene, mi serve una trasmissione da vedere in punto di morte, sono a casa in cadene, gli altri escono tutti insieme, ecco un podcast incassinazione, che prezzo cambia la mia sorte C'è il vero, pop 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 podcast C'è il vero, pop 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 podcast Marramichi liceidepe, lei urla rana 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 C'è il vero, pop 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 podcast L'un dubbi vuole estinguerti, tre teste per un cerbero Cerbero, pop 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 podcast Troppi goblin in questo mondo Non sarò un cloche Né tanto me non deve Perché ogni giorno guardo Cerbero, pop 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 podcast Cerbero, pop 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 podcast Marramichi liceidepe, lei urla rana 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 Cerbero, pop 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 podcast Avedes! Ma che stai a fare? Ricordate che i squali stanno arrivare Hello! Lo Shard E benvenuti in questa nuova trasmissione Senza layout Ecco chi stiamo a parlare A colloquia con chi Ciao Bella fede Ciao Ciao Come state? Tutto bene, tutto bene Non mi sarei mai aspettato Io oggi sapevo che dovevamo vedere l'intervista Entro in studio e mi trovo Fedes In collegamento Una surprise Bellissima Raccontiamola bene Che poi sembra Perché io e Marra dovete sapere Che ci sentiamo Ci sentiamo abbastanza spesso io e te Sì No? Sì, sì Quasi come il pippega Ok Io stavo per uscire a cena Mi fa se vuoi entrare a parlare Ho detto boh va bene Ok facciamola Facciamo questa cosa Tanto ormai abbiamo fatto 30 Facciamo 31 Sì almeno ci dici un po' Ci fai una premessa Poi tanto ce la vediamo Poi c'hai da fare Ce la vediamo noi con calma Facci una premessa Nel senso non si è capito un cazzo Perché a livello di comunicazione È passata una cosa Quindi tu Che non volevi mettere questa intervista online Poi di Kele Ha detto Ah finalmente ha firmato la liberatoria Possiamo farlo uscire Come è andata veramente Ma allora Il tema è questo Di Kele Quando racconta queste cose qua Non sono interessanti Però quando racconta queste cose qua Lui omette Delle cose Se tu fai un format E ti fai finanziare il format Da una casa discografica La casa discografica Indipendentemente da me Cerca di fare le cose in regola E quindi Vuole la liberatoria Vuole determinate cose La liberatoria Io non so Non so nulla di questa cosa Della liberatoria Perché il mio ufficio Non ha parlato Cioè per me Poteva pubblicarla così E mi andava bene L'unica cosa Che avevo chiesto Alla mia discografica Era che il video Non venisse monetizzato O che i soldi Venissero dati in beneficenza E di Kele Ha scelto Di non monetizzare il video Ok Piuttosto che dare I soldi in beneficenza E Io solo questo Avevo chiesto E siccome la Sony Esigeva La liberatoria Gli ho chiamato E ho detto Ragazzi Vi serve per forza la liberatoria Gliel'ho firmata Oggi o ieri E gliel'ho mandata Vabbè Oltre a questo Oltre a questo Anche al discorso Del montaggio Cioè tu hai detto Pubblica Però integrale È che secondo me È pure quello più Grave Perché se tu hai bisogno In un'intervista D'aiuzzare le parti Addirittura Di stravolgere L'ordine cronologico Significa che non sei Così convinto Di aver ragione Che sicuramente Stai in malafede Dalla mia visione L'intervista fatta live Appunto Sì ma nel 2021 Mi sembra una mossa Un po' del cazzo Scusa è vero È una mossa nel cazzo Nel momento in cui Poi io siccome Allora A me mi era stato detto Dalla Sony Questa cosa nasce Dalla Sony Nel senso La Sony mi dice Di che le vuole farti Un'intervista Un'intervista Io dico Perché E mi garantiscono Che lui è ben disposto Che vuole fare Un'intervista costruttiva Basata sul dialogo Dove ovviamente Sapevo che mi avrebbe chiesto Delle cose Scomode Non so cosa Anche coerente Con quello che hai sempre detto No ma a me piace Cioè io Non mi tiro indietro Davanti a queste cose Mi piace La dialettica Mi piace Confrontarmi Quindi ho detto Va bene Quello in cui mi sono trovato È uno scenario Un po' diverso Però per tutelarmi Siccome Un pochino di paura Ce l'avevo Io mi ero portato Un videomaker mio Che ha ripreso Tutta l'intervista Da Cioè da 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 Grande Luiz Grande Luiz Sono contento che fai lavorare Questi giovani videomaker Da moglie il lavoro a Luiz Non Cioè diciamo Quando mi è arrivata la prima intervista Era tutta sfalsata Però nel bene o nel male Io Non ho idea di come sia Questa nuova qua Non l'ho vista Ma Spero e presumo Che non sia Che non sia tagliata Stavo guardando un pezzettino prima Ho visto Ci hanno inserito dei cartellini Dove Mi smentiscono Delle cose che dico Come se fosse un po' un processo E' ovvio che io in alcune cose Cioè ragazzi Come citando un giorno in pretura Non ho un computer in testa Alcune robe magari ho Ho fatto casino con le date Sicuramente ho sbagliato a dire La motivazione per il quale Ho litigato con Fibra Che non è il libro della Zuccar Ma era un altro motivo E comunque il fatto che la Zuccar Dicesse determinate cose Girava già da prima del libro Però delle cagate Ecco non so come dire Comunque il succo di questa intervista L'hanno già fatta con qualcun altro O è esclusivamente per te Beh di smentire l'ospite Credo che sia una cosa tutta nuova È un'infamata incredibile Ma chi la passa cosa? Però io voglio capire una cosa Ma tu la vedi più come Trovare un pelo nell'uovo Oppure come una sorta di Buttiamogli merda addosso? No, io credo che Si evince limpidamente Da quell'intervista Che i cartellini per smentire Sono a tutela di alcuni artisti Cioè sono in base a delle mie Affermazioni E sono per tutelare Cioè Di che le lavora per alcuni artisti Ha dei rapporti con alcuni artisti E in questo caso Da prezzolato qual è Non ha fatto un buon lavoro Perché Facendomi determinate domande Su alcuni di questi artisti Io rispondo Con la mia visione E i fatti E le cose che dico io Quindi non ha fatto un buon lavoro Nemmeno per i suoi datori di lavoro E Premetto che comunque È un'intervista Sul quale secondo me Non esco bene io E non esce bene lui Cioè non è un'intervista bella Infatti volevo chiederti questa cosa Io l'avevo già vista È una merda Perché me l'aveva mandata Un ragazzo che era lì presente L'aveva mandata io Dai Pirla Vabbè non lo volevo dire Che cazzo Non ti volevo scuttanare Sei un coglione Vabbè Mannaggia Vabbè Volevo tutelarti Ma bravo Qui siamo per la verità Siamo per la verità Che cazzo ne so Vabbè ti ho fatto bene Io ho avuto prefatto uguale Non sapendo Che cosa si crea Che cosa si fa Me l'hanno mandata in mille Che quando è uscita Quest'intervista qui Per me Non è stata una bella esperienza E ho scritto a Marra Gli ho detto senti guardatela Perché a me Mi sembra veramente una merda Cioè ne sono uscito Che mi sono sentito una merda Non so come spiegarvi E quindi avevo Cioè ho detto dammi un parere Guardala Perché secondo me Cioè Tutta una merda Non so come dire Quindi dal mio punto di vista Non ne esco bene Neanch'io No ma infatti volevo chiederti questo Ho cercato Ho cercato Di mantenere la calma E Ce l'ho fatta Ma potevo fare di meglio Avrei preferito Mantenere di più la calma Ponderare di più Quindi non Non credo di Cioè Per me è merda Cioè per me è la peggiore Intervista Della storia del rap italiano Vabbè un record però Ottimo E farne parte Non Cioè nel senso Non mi fa Non mi fa piacere Ecco No infatti volevo chiederti Cioè Cosa avevi da recriminarti Su questo Però vabbè Immagino il mood di partenza Fosse già Una merda No mi spiace Mi spiace non aver chiesto A questo punto Le domande in anticipo Perché Io andavo lì Innanzitutto per parlare Del mio album Cosa che praticamente Non si è Cioè non si è fatta No E E poi anche per cogliere L'occasione Per parlare di alcuni temi Ma non per creare Biff Dissing con altri artisti Siccome Sono stato citato Senza che io facessi nulla Cioè Sono stato citato Da degli artisti In interviste E in canzoni Su dei temi Che sono Molto più grandi Di noi due Cioè Della D'altra rapper No E secondo me Era super interessante Aprire un tavolo Di dibattito Su quelle tematiche Lì Purtroppo Di Chele Già nel backstage In cui Gli ho chiesto Perché Ci sono tutti Questi artisti E non ci sono Non c'è un altro artista E gli argomenti Che ha sollevato Questo artista Perché per me Sono interessanti Da dibattere Non per insultare L'artista Cioè a me non me ne frega Un cazzo Di fare il beef Ma per parlare Dei temi che ha sollevato Che sono interessanti Dal mio punto di vista Sì 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 Mi ricordo Quello scambio Con Marrakesh Su dei temi Non Non l'ha ritenuto Opportuno Vabbè Sappiamo il motivo No Boh Non lo so Credo di saperlo Però Ok Va bene Va bene Sì poi essenzialmente Qualcuno ha scritto Poi in chat Sei una merda Da ambo le parti Perché pubblicarla Nel senso Ci sarà Cioè nel senso L'hanno fatta A quel punto La pubblici Ovviamente Ma nel senso Il contenuto è loro Potevano fare Quello che volevano Cioè Va bene così Poi nel momento in cui Sono usciti tutti i leak E tutte le cose A quel punto Certo Aveva senso Farla uscire Io comunque ho notato Una cosa Che Di Kele Spesso utilizza Un metodo Che ho utilizzato Anche in questo caso Che avevo utilizzato Già nell'intervista Con J-AX Che ho rivisto Per la live Che poi abbiamo fatto Con lui Perché come ho detto Live Cioè io mi rivedo Sempre alle interviste Per evitare le stesse domande Allora Visto che Di Kele Ha parlato abbastanza Sia di AX Che di Fedez Per tutelarsi Un po' all'inizio Fa una sorta di Discorso in voice over Dove fa Mette un po' le mani avanti Dicendo tipo In quell'intervista Diceva Io non ho mai ascoltato Il rap di J-AX Non mi è piaciuto Però Eppure qua fa una stessa cosa A me fa molto ridere Trovo un po' cringe Sinceramente Ci sta Come scelta Nel senso Mai stimato molto Quello che fa Però Oggi siamo qui Per cercare Di trovare Magari una risposta A queste domande E poi insomma Si è visto Quindi Secondo me lui Nel momento in cui Dici determinate cose Ovviamente Nel corso del tempo Poi non puoi Arrivare ad un'intervista E fare il lecchino Quindi secondo me L'approccio di Dicel E strong Ci può anche stare Però nel merito Lui invece è andato Molto sul personale Quello secondo me Che ha portato L'intervista Su un piano No ma raga Anche io ho un podcast E mi sono trovato Ad avere feltri Persone con cui Non ho Molto Non condivido Molte idee No Mi è capitato Anche a me Magari con Don Alberto Mi ricordo Magari che Alcune persone Però Così tanto Cioè proprio È una questione Di educazione Non so come dire Cioè così tanto Maleducato Sì sì sono d'accordo C'è un punto Che vedrete Che non è mai stato Liccato Che è la parte Secondo me Più ridicola Dell'intervista Dove lui Mi guarda E mi dice Federico Da quant'è Che non scrivi E io gli faccio Boh Da un mese Lui guarda Mi fa Non scrivi da un mese Pensa che Jamie Tights A me mi ha detto Che tutti i giorni Si accende il computer E scrive Tutti i giorni Sì Era tutto Ovviamente Tutto verteva Era per screditarti Come artista Diciamo Come Se io dicessi Sei un fallito Non ti scrivi Anche sulla cosa Degli autori Ragazzi Lì è stato Imbarazzante Ragazzi Perché uno Non ha avuto Non ha avuto Il minimo rispetto Per chi svolge Questo lavoro Qua Io lavoro Con degli autori Esattamente come Gli altri rapper La differenza Degli altri rapper Non tutti Alcuni E che io Rispettando il lavoro Di queste persone Li porto su un palmo Di mano E dico Che lavoro con loro L'ho paleso Perché è giusto Che sia così Petrella Che è uno Che lavora con Altri rapper Ok Si è incazzato Quando ha visto L'intervista di Dichelle Ha scritto delle cose Molto sensate Cioè questi sono Dei professionisti Che hanno Una loro dignità E lavorano E gli va riconosciuto Il lavoro che fanno Non sono della gente Che fa delle cose losche Cioè gli autori Sono sempre esistiti E anche nel rap Che ne vogliate o meno Ci sono degli autori Che scrivono Ritornelli per i rapper Io uso questi autori Così come lo fanno Praticamente tutti i ragazzi E ci sono anche rapper Che si fanno scrivere Canzoni intere Non è il mio caso Ma anche lì Io non ci vedo Nulla di male Sì ne parliamo Era proprio Un codice Deontologico Antico Ormai Perché nel pop Questa cosa È sdoganata Dagli anni Cinquanta Sì ma Il problema si pone Nel momento in cui Tu fai questa domanda Solo a me Ok E lo chiedi a me E non lo chiedi Agli altri Che hai avuto Come ospiti E che anche loro Usano gli autori Allora a quel punto Fai capire la tua faziosità Io non ho capito una cosa C'è quella scenetta Ridicola degli autori Del brano Il brano Primo in classifica Che fosse di Marra Che magari non ha Io adesso Non lo so Quel brano lì Non ha gli autori Ma è innegabile Che del disco di Marra E nei dischi precedenti Di Marra Ci siano degli autori E non c'è niente di male Così come nel disco Di Cosimo Così come nel disco Di Salmo Così come nel disco Di Shade Così come nel disco Di Fedez È una cosa Che fanno tutti Io non ho capito Un discorso però Perché abbiamo visto Qualche leak Tutta quella roba Del Ma tu sei rap Sei pop Cioè qual era Secondo il suo intento Cioè alla fine A un certo punto Diceva Beh sti cazzi Cioè definiscimi come vuoi Cioè lui voleva Inserirti nella categoria Rapper per O nella categoria pop Perché è implicitamente Inferiore Non capisco Cioè per metterti A paragone con No io credo No io credo Che fosse tutto Un Un Non so come dire Un Un trappolo Un labirinto Che era Se tu mi dici Che sei rap E poi mi dici Che gli avori Con gli autori Allora sei una merda Credo che fosse questo Il trip suo Oppure Sai che non ne ho idea Perché avesse St'esigenza Io ho avuto Recentemente Abbiamo fatto Un'intervista Con Sikliuk Al podcast E infatti Gli dicevo Ma tu Che genere fai No io gli dicevo Io mi sento di fare Non faccio rap Mi sento di fare Vari generi Non è che sono stato Agli a dire Ok no adesso Dimmi Che cazzo di genere Fai Sikliuk Se no non te ne vai più Via di qua Cioè non ha senso Uno Un artista Non si interroga Credo su Che genere In che genere Deve essere incanalato Quella è una cosa E un'esigenza più Di chi racconta La musica Di chi fa il mestiere Che dovrebbe fare Ma Sì l'ho visto parecchio Un caponito Su sta cosa Però quando Hai parlato di me L'hai fatto dissandomi A me sembrava Che la parola pop Fosse intrisa Di negatività Nel senso Che se avessi ammesso Di essere pop Invece che rap Sarebbe stata Come un'ammissione Di colpa Che non esiste In realtà Colpa di che Questo è il discorso Come i metallari Che dicono Che il pop è una merda Secondo me pure I puristi del metal Del rap Appunto Diranno Sei diventato pop Uguale merda Ci sta questo pensiero Immagino Che è il ragionamento Che stava di lui Ma no Credo che lui non riesca Credo che lui non riesca A concepire il fatto Che io vengo Da un background rap Abbia fatto una gavetta Vera Nel rap Ma che abbia sempre Avuto un indole pop Cioè Pop rap Non so come cazzo Chiamarlo Non mi interrogo Su sta roba qua Però Credo che Che lui non riesca A capire questo concetto Abbastanza Perché scusami Pure Marra Non ha fatto dei pezzi Che comunque Si possono tranquillamente Definire pop Come quello di Come Def Non lo so Non vorrei scatenare Io delle guerre Ecco Quello che vorrei evitare A questa intervista Che si scateni No vabbè Perché mi è venuto in mente Le cose Ma Boh Non lo so Se dico di sì Poi magari uno La prende come offesa Cioè capisci Ma perché dovrebbe essere Un'offesa Perché pop è un'offesa Ma è una cazzata Perché questa cosa Non la capisco infatti Questo è il funco Secondo me Perché pop è un'offesa Senso sta cosa qua No Perché implica Che chiunque fa arte Deve comunque Aver per forza O uno studio O sapere I vari generi Quali sono Le varie suonalità Ma se io per esempio Mi voglio svegliare domani E voglio fare quello Che mi pare a me Ma che cazzo me ne fegate Venite a dire Io faccio la mia arte Faccio la mia musica Poi voi parlate Pensate quello che volete Vuol dire anche essere ignoranti Sulla musica Cioè che senso C'è Battiato Che genere fa Adesso tu dimmi Se vuoi incallanare In un genere Battiato È solo pop? No vabbè New Wave Ha fatto New Wave Ha fatto Elettronica Ha fatto Ancora Cioè Battiato Cioè Quindi Anche lì gli autori Cioè Battiato Perché scriveva con degli autori Vale meno quello che faceva Cioè Io non mi sto Paragonando Cioè non voglio Mettermi sullo Se io sono una merda Non so come dire Però il discorso Nel campo musicale Dovrebbe essere Uguale per tutti Non so come dire Cioè lo stesso De Andrè Scriveva con gli autori Con Ventivoglio Cioè scriveva con gli autori De Andrè Certo Ed è comunque Una delle penne migliori Che abbiamo avuto Nella storia della nostra musica italiana E allora E scriveva con altri E quindi Cosa cambia? L'esempio perfetto è Battiato Perché c'è anche Chi lo ascolta Magari in discoteca No Non troppo Stando attento al testo Perché entrava proprio In quel tipo di Accessibilità musicale Pop Che è essenzialmente Il pezzo Che ti spari in macchina Anche senza Pensare troppo A quello che vuol dire Io così intendo Il pop Una cosa proprio Che è accessibile Alla maggior parte Delle persone Poi alla fine Ce lo stiamo chiedendo Dall'alba dei tempi Che cos'è il pop Non esiste Il crashato Ah La migliore intervista Piccolo F Nel campo hip hop È quella del Cerbero Metal Carter Ah beh Questo senza ombra di dubbio Infatti ha coniato Un premio Anzi che posso dire Un capolavoro Ormai non è solo un cd No è altro È proprio È altro Davvero Non saprei Eccolo qui Eccolo qui Ora rientrerà Sarà crashato Facciamogli vedere L'emblema del pop Eccolo Abbiamo trovato L'emblema del pop Un regalo per te Numero uno Numero uno Metal Carter Numero uno vero Comunque vabbè Niente basta Volete sapere altro Sì però Non c'entra un cazzo Questo discorso Ah vai dimmi Visto che Silvione Si è ritirato Per chi tifi Dai mettila Nessuno Nessuno Visto che Silvione Si è ritirato Purtroppo Per chi tifi Come Presidente Della Repubblica Nessuno Sono contento Che Silvione Si è ritirato Così magari Vieni a muschio Io da anni Eh ce stai approvato È un casino Eh no Mi hanno pisciato Perché mi ha detto Eh sai Per il Quirinale Adesso Deve fare quello serio Tipo Tipo così E gli ho detto Vabbè Se ci vedete voi Il sogno Di una vita Ma tu vorresti essere Il nuovo Berlusca No No Ma come Come gestiresti Come gestiresti O gestirà L'intervista a Berlusca Io non ne sarei in grado Tipo No Sarà terribile Cioè È come intervistare Bonolis È uno di quelli Che ti È lui che ti intervista Te Cioè È impossibile È impossibile Da gestire È come Quando intervisti Fiorello Bonolis Gente che ha Un'expertise Talmente alta Che ti Ti mangia Sì però sono innocui Sono innocui Un politico Non è mai innocuo Un politico Non è mai innocuo Ma nel momento in cui È politicamente morto Non rischi di far danni Eh Cioè io non rischio Di far danni Lo sai che in realtà Oggi parlando In live da Ivan C'è l'opzione Che tra cinque anni In realtà potrebbe Ricandidarsi A maggioranza Destra Forse potrebbe essere Un candidato valido Mezzo cyborg È esatto Non lo vedo In formissima Mi sa che L'hanno pure Rigovernato Però lui ha detto Che si è ritirato Perché se no Avrebbe vinto Ma non sarebbe Stato in grado Di governare Così ha vinto No ha detto L'ho fatto Per l'Italia Questo è il mio gesto Di estrema Che sigma mail Assolutamente sì Vabbè Federici Hai rotto il cazzo Grazie mille Va bene Grazie ragazzi Ciao Guardiamo se In post di intervista Quindi Integrale Integrale A quanto vale Non ci stanno tagli Però ci hanno messo E postille Sì Quello Allora Prima non l'ho precisato Però io l'ho vista Interviste del Buon Dicare Solitamente sono già Registrate Cioè non sono live Quindi poi le monta Magari là C'è anche un accordo Con l'intervistato E mette degli spezzoni Che ne so Citano un altro artista Mettono il pezzo Fatto questo artista Penso abbiano fatto Una cosa simile Poi lui diceva Alcune cose Che mi smentiscono Non lo so Vediamo Ah bello polposo Due ore 1 e 45 Vediamo Quanto resistiamo Effetti magici Wow Eccoci qua Vediamo Vediamo Let's go Fedez racconta disumano Go Io voglio vedere Fino all'ultimo secondo Di questa intervista Di un'ora e 45 Madonna 47 secondi Eh sì Ma che è? Usci dalle 8 Fresca fresca No 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 Simone li metti indietro Per cortesia Allora Non facciamo subito Che sentiamo parti importanti Assolutamente no Volevo capire Quando iniziava Ma questa era la parte meglio Attenzione Ciao a tutti Ciao ragazzi Comunque grazie a Benedetta Che ci ha regalato 10 sub Non voglio interrompere Anche altri ma non mi ricordo Grazie a tutti Grazie a tutti Ricordo lo leggo Ok Allora non mi sarei mai immaginato Di essere qui Come del resto anche voi Ma come disse Federico Buffa Non è sempre tutto chiaro dall'inizio Altrimenti Van Gogh Almeno un quadro di vita L'avrebbe venduto Tra Fedez e me Come per tanti altri Non è stato tutto rosa e fiori Ma la verità È che nella vita spesso È meglio mettere davanti La sete di curiosità Rispetto all'ego E quindi eccoci qui Sto per parlare con quella Che è diventata probabilmente La persona più influente Della cultura popolare Questa è la cosa Che vi dicevo prima Qui l'ha fatto in live Solitamente mentre il voice over Se ascoltate l'intervista A Jay Ax Il mood è questo E quello che voglio dire È che lui ovviamente Dice nel corso del tempo Determinate cose su un artista No? Quindi l'ho detto pure L'altra volta Pietra di paragonia negativa Che sia Jay Ax Che sia Fedez Eccetera Poi ovviamente Non è che puoi Ignorare quello che hai detto Fino al giorno prima Una paraculata Una paraculata Però ce sta Dalla sua ottica Una giusta paraculata È corretto Il problema è che se ci fate caso Pure dal linguaggio del corpo È molto agitato Parte subito triggerato Mi vede agitato Quindi poi non si arriverà A questa cosa di cui parla Citando il buon Federico Buffa Che tra l'altro Sarebbe un top ospite Era fatto partendo dall'ambiente Che qui su S Raccontiamo tutti i giorni Tutti abbiamo visto E sentito di Fedez Ma allora perché Mi chiedo Dovrei avere ancora curiosità Nel voler parlare con lui Probabilmente Perché avere una finestra Sulla quale possiamo affacciarci In continuazione Non dovrebbe appagarci Ma dovrebbe Semplicemente per views Però è giusto Chiederci Cosa succederebbe Se scendessi E guardarsi tutto Quel che vedo Era più vicino Sarebbe ancora più bello O scoprirei qualcosa Che rovina l'idea Che mi ero fatto Era quella finestra Beh Stiamo qui Per trovare parte A queste domande Date il benvenuto A Federico Leonardo Lucia In arte fede Oh mio Dio Oh mio Dio Stammo lì Ragazzi Mi raccomando nei commenti Fate i bravi Non insultate nessuno Che gli stava a cascare Il succhino Leonardo Lucia In arte fede Oh mio Dio Poccolone Ciao a tutti Ciao Piegate le gambe Della paura Oddio Ciao a tutti Buona serata Ciao ciao Arriva il chat Come stai? Il sigma Il sigma Vediamo Grande Uli Ma non è detto Grande Uli Grande Uli Ha scritto Ha scritto N Ok Cosa avrà voluto dire? Che ne so No La giacca Tipo no Eh? La giacca Di Kele N Beh si Comunque non si guardano in faccia Fate caso Ah vediamo se c'è la cosa che diceva Simone Ah no Si è seduto prima di Kele Sì Ahia Errore già Errore da presentatore Errore da presentatore Sigma error Questo è sigma error Che fosse stato come gli americani Avrebbe L'avrebbe atteso in piedi Fatto accomodare E poi è seduto lui Comunque se ci fate caso Non si guardano Ciao a tutti Ciao Ciao a tutti Buona serata Ciao ciao Come stai? Dove sono i cecchini? Come stai Simo? Non glielo chiede veramente Come stai Simo? Capito Tutto bene? La classica domanda che fai guardando il pavimento Che non te frega un cazzo Marco? Neanche ciao Bene come stai tu? Non ci sono cecchini Aspetta Tutto bene? Mazza non c'è neanche un cecchino Vedi e poi neanche risponde alla domanda di Fedes Come stai tu? Capisci? Anche questo è una mossa comunque Perché qua ha detto dove sono i cecchini? Esatto Già cambia argomento come se non avesse Valenza A rispondere alla domanda di Fedes Fedes l'ha detto dove sono i cecchini E lui risponde tutto stunna Tutto triggerato Non ci sono cecchini qui Vabbè fatte una risata Ah non avevo sentito la domanda iniziale di Fedes Allora ho detto una cazzata Un po' di lereo c'è il resto Come stai? Dove sono i cecchini? Bene come stai tu? Non ci sono cecchini Tutto bene? Bene Allora adesso tiro fuori il cellulare che c'è le domande nel cellulare Voleva fare la battuta Fedes e gliela ha smorzata Non ci sono cecchini Distrutto guarda È un'altra cosa È un'altra mossa Cioè il tuo ospite fa una battuta E tu la proprio la annulli Nemmeno fai una risatina E infatti Fedes da che sorrideva Si è un po' annichilito Giustamente ci rimarrebbe male chiunque Significa che il mood è ostile Significa che sta impattando un mood ostile Più interattivi Ok Allora vi spiego A Federico farò vedere delle foto Lui ci dirà cosa ne pensa all'inizio E poi gli farò delle domande in relazione al tema legato alla foto Ok? Allora la prima foto la faccio scegliere a te Cioè? Vuoi sceglierne una? Ah scusami Allora vediamo Tanta roba Vai Tanta roba No è arrivato Sfere Basta Perché A un certo punto c'era Sfere Basta Spawnato Sfere Basta Al tempo di tanta roba Gu era comunque il front line Cosa ti fa pensare? Cosa ti viene in mente di quel periodo? In che senso il front liner? Era il fondatore Era il fondatore Sì Era la persona che comunque ci ha messo la faccia Ha detto Insieme ad Arsh Cosa ti viene in mente in quel periodo? Allora di tanta roba La prima cosa che mi viene in mente È il video in cui si parla della fondazione Di tanta roba E in quel video siamo C'è DJ Arsh Guepequegno E Fedez Siamo in tre DJ Arsh Con la firma Di Fedez Con la mia firma Per celebrare la nascita di tanta roba Un nuovo marchio Indipendente totalmente Che parte dall'esperienza Diretta Nel settore Sta su Saturno Però vedi In questo caso A supporto di Fedez In questo caso Il contributo Che invece va a favore Di quello che ha detto Ha fumato Nel senso Conferma la realtà Sta tutto dume Appare cane secco Era finito di fumare Ha detto tanta roba Tanta roba Da lì è nato il nome Quindi dal nostro mondo Per il nostro mondo Senza personaggi discutibili Che dicono all'artista Fai questo Pap Cerbero Vero Il Cerbero Del regno del Bubolus Era Il regno del Bubolus A un certo punto Ha avuto Tutti C'è stato un momento In cui c'era C'ero io Salmo Jamie Tights Madman Troop d'Elite Troop d'Elite Wow Top Troop d'Elite Dove stavano Ernie e Gali Ernie e Gali Ottimo Forse anche Anzi Per un periodo Anzi Bravissimo E basta Tutto con un nido Che vero La prima cosa che ti veniva in mente Pensando a quel periodo storico Questa cosa È una fase della mia vita Una fase della mia vita In cui avevo L'opportunità di scegliere In quel periodo storico Nel rap Se tu volevi Intraprendere Una strada Mainstream C'era solo un'opzione In quel periodo Che era Paola Zuccar La stessa Paola Zuccar Che nel libro Di cui mi dimentico il titolo Rap Molto semplice Si chiama Rap Sì Nel titolo Rap In cui erroneamente Ci sono dentro anch'io Anche se non dovrei esserci Lei sostiene Che io non Lei non mi voleva firmare Cioè che io volessi andare da lei E non volessi firmare E lei non mi volessi firmare Cosa che purtroppo Non corrisponde a verità Nel senso che Ah ti faccio questa domanda Questa è pazzesca Indovina Il primo rapper Che mi ha proposto Di firmarmi E qua gliel'ho fatta apposta Perché? Perché Marrakesh Infatti Dikele svia Non risponde Ma in realtà è informato Dikele lo sa benissimo Perché se c'è Greve De non la sapevo Perché l'avevo già vista In tutta l'intervista Marra fu il primo In tutta Sì Così dice Fedez In tutta l'intervista Fedez cercherà Di parlare Di Marrakesh Invece Dikele farà l'opposto Quindi già parte Perché ricordiamo Lavorano insieme Com'è che Dice un po' Che non mi ricordo Allora Quello che è dichiarato Dikele e Marra Dikele cura A quanto pare Una parte Diciamo Della comunicazione Di Marrakesh Questo è quello che è pubblico E vai prova Il primo rapper Che ti ha proposto di firmare Che mi ha proposto Di mettere nella sua etichetta Come si chiamava la sua label? E se te lo dico Lo capisci Scusa Dimmi come si chiamava Marra Marrakesh In Roccia Music Roccia Music Io sono stato contattato In primis da lui Successivamente da Paola E a un certo In che anno? Io con gli anni Sono una pippa Era appena uscito Prima che sei entrato In tanta roba Era uscito Tutto il contrario Era uscito Tutto il contrario Andai in studio Da deleterio Loro avevano Questo studietto In vicino In zona papignano Sì In un Piano interrato Piano sotterraneo E Scusami Mi proposero Mi propose Prima di fare La collaborazione In Roccia Music E poi ipoteticamente Di firmare Per questa etichetta E tu cosa hai risposto al tempo? In realtà poi Arrivò un momento In cui Avevo più opzioni Nel senso Paola Voleva firmarmi Anche perché La cosa divertente di Paola Dice Io abbiamo solo prodotto Cose rap Noi Poi vai a vedere E c'è dentro anche Moreno Non ho capito se mi hai detto Che hai rifiutato Roccia Music Quindi Ah vedi Queste sono le cose Di cui parlava Fedez La labor di Margesh Chablo Roccia Music Nasce in ottobre del 2012 La firma di Fedez Con tanta roba Venne annunciata Il 14 Una sbucciardation Temporale Quindi è prima Ok Se l'hanno scritto Sarà vero Poi secondo me In questo caso ci sta Se dice imprecisioni Correggi Sì però appunto Queste imprecisioni Hanno delle implicazioni Capito E questa è la cosa Cioè La volontà del giornalista In questo caso Di Di Kele È appunto Poi non so se l'ha curato lui Queste slide Ma penso di sì Da produzione Andiamo per scontato In quel caso Tu hai la scelta Se sbugiardarlo Su una cosa Che magari Si è ricordato male O ha detto Volutamente male Ok E questa cosa però Cioè Questo sbugiardamento Implica che ha detto Una cazzata Che sta mentendo Sulla sua carriera Cioè non è solo Una svista di date Cioè A peso Questo volevo dire Non è una semplice slide Però il fatto che lui Sia stato contattato Là non ti puoi sbagliare Là è una cosa Che ti ricordi Il fatto che sia stata Questa slide Quello che sto a pensare io Significa che È solamente La cosa temporale Magari pure se non c'era Rocha Music Però era stato comunque Contattato da Marrakesh Prima Non è che se tu dici Rocha Music In realtà è stato fondato dopo Lui l'ha detto prima Non è che Significa Che non è accaduto Che è stato contattato Non per forza Però tu che leggi la slide Ma te lo ricordi Sì ma Cioè Tu magari Te può succedere Dai che magari Dici oh 2015 o 16 Che magari Ti vai a sbagliare Però se ti ha contattato Realmente Che è stato il primo A contattarti Quello te lo ricordi Ed è sicuro Che è così Non ti puoi sbagliare Marrakesh Era Marrakesh Quindi per quello dico Sta cosa Però intanto Intanto l'ha smentito Perché è sicuro Vero quello Che è stato scritto qui Però è usato Quasi come Può essere Che non è vero Qualcuno Lo può Lo può credere E secondo me Sbagliando Potrebbe anche Secondo me Aver sbagliato Il discorso Di Rocha Music Perché lui dice Sono stato contattato Da E di che le fa Rocha Music E non aggiunge altro Quindi magari Non era Ancora Rocha Music Non lo so Per quanto riguarda Le slide Ragazzi Allora Già ve l'ho spiegato Prima Solitamente Lui fa le interviste Montate Ok Quindi è chiaro Che alcune cose Le puoi tagliare Le puoi programmare Ti puoi stoppare Quindi no Fermatevi un attimo Facciamo il fact checking In questo caso Essendo live Perché loro l'hanno fatto In un teatro Ci sta a mettere Alcune postille Secondo me Poi Ecco l'intento Quello poi Lo lascio a voi In senso Uno potrebbe pensare È fatto apposta Per sbucciardarlo Altri potrebbero dire Beh però Si ha detto una cazzata È giusto Correggerlo Quindi questo Non lo so Lui l'ha detto Sono a bippa Con le date Ci sta pure Sbagliare Su queste cose Non è una cosa grave Non è che stai Sbucciardato Una cosa Però rimane il fatto Che si è Sbagliato con la data Poi lui ha detto Ah Rocha Music Lui ha detto Sì Magari non era Quel periodo Però è stato Pur sempre Contattato Si è sempre Da Rocha Music Eh vabbè Però Cambia magari Il nome Da azienda È stato contattato Da Marrakesh Per sempre Quei fini lì Rimane comunque Il fatto Concetto No non è che Dire ho rifiutato Rocha Music È sbagliato Diciamo Ho scelto Tanta roba Ho scelto Di creare Una nuova opzione Era interessante Non prendere Solo quella via lì Anche perché Quello che notai io Di Paola Fu la prima persona Che mi insegnò Le ripartizioni Della CIA Delle edizioni Però sono due cose Per fare chiarezza Sono due cose separate Rocha Music Io usci dalle otto Ragazzi Sì sì C'era Marra E c'era Paola Erano due cose Due cose separate Oh vedi Allora lui in Marra C'è un'intervista Se l'ho andato a cercare Di Fibra Nel periodo in cui Insomma Paola voleva firmarmi Dove Fibra dice La nuova promessa Del rap italiano È Vedez Sacrilegio Quindi a un certo punto Io dovevo Avevo queste due proposte Cioè in realtà Inizialmente mi proposi io La stessa diretta ha detto Che fu lui in realtà Proporsi a Paola In effetti Sono tante Nel senso Anche in una diretta Su Twitch Dello scorso anno Ha affermato Che Paolo Zuccheri Gli proposi di entrare In tempi duri Che quindi aveva diverse Strate sul tavolo Tempi duri Tanta roba Avevo queste due proposte Cioè in realtà Inizialmente mi proposi io E la stessa diretta ha detto Che fu lui in realtà Proporsi a Paola Appena riuscì tutto il contrario In effetti sembra un po' Tipo Un'inchiesta E Fedez Stati tutte cazzate E noi ve lo spieghiamo Con le schedine Interrogatorio pure Se sbaglia così tante date Crediamo a quello che dice Guarda Sai qual è il discorso Secondo me Se tu Ti prepari un'intervista Di questo tipo A questo punto Lo smentisci in live Bravo E ascolti la tua risposta Perché magari Ti puoi dire Ah cazzo Mi sono sbagliato C'è ragione Oppure contina una menzogna A quel punto lo sbucciarti Farla a posteriori È un po' un'infamatina Esattamente Quello che stavo pensando Perché è un'arma Che è unidirezionale Cioè ce l'ha solamente Chi è lost Le devi fare in live È giustissimo È un po' un agguato Sono d'accordo Sì perché sono capaci tutti Allora noi facciamo le live Poi su YouTube Facciamo tutte le postille Che vanno a smentire l'ospite Tra l'altro Stiamo parlando di cose gravi Non è che ti fai Dio lo sbucciarti Perché ha truffato Ma è l'intento È una cosa Magari mi ha contattato Prima quella persona Però nel 2010 Mi aveva già detto una cosa Ma sì È un po' per screditare Cazzatine no Sì è un po' per screditare Però la valenza Di quello che dice Fedez Più che altro perché Che pronunzia Così Non l'ha mai fatto Tichelle Questo ve lo posso assicurare Così Mai successo Cioè solitamente Sono interviste molto Molto stile Montemagno Le sue Ogni tanto Direi frecciatine Ma solitamente le tira E non presenti Ripeto Oppure mette la postilla iniziale Tipo con Ax Poi a un certo punto Un'intervista Gli lo dice pure Tipo io non sono mai stato Un fan della tua musica Lui fa grazie Però vabbè In generale Così mai Un pavido Un pavido Mi ricordo Però era appena uscito Tutto il contrario Lei mi disse Dai vediamo come va E io mi ricordo Che le mandavo delle email Dove le facevo vedere I live che facevo Le cose Però è anche vero che Un bel periodo No dico di quel periodo lì La cosa che bisogna mettere È il fatto che Eri diverso da oggi Nel senso che Beh tutti credo Che siamo diversi da ieri Sì No dico però Anche per quello che eri Nella scena Io ricordo che eri comunque L'astronascente Affrontavi anche Il rap in una maniera diversa Da come lo affronti oggi O sbaglio Sì Fortunatamente Sì Nel senso che si cambia Sì sì No io dico che magari Al tempo Forse per gli artisti Potevi risultare Una cosa nuova Fresca Da poter Inclobare Includere Poi tu hai fatto Delle scelte Durante il tuo percorso Che gli hanno fatto pensare Ma io credo La domanda Dal punto di vista musicale La domanda Gli assoluto Non vale più un cazzo Una domanda Altra tecnica Bellissima Di Di Kele Ragazzi L'altra tecnica sua E cerca sempre di Domanda Allora dirti cose provocatorie Che ci sta anche Però Come se volesse Passare Per uno Che no ma Non ti sto chiedendo Del dissing Con questo Però dimmi Cioè esattamente Ah Jax Mi ricordo Perché l'ho rivista Poco giorni fa Quindi ve la cito Perché è perfetta Gli fa la stessa domanda Che farà Fedez Perché me lo ricordo A un certo punto fa Come mai tu litighi Sempre con le persone Con cui lavori Jax Lui fa boh Che cazzo le so Nel senso capita Nella vita Qua fa la stessa cosa Sì Tipo hai litigato Con quello Con cui stavi Qui articolo Poi ha litigato Con Fedez Cioè fa sempre Queste cose Però Non te lo dice Esplicitamente Capito Sì 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 È sempre Questo meccanismo Implicito Molto fastidioso Molto Secondo me lo posso dire Viscito Subdolo 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 Pop Se tu senti Se tu senti un brano Se tu senti un brano Come ti vorrei dire Che è contenuto in penisola Che non c'è È un brano Pop È un brano Rap Ma sempre molto largo Sempre molto pop E le parole scivolano No ma queste cose Io pure mi c'entrippo un sacco Sono interessantissime da esaminare Specie per chi fa il nostro lavoro Capisci tante cose Poi la maggior parte delle cose Sono involontari ovviamente Sono Certo che sono involontari Quasi tutte involontari Se non sono Cioè se sono volontarie Perdono di significato Cioè se lo fai apposta Però Perché il film Certo doveva semplicemente cagare Questo vale più del concetto Ok Se tu canti Io ai tempi cantavo Vi ricordo Il palco più grosso Che avevo a disposizione Era Leoncavallo È uno dei palchi più belli Che ricordo con più piacere Fare ti vorrei dire A Leoncavallo Assume un senso Farlo ad amici di Maria De Filippi Ne assume assolutamente Però ti faccio una domanda Hai sbagliato però Definire un artista come Drake Rap Non mi sono mai interrogato Sulla questione Devo dire No però dico Sei una persona molto intelligente Comunque i generi esistono No? E Drake è un artista Che comunque fa Il nome di pop Io credo che i generi esistano Per chi deve raccontare la musica I generi esistono Perché l'abbiamo deciso noi Che esistano i generi Perché non riusciamo A concepire un qualcosa Senza categorizzarla In realtà esiste La musica E gente che prende strumenti E fa musiche Diverse A seconda anche Di varie influenze Che ha avuto Dargli il nome È una cosa che viene dopo E ancora nel 2022 Interrogarsi sul genere Di un artista Che crea musica Secondo me È ridondante Simone Ma se io metto Il mio brano Su Spotify Dove c'è Stanno tutte e quante cose Dentro Trash metal Industrial Cazzo ne so Guarda Sto discorso Oppure quello dove Arte performative Musica corale A me interessa molto Questo discorso Perché si può applicare Pure al cinema Io in musica Non capisco niente Però è detto una cosa corretta Solitamente si valuta dopo Anche in base al contesto storico Certo Tu vedi In quel contesto storico Magari Determinati Stilemi Di un genere Sono stati Ivesi da vari autori Nel 69 Uscirono articoli Tipo Il nuovo disco Del gruppo pop Che tutti amiamo Quel gruppo erano I King Crimson E usciva In the Court of the Crimson King L'album prog Per eccellenza ormai No? Però veniva chiamato pop Certo Ignoranza Perché era musica popolare Quando nasce un nuovo genere Cioè Si devono trovare anche termini Sì Si sta Poi Come ha detto anche Fedez Effettivamente è più un lavoro Magari degli analisti Però Solitamente si fa sempre Post Sì Cioè l'artista Non penso ragioni No C'è pure chi lo fa C'è pure chi lo fa Magari uno dice Guarda io amo il genere slasher Questi sono i canoni Del genere slasher Li ricalco Li distruggo Come nel caso di Scream È un'operazione ponderata Che ragioni anche sul genere Sì Quindi che ne so C'è il cappellaccio C'è il guanto L'inquadratura di questo tipo Però lì ci gioca sul genere Ci gioca sul genere Non lo scimmiotta Non è che cerca di replicarlo E basta Fa una cosa in più C'è anche chi lo fa Ma secondo me Si sente quando un artista Si forza a fare qualcosa Cioè si riesce a percepire Un'opera d'arte genuina Che è nata solo perché Doveva nascere E una invece che è nata Con l'intento già di Devo fare la canzone pop Devo fare questo E a mio avviso Non escono spesso cose Degne di nota Quando si parte già Col presupposto Io mi ricordo per esempio Quando parlarono del Body horror Cioè Il body horror Un sottogenere Che crearono appositamente Per Cronenberg Poi Messo anche su altri registi Tipo Brian Hughes Il body horror Cioè l'horror Del corpo Ma chi coniò questa cosa Non mi ricordo Un critico Ma non ne ho idea Però Ragazzate da critici Si Sono cose così sottogenere Un body horror Cazzo vorrei dire Vabbè Però capito Vale tanto quanto dire Horror Slash horror Cioè nel senso Se avessi attecchito Come definizione Ora avremmo i film Body horror Magari Ci sembrerebbe Normale Chiamarli così No no ma Ci sta ripeto Per chi analizza Perché magari Tu scegli di dare Questo termine Da critico Da analista Per Che ne so Definire Certi canoni Che Cronenberg Ha utilizzato Quindi Molto Un grande parallelismo Tra sessualità E horror Enfasi proprio sul corpo Sulle viscere Eccetera Però non è che Cronenberg A mo' la fa Body horror Cioè faccio un film Nel senso Io ho un esempio Dove invece Un artista Un artista Si è inventato Un genere Per sembrare Più originale Io mi ricordo Di Blue Vertigo E Morgan Nel primo album Andavano a dire Che loro facevano Blob rock Blob rock E gli intervistatori Oh ma che significa Se fomentavano pure In Mind Alla fine Già dal secondo album Hanno abbandonato Di sta cazzata Era solo un espediente Ma è giusto Un chiave di marketing Alla fine Lo utilizzi Andiamo avanti Possiamo fare anche Un discorso ogni tanto No se no vediamo Non dimo niente Le parole sono importanti È giusto Perché mo c'ho voglia De fa un pezzo blob In un film body Non avendo alcun interesse Nel fare il critico musicale Non mi interrogo più di tanto Però se tu domani Dovessi andare all'estero E ti dovessero chiedere Che genere fai Cosa risponderesti Pop Pop Sì Io faccio pop E nel pezzo con The Supreme Tu fai pop o fai rap No Lì mi hanno detto Che ho fatto drill Ma io non sapevo neanche Che cazzo fosse la drill Pensavo a te Ho intervistato Ho intervistato Capo Plaza E mi ha detto Oh bro No My Slime Hai fatto la drill Io faccio Wow Non so cosa cazzo sia Io questa cosa Dico che la drill È un sottogenere del rap Ho capito Ma non Non mi interrogo Su cosa sto facendo Lo faccio No no Sì sì Giusto Io capisco quello che dici Che non ti interrogo Su quello che fai Però Credo che sia anche giusto Però contestualizzare E dire che comunque Quello che tu hai fatto Anche con i primi dischi Era rap Questo lo fanno i Goblin Gli sfigati proprio Quelli che non riescono A fare un cazzo E quindi devono trovare Il nome alle altre cose Che fanno gli altri No quello è quell'altro Quello è quell'altro Bravo Questo è nero Quello è celeste Grande Grande contributo Lo so I critici Lo so Però nel senso Lui lo fa con arroganza Da quello che vedo tu No E comunque non tutti i critici Però veramente Lo faccio pure io Con le pelli Cioè tu non hai Delle scarpe Che indosso Certo In che senso Eh la mattina Le distinzioni Invece no Perché uno va al mood Più che altro Utilizzare Va all'arcoballetto Utilizzare un genere Per insultare implicitamente Un'opera Tipo ah Quel film è thriller È come dire Quella canzone è pop Quella non ha senso Non avviene molto nel cinema Magari vabbè Dici film trash No vabbè c'è il film Magari blockbuster Però io ho sempre fatto Sta distinzione Blockbuster Significa per forza Una merda No assolutamente no Come pop Come pop Assolutamente no Cioè Cameron ha sempre fatto Blockbuster Terminator Bella merda infatti Il 2 è blockbuster Alien Cioè Aliens è blockbuster Tu arrivi Anche dalle battaglie freestyle No? Vengo dalle battaglie freestyle Quindi c'hai la radice rap Ma io vengo da quel contesto Io non rinnego Io non ho mai rinnegato Di venire da quell'ambiente lì Semplicemente Ho fatto la gavetta Rap Una gavetta Che oggi non si fa più Non che necessariamente sia migliore Non voglio fare il vecchio Con la sindrome Della guerra del Vietnam Del veterano del Vietnam Però Una gavetta diversa Dove il rap si faceva in strada Si andava Si prendevano i treni Si andava a fare le gare di freestyle Era completamente diverso Però Non sono mai stato rap Guarda Te l'ha detto Ho visto Tipo stasera ho visto Zanna Hai intervistato Zanna Della Block Records Che dice Noi avevamo Fedez In blocco Che chi da Inquadratura Mi ti è piaciuta St'inquadratura Da spionaggio Nel backstage Se lo pensai regista Voi c'è questo Cazzo ti fa Grazie Sì Abbiamo resi conto Loro non mi volevano Cioè io ero lì Perché ero amico di Emiliano Che si ricordo quel periodo Loro non apprezzavano No è il pop del Cecchino Di penisola che non c'è Quindi secondo il tuo ragionamento Io ero rap duro e puro In quel periodo Vero Per loro non lo ero Per loro facevo pop E di conseguenza Essendo loro molto integralisti Nel rap Non avevano compreso Il mio potenziale Non so dove dire No io ti dico Personalmente Trovo l'affermazione di Zanna Non corretta Nel senso che io Ti ho sempre considerato Invece un artista Rap Che comunque aveva Legittimo da parte tua Che comunque aveva Delle influenze Un po' più larghe Poi sai Era anche un periodo storico In cui eravamo anche Un po' più soggetti Dalle radio Quindi serviva Il singolo pop Con il ritornello pop Però nella tua attitudine Nel tuo modo di fare Comunque c'era Un atteggiamento pop Chi erano i tuoi produttori Al tempo? Al tempo di cosa? Tanta roba Al tempo di tanta roba Era il periodo Dove Mi producevano un po' tutti Perché Allora Aspetta Penisola che non c'è È prodotto da un produttore calabrese Che si chiama JT Era un mio amico Un mio amico JT E avevo fatto tutto con lui Perché Penisola che non c'è Nasce senza tanta roba È un disco autoprodotto Dove non mi conosceva Un cazzo di nessuno Sostanzialmente E Con quel disco Sostanzialmente emergo Dopo di quello Io entro in tanta roba E faccio Poi tanta roba Attenzione Tanta roba Era un po' una quinta cinematografica Poi in realtà Il contratto era con Franco Godi Cioè Era un'etichetta Ma non era un'etichetta Era una crew Si può dire Magari un po' più corretto Ma Sì Era una crew Un collettivo Sì Era un collettivo Mi sono perso No Il tema dei beat Dei produce Perché Mi aiutava E un po' tutti C'era Don Joe Mi ricordo Il primo disco era venduto Ero in studio con Joe Second Roof Tante persone con cui Cioè Ho collaborato anche recentemente No no Dico solo che sono tutti produttori Comunque che Fanno rap Lo chiederti una cosa E Six p.m È proprio È fissato Su questa cosa Deve arrivare a questo punto Cioè Dimmi che fai rap Porco Dio Cioè Questo sta pensando Di quello che ci fanno con te Quelli Sì ma poi Nel senso produttore Penso Cioè Possa fare varie cose No non lo so Boh È fissato No regà Non sto a dormire Cioè sto a Guardare 13 minuti Per arrivare alla conclusione Dimmi che fai rap Stronzo Sì sì Cioè È questo Il tipo di conduzione Intervista che detesto Anzi Ma sto qui con molto interesse È proprio quello Cioè Devo arrivare a questo punto E da quello Devo farti altre domande Finché non arriviamo Rimaniamo qui Ma non fai esclusivamente rap Cioè Se dobbiamo veramente Ragionare a generi Io Fedez direi che è pop Ma proprio se so costretto A catalogarlo Fine Ma perché appunto C'è sempre sta cosa Che ammettere di essere pop Equivalga a una sorta di disonore Per questo che non si arriva al punto Tanto se dice rap Lo blasta Perché non fa solo rap Sì Se dice pop Lo blasta Perché c'è questa Convinzione erronea Che essere pop Sia un disonore Non se ne esce Sì La genialità argomentativa Che aveva già creato Probabilmente Sì Esatto Era una Lost lost situation Esattamente questo Metal Carter è pop No Metal Carter è naif Naif È outsider music Cercate No no Non nemmeno scherzo Cercate su youtube Outsider music C'è un Un video saggio Che parla proprio di questo Sottogenere Molto sconosciuto Di quelle persone Che fanno musica Ma non so bone Ma so street edge Non è che non so bone Ma so street edge No 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 È un tipo No Non è che non so bone È un tipo di musica Altamente fuori dai canoni In cui ci troviamo dentro Che ne so Un Domenico Bini Un No ma anche Ma parli del tuo video Che mio video Non parli del tuo video Della musica Dei tipi strani De internet Io l'ho fatto un video Sì su quella cosa lì Ma c'è anche Akuma In questa L'Outsider music È musica Che in teoria È inascoltabile Per la popolazione Ma che in realtà C'ha un cult following Diciamo di appassionati Tipo The Room Tipo i film The Room Ma non solo gente Che non è buona Tipo Akuma O Bini Anche gente Che comunque Ce l'ha un po' Un'infarinatura Ma che comunque Fa musica totalmente Fuori dagli schemi Vabbè che non è per forza Un male No Ci sono anche artisti Bravi Ci sono delle perle immagino Sì tipo quello lì Un esempio di Outsider music È quello lì Che sta con l'ukulele Tutto scheletrico E fa Dio che paura Come no Che è una canzone Che a me fa Impazzita Questa gente Di cittadrana Che sono degli outsider Bravo Marco Insidious è là Che l'ho scoperta Che mi ha messo Un'ansia terribile Oh Highmark Aveva funzionato benissimo In quella scena là Tulipan Sì 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 Tulipan Dio che paura C'è anche un esempio E taccio Dopo questo In the window Approfitto che si parla Di musica appena a porta Non mi ricordo Infatti Aspoltiamo Un esempio perfetto Di outsider music È un album Che addirittura Venne citato Come tra i preferiti Di Kurt Cobain E se non erro Anche di Frank Zappa Un album Fatto da Tre quindicenni Ragazze Negli anni Sessanta Costrette dal padre A registrare Un album In una settimana Senza che queste tre Sue figlie Avessero mai Imbracciato uno strumento A uno gli ha dato Una chitarra A uno gli ha dato Un basso A uno gli ha dato Una batteria Senza aver mai suonato nulla Registrato un album Perché c'avevi i sordi E queste hanno fatto Delle canzoni Così al di fuori Della concezione umana Che viene chiamato L'album di genesi Di questo genere Diventa una cosa interessante E diventa interessante Perché Kurt Cobain Diceva Che quell'album Ti fa ascoltare Veramente un tipo Di creazione Inalterata Dalla teoria Dall'esperienza Una creazione pura E genuina E catartica Ci sono delle canzoni Assurde E niente Ed è per questo Che non bisogna Screditare No 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 Assolutamente Akuma E anche Metal Carter Capitan Bifart Vabbè già per ora Più costruito Bifart Vabbè era mezzo genio Però sì Andiamo Pure lui potrebbe essere OutSider Music Pure Capitan Bifart Matrice rap Dico che comunque Un produttore No magari sbaglio No sì Non capisco dove vuoi arrivare Però vabbè No che per me Cioè Però io ti Ti ritengo un rapper Questa è la cosa Che ti volevo dire Vabbè non so se dirti Grazie o meno Lo accetto Ma secondo me È più interessante Comprendere Cioè Se gli altri artisti Mi reputano rap Perché Mi fa molto ridere Che ne so Adesso è uscita Un'intervista Di gue pequeno Dove dice Il rap è stagnante E poi parla Ovviamente parla di me Dopo Ma E poi però Se guardi le interviste Prime dice No sono E parlano di me Che Fedez La parte Speriamo di no Chissà Chissà Ovviamente il suo contenuto È libero di fare quello che vuole Bella domanda Il VOD qui Sì Rimane Gli abbonati E mi sento di fare pop E mi sento di aver fatto sempre pop Ok Va bene Ho il nome di quell'album Si chiama Philosophy of the World Quindi la filosofia del mondo Delle The Shags S-H-A-G-G-S Tre sorelle Nel 69 Ma io ho sentito questa Sono state citando in qualche film Eh sono famose Eh Porca troia Ma veramente Che anno è? 69 Curioso Ok Molto curioso O ce penso Chiudetti una cosa su gue Ve lo chiudetti Rimanendo sempre sul discorso Tanta roba Stando vicino a lui Che cosa hai imparato? Una cosa che ti viene in mente Che hai imparato Stando vicino a lui al tempo Ma non siamo stati così tanto vicini Nel senso che Eh Io di lui ho ricordi Di un tour fantastico Abbiamo fatto un tour insieme Noi ci siamo divertiti un sacco Eh Cioè il ricordo che ho di Cosimo Attualmente È che non Non capisco Non lo capisco Perché Eh È salito sul palco con me A San Siro Ci siamo abbracciati Abbiamo Cantato insieme E poi è ritornato Ad insultarmi E quindi non ho Cioè ho un ricordo buono Io delle cose Che abbiamo fatto insieme Poi quando sento le sue Sparate su di me ogni volta Rimango un po' Un po' attonito Cioè ti faccio l'esempio Dell'ultima Sì Tanto che siamo qua Almeno No vai vai Le tiriamo fuori Sì Nell'ultima intervista Cosimo dice Nel rap Cioè nel rap Quindi mi incanala nel rap C'è chi sta barando C'è chi sta barando Facendo beneficenza E qua scrivono Per disumano Una delle attività Di marketing sul disco Ha previsto la devoluzione In beneficenza Di una percentuale Da ricavata Del disco Un centro di rehabilitazione Per bambini Cavoli Ok E poi però Nel disco di Cosimo La strategia di marketing Sul disco è Chi streamma di più Ragazzi Streammate tantissimo Compulsivamente Che vincete L'omino Di gue Vestito da Gesù Cristo Qua però mi sa che hai detto Una cazzata Perché infatti me la ricordavo L'attività di gue Lo Spotify prevede Che i fan Che negli anni passati Hanno ascoltato Di più gue Potessero avere accesso A un'edizione speciale Del nuovo disco Che comprendesse Un action figure di gue Invece Fedez Dice un'altra cosa Dice più stream Non è proprio La stessa cosa Fatta più semplice Fedez Secondo me È più un omaggio Ai fan Quindi qua Tocca essere sinceri Però beh Come si decretano Tutti questi fan Cioè in base Li ascolti su Spotify Passati forse pure Boh Non lo so Perché vedi Negli anni passati E ho capito Non lo so come è Veramente qualcuno Ha fatto una stima È come se qua su Twitch Possano Mettere a vedere Il minutaggio De quanto è Le persone Se sono guardate In una live Tu magari hai Una top 100 È ovviamente Un po' uno scam Perché io posso essere Anche a numero uno Di gue E mai averlo ascoltato Su Spotify Vabbè Quelli che hanno sostenuto Come quelli che c'hanno Il sub da tanti mesi Che ne so Sì ma Per noi c'è un modo solo Per sostenerci Che è il canale Twitch Per sostenere un artista Ovviamente non c'è solo Spotify Però vabbè Una collaborazione con Spotify Quindi è ovvio Ma qua si sta parlando Una cosa speciale Sì ma è fatta Da chi ha ascoltato Che più C'è L'omino Di gue L'automod Ha levato Induce però Ad ascoltare Il più possibile Induce L'automod È stato Cerbero bot mod Non c'è tra niente Il duce Per difendere Fedes Potrebbe essere Che magari Gue Ha annunciato Questa cosa E delle persone Sono messe compulsivamente Ad aumentare I loro ascolti In vista dell'uscita Dell'album Magari Non dobbiamo per forza Difendere Fedes No Lo so che non dobbiamo per forza Però mi è venuta in mente Una possibile difesa Nel senso Gue ha annunciato Guardate Chi ha ascoltato Tutte Cioè i miei fan più accaditi Su Spotify Vinceranno sta cosa Molti hanno detto Vabbè allora Mi metto a ascoltare Lascio il computer Acceso E mi ascolto a ripetizione Tutto Ora ha detto Negli anni passati Semplicemente Sì sì ho capito Quello che dice È però Se lui non sta così Cioè se lui l'annuncia Uno dice Cazzo Vabbè Devo aumentare Le mie ore Per vincere I prossimi anni Certo Sì 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 Secondo me Allora perché Fedes Qua ha detto Gue nell'intervista Ha detto che io baro Perché faccio tanti streaming Ad esempio in questo caso Con un marketing Basato pure sulla beneficenza Che è una critica Che ci può pure stare Alla fine Dici vabbè Usi Altri mezzi E lui in questo caso Dice tu hai usato Quest'altro mezzo Del pupazzetto Poi due fan story Alla fine Torniamo sempre al discorso Dell'altra volta Sul marketing Cioè sta che non piaccia Gue secondo me Non è un problema Lui dice bara Perché dopa un po' Gli ascolti Tra virgolette Cioè che dicendo Che lo dai in beneficenza In voglia a comprare Non a fare più successo Sì La domanda è Fa male? No Non fa prettamente male Assolutamente Se avesse detto Più ascolti fai Più muoiono bambini In Africa magari Sì Fa male? No Fa qualcosa di male? No Può farlo secondo me Sì Può farlo Una cosa per la quale Magari rosicherei Che vengono messi in paragone Magari altri artisti Che non fanno sta cosa Automaticamente diventano Dee merde Capito? Lo fa Fedes Tu non lo fai? Questo sì Potrebbe essere una deriva Un po' di merda Però lui può farlo Nel senso Non ci vedo nulla di male Di per sé Guè ha fatto bene Perché marketing Sarebbe barare? Ah ma infatti L'ho detto prima È marketing Poi dall'ottica di Guè Dice questo modo È barare Per fargli ascolti Ah Non è corretto Non è chi streama di più Vince l'omino di Guè No No ti corretto Vai Con Spotify L'operazione che ha fatto Island Era I follower E i fan di Guè Che avevano ascoltato di più Il disco negli anni Avrebbero avuto la possibilità Di poter acquistare il disco E ricevere il regalo L'omino E non è chi streama di più Vince l'omino Mi sembra esattamente La stessa cosa No Mi sembra Ok 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 Però vabbè Tu lavorando con lui Lo saprai meglio di me Ma io non lavoro con Guè Ma al netto di questo Ok Con Island No vabbè scusa Perdonami Non volevo E Al netto di questo Però non capisco Il nesso tra la beneficenza E lo streaming Cioè Come posso io corrompere Facendome l'efficienza Barare Cioè nel senso In che senso io sto barando Io ho una fondazione Con cui porto avanti Da un anno e mezzo Ormai Delle attività E per me Il disco Era un'occasione Per poter portare avanti Delle progettualità E su questo siamo d'accordo Però non capisco Il nesso con lo streaming Cioè non capisco Non capisco Il nesso con l'attività Di quello che è Io cerco di interpretare Ciò che dice Guè Pechegno Ok Se qui dice Fedez Facendome l'efficienza Vuol dire che io sto Contaminando Un attacco Hager Rimetti un attimo L'ocità normale Ma che è Oddio Stava a due pera Buff Perché a due pera Cristo Mi fa ridere Ma credo sia così È la stessa Non so Non voglio dire Che sia peggio Ma mi sembra Molto Sì Non so come spiegarlo Meglio di così Non so come Ok era chiaro Ok Andiamo avanti Ma andiamo avanti Fai tu Ma che è Ma che è No non stiamo a fancazzo E ti si mette da solo È un bug Andiamo avanti È incredibile Grazie Fai tu Fai tu Fado io Marco Marco Che stai a fare Ma che stai a fare Perché metti Niente Ma come faccio Oddio no è tutto buio Ma dov'è Ma io così Non so se Lo state a fare posto o no 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 Però 1.25 sarebbe Ma andiamo avanti Che stai nel bot game Che lo chiede la chat No penso siano degli agri L'hai velocizzato fino a mo Non metti la 2 per Mettila 1.25 Ma non posso farlo da qui Non so Ma come hai fatto Non lo so Andiamo avanti Prossima foto Vuoi scegliere tu o scelgo io Fai tu Fai tu Fado io Bravo Marco 1.25 Così almeno possiamo Solamente l'ho fatto Figuro Oh Friends Perché Friends Friends Non so cosa dire Ok Ah conosco Conosco Jennifer Aniston Sì La conosco Ci iscriviamo E per questo No no volevo Se ti ricordavi di questo periodo storico Friends a serie C'era qualcosa che ti avevi in mente È Jennifer Aniston Che ci parliamo su Instagram La saluto Ciao Che Chad Ha preso una foto Che sperava che gli risvegliasse qualcosa Che invece nulla Vabbè O magari il suo gruppo di amici L'evocazione Hai amici È la domanda che vi dicevo prima Perché li dica con tutti Perché li dica sempre con tutti Quando pensi alla parola amico Chi ti viene in mente Luis Che è qua Eccolo lì È una vera Eh raga Ah e prima dicevate tutti Marco Rimetti a uno Rimetti a uno Rimetti a uno A uno Hai cambiato molte persone Che vivi attorno negli anni No? Prima chiedivano il contrario Marco Porco Dio Non parlare Mentre parlano loro Dai che se no Ce la mangiamo La terza è infattibile Siamo qua finale 6 Non sono io Guardi che aumentiamo il nero Che senso No no Dietro dietro Aumentiamo il nero No 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 Cino hai cambiato molte persone Che vivi attorno negli anni no? Eh Musicalmente o personalmente? Musicalmente Io poi vedo Eh infatti Tu parli musicalmente Ma Anche tu Sì Ma io Siamo sulla stessa barca no? Sì Io tra te Sì Sì Precciadina qui eh Precciadina qui eh Zitto zitto Sei tu l'intervistato Fedez Non c'entra un cazzo Di che le Greve Non è una cosa personale Di greve Di greve Di greve Di greve Cos'è che non funziona? Ti sei dato una risposta? Beh Bisognerebbe analizzare Caso per caso Cioè generalizzare E trovare un'equazione Che calzi E sia pertinente Per tutti i casi È difficile no? Jax per esempio? Con Jax Abbiamo È stato una Una bella Un bel percorso Una bella storia Credo Ne ho già parlato ampiamente In altre interviste In questo momento Non ho Cioè Qual è la domanda? Cosa vuoi sapere? Cosa non ha funzionato? Vedete come fa? Cioè parte da Friends Amici In realtà voglio che Tu mi dica qualcosa Su Jax Così poi ci faccio il titolo Sì Dimmelo subito Vai Perché cosa vuoi sapere? A un certo punto A un barlume Cosa non ha funzionato? No il tema è che funzionava Il problema Credo che magari tu sia d'accordo Anche con me Il problema è quando le cose Iniziano a funzionare Che arrivano i problemi Secondo me Perché tu lavorando con Gali Nel momento di picco È il momento in cui Si sfaldano le cose Credo che lo si veda per tutti Se tu analizzi tutte le Le etichette I collettivi Le crew No però io ti faccio un esempio Al picco più alto Ti implodono Ti faccio un esempio Ad un certo punto Siccome mi ha citato Gali Tranne il Cerbero Podcast Cosa? Cioè? Che noi mica al picco più alto Ci siamo separati O ci separeremo Noi siamo Vero abbiamo passato quella fase Belli compatti Quella fase In senso di massimo picco Intendo Sì Abbiamo passato quella fase Magari sì Il picco È già successo E siamo ancora insieme Sì Se deve ancora succedere Beh I boss car di quest'anno Eh capito Finirà tutto lì Chi lo sa Lì Lì A un certo punto Io ho detto basta Un leak E mi sono andato via Perché c'erano delle cose Che non funzionavano Ho detto niente Tra di voi Cioè la cosa che Lui bene o male È riuscito poi a legare Sempre musicalmente parlando A rilegare poi anche Con tutti gli altri artisti Della scena Ah tu stai dicendo Tu però Federico Non riesci a legare con nessuno Ok Sì va bene No mi chiedo Che risposta ti sei dato Mi chiedo Che risposta mi sono dato Ma io non ho Non ho intenzione Di avere Rapporti finti Con altri artisti Se ho un artista Sto antipatico Artisti che non vedo da anni Cioè io Cosimo Non lo vedo da anni Non ho mai l'occasione Di parlarci Non ho l'urgenza E la necessità Di sentirlo per cosa Per farci un pezzo insieme Cioè per far pace Per poi fare un pezzo insieme Io l'ho vissuta tanto Il rap dall'interno Ed è un po' così È un po' Ti mandi a fare in culo oggi E poi però Quando esce il disco Ci dobbiamo sopportare Facciamo la collab insieme E poi ci rimandiamo A fare in culo Non è un ambiente Lo dice Fabri Fibra Il 99% Della scena rap italiana È finta Io sono perfettamente D'accordo con lui È così È un ambiente fatto di Guarda vuoi sapere Ecco ti racconto Vai Il motivo Per il quale io me ne sono andato via da tanta roba Vai Ascolta Ci furono due episodi Che mi fecero capire che Quella realtà lì Non era adatta a me E un episodio fu Non so quanti di voi Ricorderanno Quello che sto per dire Probabilmente Ma uno degli episodi fu Caneda Grande Caneda Grande Ragazzo d'oro Caneda Capolavoro assoluto Boneda Grandissimo Caneda Bianco Caneda e anche poi Questa cosa mi rimase Talmente addosso Che poi Quando fondai In Utopia Con Axe Fu il primo artista Che abbiamo prodotto Caneda Difese un suo Un appartenente Alla sua gang Alla sua crew Che fu esposto All'umiliazione pubblica Da parte Di due bulli Che gli lanciavano La birra in faccia E successivamente La risposta Della sua crew Del suo ambiente Fu quella di Non tutelarlo Non proteggerlo Ma di farlo sparire Io ricordo Non c'era una bomba Come dire Che l'hanno espulso Su Marte No no ma senti Senti Se si sente in botto Si gira Oddio Non tutelarlo Non proteggerlo Ma Attentato I cecchini Hanno sbagliato Miran Hanno ucciso Luiz Meno male Nooo Nooo No Che scherzo Caro Luiz L'amico Ma che senso Però hanno fatto Spariccaneta Che l'hanno spedito Sua luna In deserto Non lo so In realtà è un episodio greve Eh direi Nel basso Lazio Io ricordo Io ero in tour con Cosimo In quel periodo E era uscito Il ragazzo d'oro Pesa zero Virgola Otto grammi Così leggera Sta bastarda Così grossi grammi E c'era la hit Quella bianco E dopo quella cosa lì Kaneda doveva Doveva ovviamente Essere sul palco con noi Fu deciso che Kaneda Non doveva essere sul palco E io non mi spiegai Questa cosa Dicevo Cioè questa persona Voi vi ricordate Cosa era successo Oppure no Per chi non lo sapesse Vi racconto Marrakesh esce con un brano Che si chiama Rapper criminale Scusate E Ok ok Roba Gorgitano E L'altro Ok ok Questo ovviamente Era il periodo In cui c'era un po' La guerra tra Chi Roma e Milano Non tanto Ma più che altro Tra il vero rap Di strada E chi raccontava La strada Di Beglab Dogo Non avendola vissuta Secondo quelli De E c'erano Alcune gang O alcuni collettivi Rap Che rivendicavano Questa cosa Come succede In realtà Anche oggi Un po' Con la trilla Io ricordo che gli hanno dato Un pizzone A Caneta Che gli hanno fatto volare gelato Quella roba là Dopo la canzone Credo È per criminale No non lo so Però era quel periodo lì Come succede un po' Adesso pure Con 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 i vari Tizi Tipo Rondo Questi qua Che devono far vedere Che un po' Sono cattivi Sul serio No Ok Spessa roba Spessa roba Devevano far vedere Che erano Veramente di strada Rispetto a I club dog Ma non erano bravi Come loro E quindi Sentendo questa canzone Questi da Roma Salgono A Milano La prima persona Che beccano È Caneda Gli chiedono il numero Di Marrakesh Due omoni Enormi E Caneda Per difendere Uno della sua crew Dice No Non ho il numero Non te lo do Fa un gesto Da uomo E da amico Incredibile E la reazione Della sua crew Fu quella Di Allontanare Io ricordo Marrakesh Fece un post Dove disse Caneda Non è un mio amico Ma È la tua gang È la tua crew E quello che tu hai da dire È Non La canzone Non è per loro E lui non è mio amico Ma al netto di questo Poco mi interessava Io ero in tanta roba Quando io non vidi Caneda E partì Sulla strofa di Caneda Gre Caneda Il coro Caneda Io andai ad incitare il pubblico Mi ricordo E Tutto l'entourage di Cosimo Mi disse Hai fatto una cazzata Non dovevi farlo E tu per questo motivo Lasciasti Tanta roba Cazzo Per questo motivo E per Per quello che è successo Poi con i troop d'elite Per Perché i troop d'elite Furono attaccati Da Quindi tu non lasciasti Tanta roba Per motivi economici Ma per questi motivi Motivi economici? No Firmare un contratto No Perché io Abbiamo appena detto Che tanta roba Era una cosa di facciata C'è il video Davvero? Cioè Caneda Caneda a Milano Questo? Sì Esatto Caneda È quello Sulla sinistra Quello al centro Che indica Con la barba È il Gitano E poi Non vedo Ma sa che Ione dovrebbe essere Quello con la felpa bianca Il Gitano sta qua E c'è una felpa Magenta Era un periodo Che ero un po' nervoso Non mi sapevo contenere Scusa Marco Dobbiamo sbucciardare Infatti Danny Lazzarin Questo Il bullismo Non vi rende forte La musica invece Sì Qua Qua si sente basso In pratica Stavano a dire Mi ti dà il numero Da amico tuo Ah ma è proprio Questa cosa qui Mi ti dà il numero Dele Marrakesh È stata ripresa Sta cosa Sì Ma sono anni Io non lo sapevo Queste cose là Sui siti Hai impagato E caga sotto E caga sotto Che non gioca E sbaglio E non è successo Cattivissimo Mamma mia Cattivissimo Rip e Gitano Ma perché Non c'ha nelle palle Da mettere i soldi Perché Perché Tu hai visto Ti hai scappato E hai detto E tu non mi riconosceva A barba Tu a me non mi riconosceva A barba A me non mi riconosceva Sì st'ha imparentato Con Panetti Gitano Sì E i feri N'è vero L'hanno detto Questa canzone Mi chiesto Questa canzone L'ha fatto male Questo non sa il cazzo Vabbè con chi dovevo parlare Questo non sa il cazzo Cioè fa ride Ma in realtà è greve Che fa più video Parlavo una volta Mi sembrava Una coscienza Un bravo ragazzo Ma voglio Sa far coatto Con Marsupio A me gli dà Pizzone E te con quel Marsupio E te con quel Marsupio C'è i mutande sopra Non riesce a capire No mo gli danno Un pizzone E gli fanno L'auto per l'aria Ma perché gli danno Il pizzone Il 18 gennaio È nata mia figlia Aurora Un saluto da Venezia Non parlava Non gli dava Come sa me Mi arrivano Mi dite il cellulare Do dubbi E io gli dico Non ce l'ho E li viviano Dopo che insiste Grande caneta Comunque Palle quadrate Riassumendo Diciamo Palle quadrate Quello che stava Di Fedez Ion gli dà una pizza Però Non Gitano Ion Sì 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 Ragazzi è morto No no è vero Non da mancà anni fa Anche Pepi Pure sì esatto La stessa gru Esatto Pia per culo Io non ne ho la faccia A parlare con me Pia per culo Pia sto telefono De merda E pier numero Pia il telefono E rimedi per numero La prossima Dato un fascia Che surbo Pa ti lascio per terra Io chiamo la polizia Chiama sto merda Dai Pia il telefono Chiama sto merda Chiama sto merda Dai Chiama sto merda Chiama sto merda Andiamo a questo Il poivo Se stanno Io stavo Mi piace Lo grosso E' quello tranquillo Quindi Guardate Quanto è il numero Di questo Mi ha fatto Questo Non è Quanto è il numero Di questo Almeno questo Siamo buona Farlo Dammi il numero comunque Joker è uno forte uno per strada Joker si ha fatto proprio comunque è questo basta è finito non ha parlato ed effettivamente io me me lo ricordo che è sparito dopo sta cosa e che divento molto meme non prendiamoci in giro sto Caneda non hai sentito quello che stava di Fedez perché lo hanno fatto sparire visto che lui incitava e gli hanno detto no hai sbagliato e la sua colpa doveva essere stata ma dovevano sparire gli star 3 2 teppisti dovevano sparire non lui che ha subito una cosa del genere all'epoca c'era questo discorso qui hip hop per molti era visto come una cosa la credibilità di strada lui era passato come un pagliacetto un pagliacetto una nullità guarda che c'erano un sacco di meme io me lo ricordo molto bene comunque comunque c'è Bazzicavo l'ambiente ascoltavo questa musica guarda che gli tirano la birra qua a me si aspetta già gliel'ha buttata giù gliel'ha buttata però dicono che la tira in faccia non mi ricordo ah poi ti tira qualcosa è vero è vero sai che l'ho rimosso guarda che l'ho rimosso lascio così non lo stavo io parla con Fabrizio st'arrivando Fabrizio parliamo con lui cazzo è dove stato st'arrivando Fabrizio almeno è l'unico chi è Fabrizio? è l'unico scena chi è Fabrizio? Fabrizio è un ragazzo per bene un orizzone e si affaggiano da salute i quattro coglioni vuole che moccia da qualcuno da beve e poi gli uri lo mettono nelle canzoni perché sennò finisce poco va bene va bene nooo nooo Fabrizio in galera ma questo è vivo? in galera in galera sto a dicendo sono passati tipo più di undici anni sicuramente è l'unica cosa che ha fatto nella sua splendida vita sicuramente l'unica offesa a qualcun altro è questo oraccio comunque a me io caneta ha bozzato io disprezzo completamente questo tipo di persone questo tipo di mentalità è stato bullizzato dal web sto caneta ma assurdo perché è passato come c'è bullizzato una vita reale pure sul web sì 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 perché ha avuto la colpa di essere stato bullizzato te lo sto a dire è una realtà che fa cagare il caneta è ufficialmente ospita ma scusa ma potete contattare magari aspetta ma fammi cercare su instagram caneta no ma non solo Simone neanche ha avuto la colpa anche di non sputtanare il suo amico povero caneta regà sì sì capito perché non ha dato manco il numero al suo amico cioè non è solo quello sì 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 non è stato pavido si è comportato in modo onorevole non è che semplicemente non ha reagito non ha reagito ma non ha manco ma ha ceduto manco al ricatto diciamo o c'è il numero o temenamo io ho scritto caneta top ma quindi esiste ancora non è che è sparito nel mondo no è sparito nel mondo della musica è seguito qua chi mi dice da quel depensante assoluto di Red Nose non ha reagito va per le nostre va per le nostre chiesto Fabrizio con noi chiesto Fabrizio mamma mia che roba come poteva reagire non lo so quei contesti non ne ho idea chiamando altri gangster che arrivavano super progetti ma quelli sono cattivi sul serio qualcuno ha scritto un chat e marra voglia far palestra diterita grazie al cazzo metrita sì no tanto io già so che dirò una cosa e verrò contestato anche se l'unica cosa che bisogna fare in questi casi chiamare la polizia ma che chiami la polizia capirai sai che sarebbe successo è questa la risposta che viene detta quando uno suggerisce di chiamare la polizia poi non si chiama mai va bene molto meno è stato fatto fuori da tu capirai sei un infame chiamare dei guardie sì 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 però è l'unica cosa di senso civico dove fa una persona normale in questi casi polizia 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 quello dovrebbe fare è che le canzoni le cantano che fanno comunque quelli io de strada ma comanno lo so devi mantenere quello stato la polizia eh lo so da una parte da una parte penso è cambiata un po' la società poi vedo ecco cose tipo Rondo e Compagnia Cantante Baby Gang e questi qua penso forse non è cambiato non è cambiato molto però forse la percezione della gente sì nel senso che appunto come stavi dicendo tu all'epoca venne pure bullizzato Caneta oggi meno secondo me nel senso quando accadono tipo Elia Baby con Social Boom è passato giustamente come un pezzo di merda ma anche quando menarono a Gallagher peraltro non mi vorrei sbagliare ma sempre persone di quel giro non mi ricordo che aveva detto Social Boom aveva detto ci aveva fatto un video ma io non mi ricordo quello che ha detto quel in chat comunque ha continuato a fare musica solo che non ha mai avuto grande successo ma che comunque è musica figa stanno a dire no no voglia forte Yon no Caneta Caneta canta ancora come stava di prima ed è pure migliorato un sacco all'epoca ricordo che pure su dell'oro dell'agrillo dicono che è sempre Yon è sempre Yon quello che ha tirato una pezza a Gallagher appunto allora vedi c'hava ragione Social Boom ci stavano proprio i video che stanno su Youtube e Fedez si era lamentato dando contro a Social lo ricordi l'abbiamo visto al Cerbero che Social ha detto no che Fedez gli aveva detto a Social tipo guarda sta roba fa in tendenza prima in tendenza che promuove le aggressioni si era sempre Yon che gli amenava a Gallagher mazza questo ancora l'ha imparato tutti stanni dopo dieci anni ancora fa queste cazzate sto coglione di Yon no è un criminale proprio da quel poco che ho visto vabbè è vero qualche pizza no non so proviamo un attimo a cercare ma proprio per i rifini di questo reportage che dobbiamo cercare no su youtube ok no si è chiuso tutto ma vabbè cerchiamo Gallagher aggredito voglio vedere un attimo Gallagher no più che altro solamente dal titolo possiamo pure non aprire il video perché comunque semerano proprio quindi io eviterei voglio solo vedere se era Yon picchiato no no mi sa che l'hanno levato ok non c'è più vabbè pazienza pazienza perché i troupe d'elite furono attaccati da photoshop quindi cioè tu non lasciasti tanta roba per motivi economici ma per questi motivi motivi economici? magari sì firmare un contratto ma no no perché io abbiamo appena detto che tanta roba era una cosa di facciata quindi io i contratti ce li avevo con un altro quindi io potevo rimanere di facciata in tanta roba e avere un altro contratto quindi non era la questione economica non poteva essere un un dissuasor cioè non poteva dissuadermi dallo stare con loro questo comportamento qui non mi ci ritrovavo non è una cosa che fa per me ma non è non è un giudizio io sono meglio loro sono peggio è un comportamento molto rap che fa parte del rap in cui io non mi ci riconosco non mi ci cioè non riesco a far se mi stai sul cazzo non riesco a far finta che non mi stai sul cazzo hai capito però poi l'hai visto a San Siro e vi siete abbracciati perché in quel momento avevamo chiarito non ti stava sul cazzo guarda madonna pure qua però dai no poi però l'hai abbracciato a San Siro non ti stava sul cazzo ma loro non avevano ma ci può chiarire uno ma lì ma là loro non si erano accordati per cantare insieme appunto ma che vuol dire che non si può chiarire ma che cazzo di discorso è ma è ovvio che si sono abbracciati magari in un periodo ho detto delle cose mi è stato sul cazzo e poi abbiamo chiarito ma che discorso è si sono chiariti non ti stavo sul cazzo no ma che è una cosa programmata non è che si sono incontrati e si sono abbracciati soprattutto scusate era una cosa dove dovevano cantare sullo stesso palco scensendo a casa nella stessa serata o sbaglio ma soprattutto non era De Fedez quindi penso che comunque tra virgolette Fedez ha fatto un favore a Gue perché comunque i biglietti già venduti e tutto ma non mi ricordo chi era dei due però ricordo che cantavano proprio la stessa serata e San Siro ha fatto Fedez e cazzo c'entra allora è diventato in quel momento avevamo chiarito con Cosimo allora è diventata una puntata di Gossip Girl no no ma sei tu che parli di loro ma lo sta imboccando dall'inizio ma vedi perché mi sta sul cazzo questo modo di condurre cioè gli hai messo le foto dei tizi ma sei tu che parli di loro e prendi la responsabilità gli ha messo frenza almeno Gianluca quando dice parlami di questo perché voglio far dissing lo dice esplicito cazzo con Cosimo ti ricordi come è venuto sul palco di San Siro no non ho visto lo live no no ma ti ricordi come è nata poi la pacificazione tra noi no non ricordo allora Cosimo fa mi par di capire fammi ricordare ah era il momento in cui lui fa questa questa piccola gaff che tira fuori il bastoncino da selfie in live ok ha tirato fuori il cazzo il cazzo nelle storie quella roba lì e io dissi mi ricordo ero a New York e dissi mi dispiace che Cosimo in questo momento venga riconosciuto dalla massa come quello che ha tirato fuori l'uccello quando in realtà ha fatto ben altre cose per cui essere ricordato e da lì mi scrive pesce in faccia tutta l'Italia alla fine lo invitammo a San Siro e per me era chiusa lì qual era la domanda che mi hai fatto su Cosimo la cosa che te l'ho chiesto e mi dici che e in quel momento io riusci a fare finta e io in quel momento avevo nel momento in cui risolvo con una persona ci risolvo mi sembra un po' una roba che va un po' in contrasto con la cosa che hai detto prima semplicemente ma in realtà no in realtà no actually no in realtà no però ok che senso no il fatto che dici che nella scena ci sono amicizie finche avvicinarsi alle persone solo per interessi poi ci fai pace e lo porti sul palco a San Siro mi sembra ma cazzo ti invito davanti a 80.000 persone cioè ti sto facendo anche mica dovevo vendere biglietti grazie a Cosimo avevo già lo stadio pieno mi sembra un gesto carino se ti invito a San Siro a proposito di San Siro vogliamo parlare di San Siro? si vai vai non ce l'ho qua regà non spoiler no non spoiler guardate si live 13 un po' di pepe ma non è San Siro questo è il forum raga questo è il forum vabbè ma non è San Siro ma chi è questo? questo è il forum lui è J-AX Yotobi che è arrivato questo è il forum Yotobi vabbè faccio un tirino dai mi sta a portare un po' di droga un po' di sciuga nel puro senso come vuoi fai quello che vuoi è che c'ho l'uomo fake st'applauso ce le hai anche tu le orecchie come le mie quindi abbiamo un problema di avanti mi sta a portare tiro dai mi sta a portare un cazzo qualcuno poi ma ti ho detto che ci ha risolto ah insiste ancora basta che ha detto che ha detto aspetta fammi sentire se ti sta a su un cazzo qualcuno poi ma ti ho detto che ci ha risolto cioè non è che mi deve stare a su un cazzo forever and ever cioè ci chiarisco tranquilli ragazzi che manca ancora ancora poco è il concerto che ho fatto sensazioni che è successo? non so sembravo tipo che stava per volare verso te me ma per spiccare il volo Marco ma dove stai? ma Marco sta tutto lì guardare tu un putone mi sono girato un attimo 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 ci sono 10 metri di distanza capito stavo ordinando un po' di che cosa hai fatto? stavo imitando di Kelle ah di Greve di Greve scusate era un'espressione sua in effetto è bello San Siro è una bella roba dimmi a culo sensazioni? è bello San Siro è una bella roba è un momento scusa è un bel momento il concerto con più ansia che abbia mai fatto in vita mia anche tecnicamente complesso da gestire è stato bello il mio sogno è farlo da solo e ti manca esibirti dal vivo? mi manca esibirmi dal vivo sì ma devo dire ho avuto la fortuna l'anno scorso io di prendermi tutti i palchi che c'erano a disposizione quindi non ho sentito sento la mancanza del concerto vero e proprio però comunque sia ho colto tutte le occasioni che c'erano da Sanremo al primo maggio ho fatto tutti i palchi che c'erano a disposizione e tu pensi che oggi saresti in grado di riempirlo San Siro da solo? non lo so probabilmente no ma ci vorrà del tempo ma sono ancora giovine dai e che tour ti immagini invece per disumano? no per disumano il problema è il problema è che tutti stanno spostando le date a maggio e io non so se ha senso fare dei palazzetti a maggio quindi avevo varie idee sul tour io stavo lavorando insieme al FAI che è il Fondo Ambiente Italiano per andare in delle location per far scoprire i luoghi artistici italiani ce ne sono tanti interessantissimi sto valutando varie cose il tema è sempre lo stesso che con la pandemia è molto difficile far nascere delle progettualità interessanti ecco quindi quando pensi che sarai sul palco 2023? beh no dai io spero 2022 speriamo ecco ma guarda primo aprile secondo me sì ci sarà un'esibizione speciale tutto lì così ma un dato a caso secondo me però non lo so d'amblè un magari due basta 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 purtroppo ci sono delle cose che sono fuori dal nostro controllo in questo momento ed è difficile poter per vedere cosa fare prossimo numero scegli tu no no fai tu dai c'è qui io? sì uno dicluge dicluge no il numero uno effettivamente dai leva 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 questa rana non è possibile però se vuoi fare un investimento intelligente vuoi che qualcuno che investi mi investi dai ragazzi che abbiamo un'ora e venti di intervista da vederci e gustarci ancora e stiamo quasi a 7000 sub è una notizia magnifica quasi un altro record assoluto del canale assoluto furlia il tempo sì ti mette ansia il tempo no non necessariamente no così su due piedi se me lo chiedi così no e tu sei una persona che pensa più al passato al presente o al futuro in questo momento al presente cioè diciamo il mantra è godersi il presente è stato un momento nella tua vita in cui eri più focalizzato sul passato probabilmente sì no al passato no ma forse ho sempre avuto più l'ansia del futuro che del passato onestamente cioè sono uno che rivanga poco e succede that's it move on e c'è qualcosa del passato che rivorresti che rivorrei del passato rivolere ora magari che no io in questo momento sono cioè sono felice della persona che sono del lavoro che ho fatto su me stesso non ho una famiglia ho due figli credo che questa situazione sia la situazione migliore per me in questo momento e invece quando vedi il futuro cosa vedi? grazie Ciri ehi grazie Ciri it's Ciri grazie grazie Tichel è bravissima a metterti a tuo agio grazie grazie Bini io mi vedo con la mia famiglia cioè non so tu vuoi parlare di rap quindi non so se te ne frega qualcosa però vedo più un mondo con la mia famiglia ecco e invece musicalmente parlando futuro? musicamente parlando il futuro è che voglio ho intrapreso la strada di vivere la musica in maniera molto libera e di continuare così cioè di continuare a non pensare al futuro della mia musica a fare quello che mi viene da fare e basta ma c'è stato un periodo in cui musicalmente parlando ti sei sentito più schiavo schiavo? dici che adesso sei un po' più libero no 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 schiavo della competizione la guerra dei numeri quello sì c'è stato un periodo in cui oh oh mio dio devi che credo avvenga a tutti gli artisti che hanno delle aspettative su di sé nel momento in cui hai delle aspettative devi colmare quelle aspettative ed è una rottura di cazzo per tutti secondo me perché non riuscirei mai a un certo punto a superarti c'è un limite per tutti e superare quella fase lì del tuo momento artistico credo che sia cruciale per ogni artista e tu questa cosa quando l'hai capita? cioè con un disco oppure io l'ho capita nel momento in cui ma io l'ho capita nel momento in cui ho compreso che nella mia vita non volevo fare solo musica che la mia vita è troppo breve per fare solo musica e quindi cerco di fare tutto ciò che mi desta interesse tutto ciò che mi piace faccio il podcast con Luis faccio l'imprenditore ho la mia fondazione su cui voglio lavorare tantissimo in questi anni cioè ho tante cose che voglio fare e non voglio fare solo musica faccio una domanda un po' più complessa per te quando si raggiunge l'età adulta? l'età adulta? sì nel momento in cui hai rivalutato la tua 0,25 per favore ma in realtà l'età adulta nel momento in cui ci sono non è non è solo la tua vita dipendere da te ho la risposta e quando pensi alla tua adolescenza qual è il tuo ricordo preferito? non ho avuto una bella adolescenza non ho dei ricordi preferiti non c'è neanche uno bello? no no non ho una bella adolescenza cioè tu eri un bimbo per strada? io ero un bimbo per strada bimbi per strada? cioè non ti sono un bimbi per dudie perché a me è la cosa che mi interessa anche del rap perché sono un po' tutti un po' sempre il re del quartiere no io ero l'unico coglione del quartiere quindi ero l'unico vessato del quartiere quindi sì bimbo per strada però non re e com'era il tuo quartiere? com'era la tua vita all'adolescenza? allora io sono nato al confine tra Corsico e Bucinasco periferia milanese quello che si vive nelle periferie milanesi il tema è che io ero molto ero abbastanza diverso io ho sempre io vengo il mio background musicale vero che mi sta a cuore è il punk non è il rap io mi ci sono trovato nel rap e quindi era un punk quello che viene cosiddetto un punk a bestia in un mondo di tamarri sì quindi di conseguenza le vessazioni erano tante e in un ambiente Bucinasco è un bellissimo paesino è un bellissimo paese credo ci viveva Gali no? la Bucinasca non lo so ok scusami è interessante ti racconto una cosa che fa abbastanza ridere un giorno leggo un libro di Vallanzasca sulla mafia milanese dove vengono citati i nomi dei boss ai tempi di Vallanzasca i boss mafiosi a Milano e leggo praticamente l'appello della mia classe era l'appello della mia classe ok voglio chiederti questa cosa che non come entra il rap nella tua vita e quando entra il rap nella tua vita il rap entra nella mia vita il giorno della come si chiamava festa tipo una festa al liceo artistico grazie 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 stiamo lì stiamo lì stiamo lì ai 7p top e vedo l'occasione di fare nuove amicizie cioè vedo un centro d'aggregazione interessantissimo per avere degli amici e quindi io vado a casa mi raso a zero cioè sembra una follia però veramente ho fatto così e ho detto oggi faccio il rapper e non so non so perché mi sono rasato a zero però nella mia testa era un gesto simbolico per fare qualcosa top de niro e quindi in adolescenza ero un ragazzo solitario ero molto 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 solo e il rap mi ha dato l'occasione di questa parte è godibile sì sì no ma infatti io guarda che io sto vedendo con molti interessi devo essere onesto assolutamente sì non sto a rompire i doni sono tornati umani no non sto tipo collegio che sto qua di madonna manca un'ora oddio mio sto tornati umani sto godere gilla poi dopo ritornerà la parte greve è appunto perché c'è star flame si se scannano una certa me la voglio vedere per quello non avevamo modelli oggi uno può dire faccio rap per fare i soldi perché ha dei modelli che per fare i soldi poi è anche brutto da dire per riscatto sociale perché è brutto da dire? è brutto da dire fare i soldi è più bello dire riscatto sociale credo sia più edificante per un rapper dire lo faccio per riscatto sociale non solo per fare i soldi no? alla fine è quello no? era un modo più carino per dirlo sì 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 una domanda e quindi noi non avevamo quei modelli non c'era ancora fibra forse bo no non c'era neanche fibra in major quindi non c'era nulla che ti diceva oh fai il rapper e svolti e quindi per me la motivazione è stata farmi dei amici e te lo ricordi quel momento che guardando online oppure guardando YouTube o MySpace al tempo hai pensato forse con questa roba ci posso anche vivere no guardando YouTube MySpace no sì guardando YouTube questa roba ci posso vivere neanche col primo disco sotto major lo pensavo c'è un'intervista delle iere se la guardi ero il disco più venduto dell'anno avevo fatto Mr Brainwash dove dico ho 2000 euro sul conto e avevo 2000 euro sul conto io ai tempi con il secondo contratto ho capito che ci potevo vivere ecco ma tuttora non è cioè non è parte del cioè vivo con altro nel tuo core business nella tua fetta di business nella tua torta di business quanto pesa la musica 10% avrei detto di più no ti ho stupito sì mi hai stupito tantissimo oggi tantissimo volevo dirti al tempo quando eri piccolo in adolescenza ti guardavi allo alla fine possiamo mangiarli sì sì scusa al tempo in adolescenza ti guardavi allo specchio e dicevi da grande diventerò ricco e famoso come? beh ricco no perché mi hai detto che non erano i soldi però famoso come? chi erano i tuoi punti di riferimento? blink 182 però in relazione al rap anche vabbè piacevano i blink no dico vabbè rappavi facevi freestyle ed erano i blink il tuo punto di riferimento sì sì sono sempre stato il mio punto di riferimento e nel rap non c'era un punto di riferimento? no ma se tu vedi i miei videoclip musicali di allora sì sì c'erano dei grossi di forti riferimenti i blink e io quella roba lì solo che facevo l'altro genere quindi non c'era niente del rap che ti interessava che ti incuriosiva? rap americano zero seguivo molto rap italiano tipo? a me che piacevano tantissimo magari li conosci beh anche tu hai fatto il rapper quindi tu ne sai da piccolino sì da piccolino sì al limite struggle ah sì c'era stato il collettivo al limite c'è un pezzo di Gammon nel disco al limite struggle che è bellissimo ascoltavo un botto Gammon chiave sì mista 60 hertz sì bellissimo disco di shock bellissimo molto quelle cose lì mi piaceva un sacco Rubo come produttore appena ho avuto un po' di soldini ho comprato delle basi a Rubo mi ricordo chi è che c'era poi? mi piacevano era un punchliner quindi mi piacevano le punchline e di conseguenza sotto la cintura di di Elsie no dei One Mic sì sì e Toraki di Rage era un disco incredibile disco incredibile e cos'è che c'era poi? ma più o meno questo mondo qua cioè mi piaceva poco il rap di strada ecco cioè non ma ce n'era poco al tempo però ma no minchia c'erano solo i Doggo che facevano quel tipo di rap ma cazzo erano i numeri uno era un gruppo no c'erano i Doggo c'era in quegli anni c'era molto rap che parlava di rap però ce n'era molto meno di strada anzi i Doggo erano molto ridicati perché parlavano di strada forse te lo ricordo che c'ho io di quel momento ma no cavoli dai chi c'era oltre i Doggo e i Kosang? i Doggo e i Kosang poi c'era Oscar White adesso mi ricordo la Crew ah sì o di Cricka o di Kappa o di Kappa c'era poca roba c'era poca roba forse c'era poca roba in generale sì c'era poca roba in generale era molto rap che parlava di rap però se eri di Milano cioè ascoltavi Doggo io ero un'anomalia capito cioè se eri di Milano tutti ascoltavano i Doggo capito prossima foto? vai parliamo di rap andiamo con Fabri Fivra vai ahia ciao quindi è monetizzato il nostro video su quello di Youtube ci stanno le ad è monetizzato cioè nel senso non può vero demonetizzato e comunque gliene mette Youtube no perché se tu non lo monetizzi proprio non ci sono pubblicità sicuramente non ci sono sparse quindi mi sembra alquanto strano greve perché un conto è che ti demonetizzano il video ma perché hai fatto qualcosa che non va e allora magari ci mettono copyright di qualcosa copyright di qualcos'altro e quindi ci mettono gli ad loro ah tipo ogni tanto a noi succede sì 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 a voglia monetizzazione separata tipo probabilmente sì abbiamo già sentito cose coperte da copyright cioè l'ipotesi è che magari sono pubblicità che sono presenti perché ci sta il pezzo di Fedez perché ci stanno vari pezzi copyrightati solitamente si accordano in questi casi ti devi accordare tra canale Youtube e casa di discografica lui solitamente lo fa questo ne so lui nel senso S Magazine sì se mettono questi spessoni perché ovviamente possono monetizzare pure loro però non lo so adesso in questo caso no però in generale nel caso che dici tu hanno monetizzato loro e quindi non ha mantenuto il patto mo sono curioso e curiosità a me che cazzo mi frega no ma mo sta cosa con fibra che ve lo ricordate quando ha detto nel suo pezzo fuck fedez come no molto iconico sì sì lo dico in inglese fuck fedez non mi ricordo com'è che faccio non parlo mai in inglese adesso faccio un'eccezione fuck fedez fibra raga magari se viene fibra io è uno dei pochi che potrei per davvero proprio tipo mono proprio balbetto proprio per tutta la live 10 in comunicazione non riesco a parlare io con fibra se viene raga balbetto per la live intera cioè una delle poche persone proprio top quando vedi questa foto che non l'ho mai conosciuto grazie sub zero domani vediamo il tuo video sì non mi ha applicato fibra vai ah non lo sapevo questa cosa no è la storia allora cosa vuoi che ti racconto no raccontami quello che vuoi poi faccio no fammi la domanda che poi mi dici parli tu di quel cazzo che vuoi dai dimmi tu dimmi tu mi stavi dicendo qualcosa ma intervistami fammi una domanda fammi una domanda ma intervistami fammi una domanda no è vero perché fibra butta lì c'è la speranza che dica qualcosa stavi dicendo una roba mi stai dicendo non l'hai mai conosciuto mai visto c'è Marco che vuoi una banana quando hai ricevuto l'offerta da big picture no da l'unica interazione tra me e lui fu tramite Paola che mi fece leggere i messaggi e nel periodo in cui Paola mi propose di andare da lei fibra fece un'intervista dove disse io l'ho interpretato un po' per lisciarmi il pelo Fedez è me perdon me perdon che è Fedez è di greve in Cyrus Cyrus back grazie per il sub Cyrus back e Ion un me curca di botte in diretta oddio si si un po' di leggere un po' di leggere un po' di leggere un po' di leggere successivamente no cosa fammi la domanda successivamente e no perché poi non voglio fare il gossip dai fammi tu le domande fibra quanto ti ha influenzato se ti ha influenzato in qualche modo i suoi dissi fibra poco perché non cioè in realtà di quelli che ascoltavo abbastanza cioè mister simpatia credo che comunque sia un crocevia per tutti no cioè l'uso dell'ironia si si abbastanza stava tutto stunnato il corriere in che senso stava tutto stunnato mi guardava tipo così come te guardava ma perché che cosa c'è di strano non lo so che cosa aveva percepito dal citofono ah perché ha sentito qualcosa no guarda che si sente fuori quando alzate per certo il citofono no perché io pensavo che fosse rotto poi ho realizzato dopo dopo che ho fatto un paio di gag che in realtà fuori si sente non avevo mai parlato vabbè non vi dirmi altro riguardo l'influenza no chiedo eh sì c'è l'utilizzo dell'ironia dell'uso dissacrante no è un po' un po' alla Eminem sicuramente lui è stato il primo a farlo ripeto io non sono un grande fruttore di rap ma tra le cose che ascoltavo da ragazzino sicuramente c'era e dal successo che lui ha ottenuto con il primo disco tradimento hai imparato qualcosa anche a livello di marketing oppure di marketing ma sai lui di marketing oppure di perché dici marketing ma perché lui al tempo io penso che a livello di marketing si mosse benissimo no fece queste t-shirt ad offrire fibra poi utilizzava sempre il suo nome all'interno dei brani aveva questo modo che era molto nuovo no faceva i nomi e cognomi delle persone che gli stavano sulle palle in televisione quella roba lì era divisiva però molto forte era l'unico riferimento che c'era in quel momento di un artista di successo nel mio disco dico il cazzo che mi pare piscio sull'arcuri e cago sulla barale insieme a Dargen top pezzo quello all'apripista di tutto passarono dei guai per quella roba e ci sono degli artisti del rap mi interessa sapere questa cosa che tu oggi se ti dovessero chiedere chi è un artista che ti ha influenzato tantissimo nessuno proprio nessuno Fabio Fazio fanculo quel cazzo mi invidi più ero d'accordo troppo intervista ma se non ci sei mai conosciuti che cazzo ne so io scusami ma sai però vai vai ma cosa ne so non ci sei mai conosciuto non lo conosco non lo conosco va bene vuoi sapere perché abbia litigato ma no sì mi chiedo perché ma no sì ma no ma in realtà sì è fastidio ma parla tu di loro che fastidio mamma mia incredibile cioè io non ti voglio assolutamente chiedere di nessuno poi queste slide chiedono va bene vuoi sapere perché abbia litigato ma no sì mi chiedo perché cioè fai se tu mi fai la domanda perché avete litigato io ti rispondo eh inconsistente eh fa la domanda fa la domanda fai la domanda ma quanto è pavido fai la domanda madonna mia vedi perché io mi triggero devi partire col periodo interrogativo sì sì d'accordo ma non abbiamo un rapporto non è che non andiamo d'accordo mi ha mi ha dissato basta cioè come faccio a dire non vado d'accordo con una persona fuck fedez mi ha dissato dopo che io avevo dissato la sua manager che aveva scritto però le forti però da lì a dire che non ci vado d'accordo non lo conosco magari non lo conosci c'è stato mai un momento in cui hai pensato ora lo chiamo cerco di beccarlo cerco di farci qualcosa in studio insieme ma non lo conosco beh grazie non lo conosci ma le collaborazioni non è che nascono sempre solo da persone che si conoscono beh no perché nel momento in cui ma nel momento in cui fa una canzone dove mi insulta so già che gli sto sulle palle non vado a ascolti anche del rap per caso italiano sì e chi ti piace Fabi Fibra bravo Morgan ascolti del rap un po' di merda però gre sono ripescata la battuta fatta X Factor gre mi si è spezzato un po' il cuore quando ho visto Morgan perché mi manca vibes mi manca un po' Morgan X Factor spero di rivederlo presto anche quando l'ho visto spoiler serie di Verdone all'interno della sua serie spero di rivederlo molto presto non lo so qui ok in cui ah no sai che forse l'avevamo invitato l'aveva invitato Axe a San Siro no 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 forse non è vero no non mi ricordo bene l'avevamo invitato a vedere il concerto a San Siro forse a un certo punto può essere può essere però collaborare a far cose mai ok va bene ero curioso di questa cosa un certo punto arriva Fedez e gli dicono cosa pensi di Fedez e lui dice ah no non lo conosco e io che ero un ragazzino a testa calda ero una testa di cazzo raga cioè ve lo dico proprio bellesemente mi cioè me la legai al dito che dissi ma come cioè mi conosceva no cioè non personalmente però aveva già parlato di me nelle interviste e nella mia testa ma ripeto l'errore del del litigio cioè di questa cosa che poi alla fine è tutto show del 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 dissing con fibra nasce in realtà la stacca gas cioè una cosa totalmente inutile nel senso che io ci rimasi male del fatto che lui fece finta di non sapere chi fossi come artista andiamo con la prossima foto ma che roba era questa direttamente su Twitch sì una live su Twitch dicono in chat non era da noi non era da noi non mi pare forse è live sua ma penso proprio di sì anche l'audio no no c'è scritto ah ok ma assolutamente una sua live infatti non mi ricordo dicono anche che è morto ci sarà stato ci stava qualche su ottofondo strano se stava sì era roba su ehm feretta giovane ah wow che bello che berfio vai cosa ti fa pensare questa foto ancora ma ma hai rotto il cazzo ma è un altro video mi sono rotti i coglioni basta pazze polle va è colpa nostra perché abbiamo visto i suoi video e adesso ci riconsiglia sì che mettevo le canuttiere co no che no con che 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 davide no se se ho capito è grevissimo no no rega no trovi che sto a tritar pepe che è successo no 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 fermi fermi mi hai preso un colpo rega siete dei pezzi di merda perché hanno scritto in chat a manetta rip silvio ho aperto la prima cosa ex presidente del consiglio no vabbè ovvio perché ex presidente del consiglio io ho pensato ex nel senso che è morto mortacci vostra io pure e poi la fanno sempre sta cazzata su berlusconi non so perché mi sono andato a vedere perché prima c'è cascato marco ora c'è cascato marra mortacci vostra ex presidente del consiglio no no ex presidente perché però tu ripeti ex presidente del consiglio cioè è strano perché non è pure presidente lo so che non è più del presidente del consiglio ma vabbè non lo scrivono per tutti era il terrore proprio il no di quando si muove in berlusconi presidente di forza italica ex no presidente non morire ma spero di morire prima non giocate con i nostri come dissero come dissero i tifosi della Roma per totti giustamente e cosa mi fa pensare che ero a me da giovane no cosa rimpiangi di quel fedez ah niente è molto diverso dal fedez di oggi molto certo che cosa beh quello lì era un fedez che non aveva delle responsabilità non aveva una famiglia era molto giovine aveva la foga di fare di strafare nella musica aveva altre totalmente altre priorità rispetto a al me di oggi successo che ha ottenuto no 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 dai simon no dai che perdiamo il filo su tutto perdiamo il filo su tutto basta 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 dai dai che me casca il pepe Simo me sta a casca tutto il pepe su a postazione del lavoro i sexpist non mi fai un cazzo no che c'ho edita tutte no ti stai sbagliando forse è vero quello che dicono un minuto esagerato così e che cosa non sanno è stata bella però tutte le persone fuori cioè cosa decidi di non far vedere barra ti stai sbagliando forse è vero quello che dicono di te niente come hai fatto a percepirlo non me posso allontanare lo sapevo tanto è quasi finito ma è stata bella cioè per giuro ma come vuole al tempo quando gli argomenti sono così interessanti che dici ma perché la volevano cancellare allora in un pietro è bello in quanto cazzo stavamo 48 sì sì me l'ero segnato mentalmente 48 bravo Simo la forte è quando mi si fa il processo alle intenzioni no suggerite non se ne esce aspetta aspetta pre una cosa che io non sopporto è quando mi si fa il processo alle intenzioni è tipo il buco spieghiamo bene il processo alle intenzioni è quando tu giudichi non le persone per quello che oggettivamente fanno ma le giudichi per quello che potrebbe essere il loro retropensiero cioè quella persona sta facendo qualcosa perché secondo me sta pensando qualcos'altro una cosa che a livello giuridico nel nostro sistema giudiziario ovviamente non vale no? se fosse un processo e quello che mi è sempre stato detto me ne hanno fatti mille anche recentemente Marrakesh mi ha fatto il processo alle intenzioni ma in quel periodo storico il processo alle intenzioni era fa musica di merda perché vuole fare i soldi no io facevo musica di merda perché la mia musica di merda mi piaceva capito? ed è credo che sia stato quello il segreto cioè io quando facevo vorrei ma non posso senza pagare non ti vergognavi di questa cosa ma perché dovevo vergognare non ti vergognavi di questa cosa ma io implicitamente ma che te sto a dire cioè mo Simo facciamo un'intervista tu cerca di subirlo sulla tua pelle dico oh ma quando facevi tipo tra cinque anni quando facevi le cose con i futuri ma non ti vergognavi non ha senso non ha senso perché implicherebbe che io stia facendo un torto a qualcuno quando non è così e nemmeno Fedez ha mai fatto un torto a nessuno facendo musica solo se si pensa che è un disonore non fare rap puro nella scena rap questo è solo in quel caso diventa una vergogna ma è una vergogna che non esiste c'è un bias collettivo che va abbattuto da boomer è impressionante è di un passivo aggressivo pazzesco tiene la domanda è un insulto però io sto imparando molto ho tutte le regole sulla corretta intervista scorretta anzi lo scorretto è anche un termine che potrebbe essere virtuoso stai proprio sul filo stai sul filo ma io per l'appunto so così interessato perché voglio vedere sto filo se prima o poi si spezza eh sì sul finale è bellissimo perché se vede proprio che stanno sul filo stanno lì lì quando penso a te ho sempre visto prima l'imprenditore la domanda è quando pensi a me cioè in che momenti pensi a me quando mi viene in mente dico quindi ti vengo in mente ogni tanto no mi fa piacere beh se lavorando nella musica ogni tanto capita di parlare di fedez però dico ho sempre visto prima l'imprenditore del rap nel senso che ho sempre visto che tu comunque hai sempre avuto un approccio all'imprenditoria sempre avuto un approccio anche al marketing oh bellissimo grazie no è un argomento super interessante anche al marketing voglio chiederti come hai imparato io però voglio fare un passo indietro io voglio che mi rispondi a questa domanda poi dopo voglio sapere come hai imparato io non ho imparato a me io sono io sono credo fortemente nel fatto che la musica e il marketing siano una cosa che sta bene insieme stanno bene insieme la narrazione che è sempre si è sempre portata avanti che lo dico guarda senza senza rancore che anche la tua non testata magazine ha portato avanti su di me è il fatto che Fedez facesse marketing e musica cioè totalmente sbilanciato quando secondo me le due cose sono di pari passo tutti gli artisti fanno marketing e anche gli altri artisti mi hanno sempre insultato dicendo fa musica mischiata adesso non so come cazzo mischiata al marketing come era come che era dai arriva avevo fatto dissing dove mi dicono com'era un briciolo di capacità diluita in un mare di marketing che è Cosimo e Marra giusto? ok questa cosa di dire che la musica e il marketing sono due cose separate e che una non dà valore una è un disvalore per l'altra è una cosa che non che non mi appartiene e ci tengo a spiegarlo come come in realtà sia tutto l'opposto Andy Warhol Salvador Dalì Andy Warhol e Salvador Dalì è ancora prima l'arte contemporanea la transamaguardia il postmodernismo sono movimenti artistici guarda un po' Blastafetaz però no 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 ma ricordo questa parte allora è un discorso che lui fa molto spesso ok c'è Andy Warhol ok allora io non ho un cazzo contro il marketing ovviamente però se la critica è il tuo prodotto è più marketing che contenuto effettivo ci può stare e gli esempi che fa secondo me sono sbagliati non tanto perché lui si vada a paragonare a però anche quando cita esempi illustri in realtà l'arte lì stava nella provocazione facciamo un esempio massimo che abbiamo fatto spesso Manzoni Tiero Manzoni la merda d'artista uno potrebbe dire solo marketing ok però c'è un intento artistico per ragionare sull'arte stessa l'arte contemporanea ma sì perché lì è assurdo anche che uno vada a promuovere ad applicare del marketing a una cosa che è una merda cioè la provocazione sta lì certo ok io prendo un orinatoio lo metto all'interno di un contesto artistico quindi quella è arte in realtà sì 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 ok tu e anche Warhol distruggi alcuni concetti del marketing li usi a tuo vantaggio tipo la ripetizione di Marilyn Monroe la Coca Cola eccetera è un discorso diverso da quello che fa Fedez questo poi glielo dirò ne parleremo magari pure in live per me non si deve neanche giustificare nel senso capisco il fatto che se voglia difendere da questo attacco continuo sono la pietra di paragone negativa perché so solo marketing però ci sta anche accettare questa critica nel senso uno ti può dire beh magari i tuoi contenuti a me non piacciono mi sembrano poveri mi sembra che tu ti interessi più a quello poi che lui abbia questa visione virtuosa anche del marketing va bene nello stampo americano ok dove li sono effettivamente molto mischiati però gli esempi che fa sono sbagliati infatti secondo me di Kele a sto punto gli do a di quando lui ha fatto la domanda perché dovrei vergognarmi magari potrà dire perché le tue canzoni mi fanno cagare l'avrà già detto in passato cioè andarlo a criticare magari sul merito della composizione comunque della fattezza delle canzoni c'ha senso e lui fa un discorso lo vuole collegare al marketing che ci sta però a mio avviso almeno la creazione di una canzone non dovrebbe stare a pensare a quello mentre la crei ok poi lo unisci il marketing però come lo fa lui magari funziona però ci può stare che crei cose un po' scialbe dal punto di vista contenutistico beh ma è come quando io critico magari un film perché hanno lavorato più sulla produzione tipo Spider-Man è esattamente quello hai confuso Duchamp con Manzoni no no l'ordinatoio di Duchamp è la merda artista di Manzoni no per quanto riguarda Dalì è un esempio diverso alcuni artisti hanno fatto anche collaborazioni con grossi brand sì ma come Lynch con la Playstation o altre cose non significa nulla è un esempio staccato vi sto dicendo che quello di cui parla per quanto riguarda l'unione tra marketing e arte alle volte esiste però non è che tutto quello che viene fatto in casa di marketing è equiparabile a World questo sto dicendo e poi in termini che viene pure abusato perché in questi termini tu come fai a di marketing nel senso se se ne parla tanto no io penso più quanto vende poi tu come fai a capire se vende perché è marketing oppure poi senza andare nello specifico oppure semplicemente perché è piaciuto quindi alla fine è gusto non è neanche marketing secondo me si può distinguere è un po' troppo buttata in cacciara non vanno bene nel dettaglio chi è che tra di voi si va a riascoltare un pezzo di Fedez perché ha proprio voglia di riascoltarlo io perché è un bel pezzo tu tipo c'è stanno pezzi suoi i vecchi per dico fibra però solo in collaborazione vecchi vecchi sì guarda caso guarda un po' a me piace che cazzo ridi con Tedua e Red io noto poi una cosa che è il campionamento dei Blink secondo me se una cosa vale la pena riascoltarla perché vale a livello contenutistico te la vai ascoltare pure cinque anni dopo se invece ti ritrovi a dire mi sono completamente dimenticato sto pezzo ma lo ascoltavano tutti ti fai due domande analizzi anche a posteriore e dici magari se lo ascoltavano tutti solo per un'operazione di marketing sono una frana a ricordarmi i vari titoli però ci sta qualcosa che mi ascolta però sono sempre delle cose vecchie su molto d'accordo infatti spesso un capolavoro lo decreta il tempo certo assolutamente sì questo Adam Song di Blink nessuno guarderà tu spegni e vivi tutto fumo e pubblicità e tutto fumo parla proprio di questo tra l'altro tutto fumo e pubblicità pubblicità poi c'è una parte interessante adesso non mi ricordo però ascoltatela perché parla di questo discorso poi per quelli che dicevano sul discorso di Warhol marketing ragionava su quello cioè il suo intento artista a parte che Warhol ha fatto talmente tante cose ha fatto anche film e il Bevelt Underground la uni di lui ma al di là di quello quasi al di là del fatto che abbia fatto anche lui un'operazione di puro marketing come lo stesso Dalì per vendere il suo personaggio alcune operazioni che vengono spesso citate in relazione a Warhol o a Dalì o altri erano dei ragionamenti sull'arte stessa facciamo un esempio contemporaneo Cattelan lo conoscete no? Grande Cattelan non il conduttore anche lui fa quel discorso lì nell'arte contemporanea oppure l'opera d'arte quella che appena l'hanno acquistata si è distrutta erano innovatori comunque anche nel marketing perché comunque era una novità sì però lì è ragionare sul marketing quindi facendo un discorso artistico anche sul significato dell'arte cioè si apre un dibattito assolutamente sì e infatti il discorso considera d'arte o meno sì come no era appunto un urinatoio se metti due riflettori lo metti in una galleria d'arte diventa arte anche urinatoio perfettamente quello era il discorso quindi va oltre non è che lui lì stava facendo marketing poi al di là del suo intento il risultato qual è stato? si è ragionato si è ragionato sul discorso ma vale il contesto o l'opera in sé questo è un cesso questa è una merda si era Bansky quello dell'opera distrutta circuiti elitari ed intellettuali l'arte moderna è un'arte che si basa e si fonda neanche sul marketing sul market stesso sul mercato è quello che noi viviamo oggi nell'arte Salvador Dalì Andy Warhol forse ce lo dimentichiamo che sono artisti che hanno segnato l'arte contemporanea e che parallelamente facevano le pubblicità per la lotteria la pubblicità per la cioccolata questa è un'altra cosa qua sta dicendo un'altra cosa cioè il fatto che tu sia anche un ottimo pubblicitario o che ti venda brand non ti rende meno artista comunque Fedez si dovrebbe vergognare che plagia i discorsi del SEO senza pudore lui ha letto il mio libro mercato ma pure Warhol ha letto il libro di Gianluca io non voglio essere il prodotto voglio che la mia arte sia il mio prodotto per le aziende di trasporti aerei e oggi sarebbero degli artisti ripeto cioè se un grande artista io tanto faccio sempre esempio col cinema perché è l'unica cosa di cui capisco qualcosa fa magari uno spot ok e anche una marchettata non lo rende meno artista per tutto il resto di quello che fa magari in quel caso ha fatto una marchettata fine chiamasi lavoro su commissione l'arte su commissione esattamente tutte quasi molte delle composizioni di Bach se non erro tutte non voglio esagerare erano su commissione pure la cappella sistina se vogliamo esatto per dire erano altri tempi no no che se una cosa è fatta per commissione non per forza è una merda spesso è una merda ma non per forza se non sbaglio Sotenberg disse proprio questo io faccio un film per l'industria e un film per me faccio una marchettata è uno che voglio fare mi autofinanzio così tra virgolette ma pure Barton che ha odore è chiaro che Alice l'ha fatto per la Disney non gliene fregava paresemente un cazzo è fatto un film di merda questa cosa che viene fatta su molti dischi magari dicono devo fare quelle due o tre che devono pompare nei radio poi magari ci stanno altri pezzi che so più per me però pure se ormai questa cosa si è persa ormai il disco è quasi interamente in funzionalità di quello che deve essere ascoltato piuttosto di solito fanno dei progetti esterni ed etichette adesso però una volta per D era così credo molto di più dipende di che epoca parliamo se parliamo del mecenatismo è una cosa io parlo di contesto hip hop non so nulla della storia però in generale in certi periodi storici non è che potevi fare artista così soprattutto se si parlava di affreschi o ti serviva che ne so una materia che costava tanto sei un medicista di trovare una corte che ti sponsorizzasse per suonare ed allietare i nobili oppure appunto ti commissionavano delle opere per i ricchi ad esempio Goya ebbe anche un periodo artistico in cui lavorò per commissione e poi invece ci fu la fase finale della sua vita che è quella più cupa quella più devastante dove fa delle opere crudissime e quel periodo faceva questa raffigurazione della famiglia nobile però è Goya e ti raccampa però è Goya giusto che farebbero a dv su instagram molto probabilmente e questa cosa non toccherebbe minimamente il valore della loro arte perché quella cosa lì fa parte della loro arte non è detto tesoro non toccherebbe il valore dell'altra arte se è valida sono d'accordo non è detto però dipende dipende dall'intento dal risultato se Totò fosse vivo sarebbe tiktok questa maricord quando io mi trovo a fare un disco per me è l'occasione di fare del marketing fa parte siete proprio stronzi eh marra che dupalle il contrariese con tutti i costi porca puttana ma avete scritto costantemente stanno le calcule a Fedez se voglio dire una cosa un discorso invece che free puttana e basta cattivi poi che lui si esalti a fare queste cose poi io non parlo di lui che lui si esalti a fare questa operazione di marketing io ci credo c'è dell'arte anche in quello dell'ingegno della creatività nel suo intento sì io contesto il discorso generale non è così per tutto non è che se diventi un artista poi fa solo marketate allora quelle marketate so per forza arte tant'è che il 90% dell'arte contemporanea è merda merda venduta a peso d'oro sono rimasti nel nostro tempo che molto probabilmente c'era più marketing che musica eppure hanno segnato la storia della musica mondiale io cito sempre Malcolm McLaren che è una mia grande fonte di ispirazione il manager dei Sex Pistols prima ancora manager dei New York Dolls lui crea i Sex Pistols hanno una rosa la loro discografia conta meno di 20 canzoni il loro repertorio live conta meno credo di 10 concerti eppure ancora prima i Sex Pistols non sono una grande band che è Gauding questa canzone probabilmente è stata una marchettata per questo spot questa musichetta infatti è una merda senza anima eppure tutti noi sappiamo chi sono i Sex Pistols magari è un pezzo classico famosissimo no non mi pare essere Sex Pistols sono Malcolm McLaren che grazie a una corrente filosofica che si chiama situazionismo crea una magia che per quel periodo storico rappresentava una svolta indipendentemente dalla qualità della musica questo è vero ma ripeto vale per lui magari non per tutti questo è quello che contesto io assolutamente se lui si momento a quelle cose là è anche giusto che gli stimolino il fuoco creativo ma questo va benissimo perché è personale lui secondo me quando fa le campagne dei marketing come quella politica si esalta e magari esce più la sua arte lì che mentre è in sala di registrazioni esatto perché no ma infatti secondo me lui è più pubblicitario magari che musicista come suo come suo come suo intento per carità però non vale per tutto questo voglio dire perché sennò poi si passa al discorso allora Spider-Man è in capolavoro beh perché che ha ragionato su eh no attenzione quello che sta a fare la Disney è fantastico a massa ha distrutto 50 anni di quello che ha fatto vabbè quando mi si dice tu sei più marketing che musica significa che non avete capito un cazzo di quello che sono io cazzo stai a dire per cortesia non dire mai più che Duchamp Manzoni e Bansky sono opere di marketing tu sei veramente scemo io ho detto esattamente l'opposto hanno ragionato su determinate cose oh vabbè se possono usare come esempio dei marketing allora loro si divertono quando mi impertono però mi diverto pure che ogni tanto almeno movimentiamo un po' salive tranquilli ragazzi faremo una live apposita su Duchamp hanno ragionato ma magari la facciamo Duchamp citato anche così io quel giorno farò proprio Duchamp faccio faccio sentire i cessi opere d'arte Duchamp e un'altra cosa è è tutto marketing e non palesarlo semplicemente Darjen dice una cosa di me che è super vera e non so come ha fatto a partorirla dice Fede c'è un ottimo giocatore di scacchi che però ti deve dire prima la mossa che sta facendo io con questo disco ho fatto un'operazione di marketing che quasi ha cannibalizzato l'uscita dell'album e non me ne frega un cazzo perché è stato pazzesco farlo lo vedi lui è entusiasmato da questa cosa io sono contento va benissimo però è tutto marketing no poi che dipende che ovviamente oggi la musica e il cinema abbiano la necessità di implementare una parte di marketing è in dubbio ma che tutto ciò allora che funziona in chiave di marketing diventi arte e no non tutto se non torniamo a Spider-Man allora è un capolavoro del cinema no magari è un capolavoro a livello di pubblicità ma effettivamente cioè il marketing in questo caso ha fatto sì che la gente sapesse che Fede stava a uscire un disco lo sto dicendo un male ma non si traduce in gente che l'ha ascoltato per forza esatto bravissimo quello che stava di prima bisogna farla di istinzione tra se ne è parlato e ha venduto certo per quello c'è tutta confusione e poi tu non sai mai se hai venduto solo perché hai lavorato bene nella comunicazione o perché sei tu perché allora che diventi tu stesso il tuo prodotto c'è una cosa di deumanizzazione pazzesca ma scusami sei Fedez sei famosissimo oppure comunque con la tua famiglia e tutto cioè stiamo prendendo lui come esempio è chiaro in maniera diversa su altri però il discorso è lo stesso secondo me troppo chiacchiere il marketing lui secondo me è costretto a giustificarsi ma viene per tante cose in suo caso c'è anche più facilità perché se ne parla di più ci sono molte più persone che ne parlano molte più persone che lo vogliono smontare pure questo è più di chi ne parla fa ancora più rumore è un discorso troppo diverso se lo mettiamo su Fedez già ne potremmo parlare in maniera secondo me più approfondita se prendiamo un esempio meno pesante allora sì rispondo a due commenti uno della morale del Cerbero un altro ha scritto Marra siamo nell'epoca del capitalismo e stai dicendo che il marketing non è importante ragazzi perché non ascoltate quello che dico ma quando ho mai detto che non è importante l'ho appena detto ho detto soprattutto in cose come il cinema poi che è ancora più costoso ma anche la musica è ovvio che tu debba avere una parte del marketing la morale invece dice il marketing Marra dovrebbe essere un veicolo per Fedez il marketing e il contenuto ma per me non è un problema forse non è chiaro è palese da come ne parla e da quanto lui si diverta a fare certe cose è una cosa che ama al pari della musica se non di più e va benissimo poi in queste operazioni anche nelle sue magari non lo so lo valuteremo tra anni come si è detto potrebbe esserci dell'arte sicuramente c'è del talento ok però il discorso assolutistico del tutto è marketing tutto ciò che funziona in chiave di marketing è arte no è un'altra cosa poi anche la pubblicità può essere un'arte va bene c'è un pezzo di spicco di quest'album io non l'ho ascoltato mille quello che ho io non l'ho ascoltato mille non c'è mille io non l'ho ascoltato in quest'album sì allora è mille io devo essere sincero non l'ho ascoltato però già la conoscevo la gente devo essere sincero però non so ascoltare più rap hip hop pop rap non ho ascoltato neanche il disco di Salmo ho ascoltato poche tracce dell'album di Marra sapone mi sono rotto i coglioni proprio di di questo tipo di immaginario ma è un problema mio ma è sapone o sapone pure sapone e mille ho ascoltato solo quello di sudore del nostro amico di metal carter artista non avrei avuto il pretesto per farlo però occhio cioè ci sono state delle operazioni di marketing molto più geniali secondo me e non accorgersene o far finta che non ci siano è un peccato cioè dobbiamo smetterla di far finta che nella musica anche gli artisti quelli bravi non me un giorno in più tu lo ascoltate è bello veramente bravi non adottino del marketing perché c'è genialità anche in quello cioè per me Marrakesh che esce con un disco in concomitanza con Fedez che ha un marketing super palesato che esce con un non marketing è l'operazione di marketing più bella che abbia visto ed è una figata sì però perché il marketing di quel disco è il disco in sé la cosa che non capisco è questo è questo la cosa che non capisco però è nel fede artista io fossi un artista mi preoccuperei però se uscisse il mio disco e si parlasse più del marketing del disco che del disco in sé ma non mi interessa io faccio ma perché ma qua questa è una critica giusta secondo me cioè comunque uno spunto di riflessione ci può stare ma lui palesemente già l'ha detto secondo me comunque di erano non ascolta secondo me non ascolta lui già l'ha detto non me ne frega un cazzo non gliene frega niente a lui mi fa piacere e questo non lo contesto e ha ragione quando dice il discorso di Marra invece l'avevo già detto nell'altra live nel senso che anche quello è ovviamente un marketing una tipologia di marketing opposta alla sua e non c'è niente di male perché non puoi pubblicizzare un disco senza marketing hanno due personaggi diversi una narrativa diversa diciamo prima di che è tutto diverso in questo caso si implica che Fedes non abbia tanta fiducia nella sua musica perché anche lui magari sa che non è un granché ma più sulle sue capacità di marketing è un po' una critica alla musica che ci può stare ma fingete non ascoltare comunque di che no no secondo me c'è già si dice c'ho la domanda gliela faccio comunque così sembra che le sue parole ci hanno poco valore ha già risposto si gli ha già risposto ma finge che non si sia capito insomma un po' quello secondo me pure è un esperimento la musica è un esperimento la musica è un esperimento certo tutto è un esperimento io sarei molto preoccupato non è una critica però sarei molto preoccupato se uscisse non è una critica non ti voglio criticare sarei molto preoccupato poi cazzo vuol dire è un esperimento boh sì che cazzo vuol dire domanda è la musica è costante sperimentazione certo se lo vuoi fare che si parlasse più della comunicazione legata al disco che del disco in sé e probabilmente poi cercherò di fare diversamente no perché mi hai menzionato degli artisti che comunque sono rimasti nel tempo la domanda che ti voglio porre è il tuo disco pensi che resterà nel tempo che tra dieci anni noi lo guarderemo ma no ma no credo di no no e questa cosa non ti cioè non tu hai detto che al posto mio saresti preoccupato giusto mi dispiacerebbe ok mi vedi preoccupato sigma male no è tipo Pedro questo è mi vedi arrabbiato no mi vedi agitato no mi sto agitando io adesso no però come vedete ho già risposto non me ne frega un cazzo dell'ascito ma questo è legittimo no lo so adesso no però ti giuro non sono preoccupato quindi non preoccuparti per me sono serenissimo ok va bene allora qui non siamo in un villaggio turistico va bene va bene va bene va bene parliamo di scrittura oddio qui oddio che è la scrittura che ha fatto qua perché il libro l'ha fatto mamma mia no no qua è greve la storia degli autori ti piace sono gasato di parlare di scrittura sì parliamo di scrittura e andiamo con Darjean d'amico aspetta che lo trovo Darjean Darjean è un attore sì sì è un attore è un attore quello che ha fatto i film con Cronenberg ha fatto pure le iene ha fatto mi metti indietro stava sulle iene Corbo d'argento si chiamava con Cronenberg Corbo d'argento il film era pure i tu highlight non è quello dei tu highlight no il film era crash crash di Cronenberg aspetta che lo trovo Darjean 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 ti spiace se faccio un tirino international perché coinvolgere Darjean nella scrittura dei tuoi brani perché no ma che domanda è perché coinvolgere Marco Chitano alla regia perché no sì perché è il mio artista preferito in assoluto di Darjean d'amico sono più fan che amico sono più fan che amico ma anche sì miglior uomo che ci sia la domanda è vabbè sì come ha detto la persona più buona che ci sia e perché il Fedez giovane che abbiamo visto prima non aveva bisogno di Darjean per scrivere un disco e qua ti volevo e qua ti volevo tu implicitamente quindi stai dicendo che Darjean mi scrive i testi no l'ho detto che scrivete insieme ok però questo implica il fatto che io sia un'anomalia giusto? no no e semplicemente sono cambiati i tempi se tu prendi la top 10 prendete il resto perché il vecchio Cerbero non aveva bisogno di Chitano e te con quel cappello una cosa nuova è una cosa brutta per forza sì sì veramente assurdo che ci sono e ditemi se in quelle canzoni come autori ci sono solo i rapper che cantano la canzone tutti i rapper allo stato attuale si avvalgono di autori per scrivere le proprie canzoni questa cosa che c'è un tabù io lo so la domanda è perché il Fedez da giovane non aveva bisogno di Darjean per scrivere i pezzi esattamente perché come gli altri artisti rapper non lo ascolta non lo ascolta non lo ascolta te lo sto dicendo è fastidiosissimo io mi incazzerei proprio porca droga Tori io non ho la capacità di scrivere dei ritornelli o di scrivere delle linee melodiche forti Jacopo prima di essere un rapper cioè per me è sminuirlo Jacopo è un poeta a mio parere e la visione che Jacopo può dare ad un disco la visione che ha dato a me della musica è impagabile cioè Jacopo non è non è solo un autore a mio parere cioè proprio un maestro di vita per quanto riguarda la visione che mi ha dato di come approcciare la musica in questo momento quindi tu dici per capire disumano ad oggi tra i dischi tuoi che sono usciti per te è la miglior cosa che hai fatto no in realtà non l'ha mai detto non è mai uscito fuori dalla sua bocca non l'ascolta non è che non ascolta è che è una tattica più semplicemente secondo me è una banale tattica dico in giro che scrivo insieme a Jay D'Amico ho detto no 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 disumano è il percorso un percorso totalmente nuovo cioè nei miei dischi io non c'è mai una cosa che faccio uguale e ogni disco nel momento in cui esce per me è morto ok per me è morta lì cioè io già voglio fare roba nuova capito e non mi sto neanche ad arrovellare se sia la cosa migliore che ho fatto a mio parere ci sono delle cose interessanti e ho fatto delle cose di cui sono assolutamente contento però ritorniamo a Jacopo perché la domanda che voglio farti io a te secondo te c'è un tabù sui rapper che scrivono con i rapper ma i rapper che scrivono con i rapper sì prima ti ho menzionato autori se noi oggi dovessimo prendere la top 10 come menzionavi tu del rap italiano per me gli artisti che sono in top 10 non avrebbero vicino dei rapper che hanno scritto delle strofe con loro magari degli autori che hanno scritto dei tornelli ma tu però io firmo i testi allora va diciamo giochiamo a carte scoperte ci sono oggi nel rap game degli artisti in top 10 che scrivono con altri che non firmano i testi no 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 scusa giochiamo a carte scoperte che facciamo prima se no non ci arriviamo allora io comunico che lavoro con questo grande artista qui l'unica testata magazine che ha posto il tema del perché scrive Fedez con un altro rapper con tanto degli altri rapper che collaborano con il con lui che dicevano I'll go sbrayter l'unico a porre il tema è stato smg e chi avrebbe dovuto farlo beh siete gli unici ad averlo fatto ma chi avrebbe dovuto farlo no no non lo so questa domanda non ho una risposta ma il tema è siete stati gli unici il problema è che è un tema che vi ponete solo voi perché Jacopo ha scritto in passato per Danti e nessuno si è messo a mettere in dubbio però Danti non è nella top 10 di cui mi parlavi prima non? non è nella top 10 di cui mi parlavi prima cioè tu prima mi hai menzionato la top 10 di oggi se noi adesso apriamo la top 10 di rap italiano andiamo a vedere chi sono i rapper che scrivono con altri rapper ma perché tu pensi che lui sia un rapper ma io non lo consiglio un rapper allora ascolto vuoi sapere se mi scrivo io le strofe? no no voglio tu dici delle cose e vorrei legarmi le cose che dici ne hai fatto anche prima non sono riuscito a legarmi vorrei capire questa cosa tu oggi dici prendiamo c'è un pubblico oggi che non è molto attento a quello che accade nella musica quindi bisogna anche raccontare le cose per come stanno oggi noi prendiamo la Spotify chart dei primi dieci brani nel rap italiano sì ma tu però togli la parola rapper metti autori perché è un autore perché in questo caso Jacopo per me però non hai detto rapper tu l'hai detto non l'ho detto io va bene allora facciamo così i primi dieci rapper nei primi dieci posti in classifica di questi quanti hanno altri rapper che scrivono le strofe con loro per me nessuno nessuno ma in questo caso Jacopo non è rapper non so come spiegartelo Jacopo non mi scrive le strofe questo è il discorso che non capivo che ho chiesto a Fedez ma chi cazzo se ne frega se è un rapper o non è un rapper Dargen è un autore immagino che intenda che non lo aiuta a fare rap lo aiuta a fare musica a fare canzoni capito questo intendo perché anche un rapper famoso non è solo un autore cioè forse è quello il senso che già lo conoscono e non è che è solo uno che fa l'autore non cambia nulla effettivamente non è solo un rapper è effettivamente un poeta è uno scrittore quindi c'è nel senso devo prendere uno che fa rap che non è mai fatto rap ma non ha senso secondo me bisognerebbe fare questo discorso solo sulla base che hai una persona o che ti dà una mano o che scrive i testi al posto tu a prescindere da chi sia basta questa cosa è un rapper è un rapper non ha senso intende che non gli fai il bar e mai ritornare sì sì un discorso che boh marami è un film non mi scrivi le strofe rap i pezzi i pezzi li scrivo infatti li firmo anche io esattamente come per me ci sono degli autori con cui collaboro ok che ho sempre palesato cioè io non è che l'avete scoperto voi io ho detto davanti a tutti lavoro con questa persona e sono orgoglioso di lavorarci ma non vuol dire mi scrive i testi ed è una cosa che è sempre stata fatta passare il fatto che io non mi scrivessi i testi cosa? che non è vera il brano che ho scritto per D'Assuprim per esempio cioè che è fuori dal disco quello l'ho scritto tutto io cioè perché in quel momento non faceva parte del disco Jacopo ha curato la direzione artistica ma la domanda è in tutto il mondo prendi un pezzo di Travis Scott guarda quanti autori ci sono ma qualcuno si sta ad interrogare quanti autori ci sono se fossi io l'unico rapper e non sono rapper ti sto dicendo su questo Simo penso che abbia ragione al 100% no sono serio che ha detto vabbè ha fatto esempio Travis Scott dice pure lui è pieno di autori giustamente a prescindere dal genere ma una puttanata basta che significa mi sembra il meme da boomer che fanno vedere Bohemian Rhapsody scritta solo da Queen e Beyoncé scritta da 40 persone basta sono cambiati i tempi non c'è nulla di male nel collaborare si creano delle cose che dovrebbero piacere al pubblico punto e basta cioè si crea arte e se si collabora spesso esce anche bene meglio ma perché? perché c'è un disonore se non ti fa le cose da solo nella stanzetta sti cazzi però è vero però che c'è un grande onore che viene dato tipo ai pischelletti tipo da Supreme che si fanno tutti da solo quello ci sta lo comprendo e dico bravo io li premio perché penso che hanno delle skills in più ma non è che rende chi ne ha nemmeno una merda è un discorso molto separato che abbiamo fatto pure spesso l'ha detto anche giustamente di Chele di Greve che al pubblico non frega un cazzo quanti odori hanno scritto una canzone gli viene proprio un cazzo dipende solo se gli piace o se non gli piace è per questo che cercavo di parlare delle canzoni contenute in questo album per capire se c'è un tormento se c'è qualcosa di rilievo sapore sapore di sale sapore io lo spero perché non si sta a parlare di musica quindi non si può parlare c'è solo molto di personale grazie per il sub sì comunque torniamo al discorso di prima quale? sono poi altre cose andiamo avanti no era Warhol o Duchamp andiamo avanti faremo una live apposita su Duchamp sul cinema ci sono artisti che fanno che nella storia magari facevano tutto loro Duchamp tra virgolette poi al cinema è una cosa diversa più ampia però che fanno direzione del montaggio direzione della fotografia questo con supervision tutto altri invece che semplicemente selezionavano i migliori tecnici tipo Dario Argento nel momento in cui infatti sono venuti meno i tecnici i film facevano cagare ma lo stesso Fellini ti metto Nino Rota metto questo ma quello non è un talento i tecnici italiani è vero è vero è sacrosanta ma lo stesso esempio a caso Renato Zero poeta ok bravissimo a scrivere testi e a stimperlare la chitarra però finiva là cioè tutti gli arrangiamenti sono stati fatti da maestri di conservatorio non è che lui non è che è un disonore per Renato Zero cioè si è impegnato per massimizzare il suo talento che è quello che si fa quando si cerca di collaborare con qualcuno uno mette quello che ha e se c'è una cosa che va oltre me e te se la creiamo insieme quindi questo disonore io non lo capisco ragazzi Ridley Scott non cura mai le sceneggiature quasi mai solitamente manco le tucche Ridley Scott come? intanto l'ha fatto non c'è niente di male infatti ragazzi io vi devo salutare che c'è gente a casa ciao Marco a domani buon proseguimento mi dispiace perché ero presissimo però vi seguo dal cellulare ti giuro questa storia come si conclude grande ragazzi ti contatteremo ti chiameremo solo per dirti come si è concluso benvenuti in paradiso di David Rubino è vero anzi Marco facciamo una cosa se vuoi facciamo una call mentre ritorni a casa mentre arrivi con calma in collegamento apriamo discord puoi ascoltare su discord ti aspettiamo su discord ciao Marco ciao Marco tra l'altro quello che abbiamo detto prima quello che lascia aperto che c'è una cappa cioè quello che abbiamo detto prima l'abbiamo citato di Velvet Underground non sono un perfetto esempio di unire diversi talenti con Nico eccetera vai tranquillo Simo che mancano solo 43 minuti io mi sono ordinato un pochè quindi finché non arriva il pochè io devo stare qua poi finché me lo mangio più che altro scusate se sto a parlare troppo però sono argomenti interessanti sarebbe un freebooting no ma finché stiamo sul discorso a voglia pure perché so cose che mi stanno a creare in te e resse pure a me per carità di Dio i fratelli Nona e i migliori film che cosa fa Nona sono quelli di scrivere il fratello sì anche se tu prendi un mio brano ci sono più autori così come se prendi nel disco di Cosimo o nel disco di Marla nel disco di Fibro nel disco di Salmo ci sono altri autori ma dove sta il problema? nessuna parte tra l'altro Salmo gli ha dato ragione ho visto le storie l'altro giorno in cui ha scritto tipo su Fedez su questa cosa Fedez c'ha ragione non c'è niente di male è strano è normale che solitamente va sempre in controcorrente all'inizio però me l'hai posta come se io fossi un'anomalia non lo percepisci questo? no io sono semplicemente chiesto perché coinvolgere Darjean e perché il Fedez giovane non aveva bisogno di Darjean per scrivere i testi e non mi ha ancora risposto a questa cosa bello solo sapere questo implica che non è più buono essenzialmente ovvio ma veramente non sei più in grado che gli va a defancato si va a fare cose dagli altri non sei più in grado non è così nella musica incredibile perché la musica si è evoluta e così come tutti gli altri artisti hanno bisogno di altri autori io la musica la vivo in questo momento come condividere con un gruppo di persone cioè è troppo brutto in questo momento non fare musica insieme ad altri non cercare di apprendere da persone che ti possono dare tantissimo e credo che questa cosa la faccia io così come la fanno tutti gli altri però io ti faccio ehi live train grazie dai regà dai con st'ive train per questi restanti 40 minuti dobbiamo arrivare a 7000 io non ce vedo qua non so quanto stiamo se ne mancano tipo 30 6972 dai cazzo se noi dovessimo andare a prendere adesso il disco di Marra o chi per lui per me gli altri autori ti parte la pubblicità con la sub con la sub devi aggiornare evidentemente riavvia riavvia solo dove ci sono delle collaborazioni credo eh e invece ti sbagli mi sbaglio prendi un pezzo di Marra io lo so perché nel disco di Cosimo ha lavorato un autore che è amico di Paolo Antonacci che scrive Ritornelli e le ha scritte Ritornelli Kumite di Salmo è scritto con Takagi e Ketra e Ritornelli credo l'abbiano fatto loro ma che male c'è non c'è niente di male solo per parlare però stai dicendo no non c'è niente di male solo per parlare la domanda che ti ponevo è e però hai detto una cosa che non è vera vai vediamo vai vediamo Spotify vai su andiamo a vedere i primi dieci pezzi in classifica da Spotify Charts andiamo a vedere questa cosa classifiche prendi il numero uno vai chi è il numero uno lo sai? non lo so prendi il pezzo numero uno Love aspetta io sai che era Love almeno vedevi al telefono su Ripia l'abbiamo visto quella di Guiammarra no vai faccio io faccio io dai madonna mia che trigger vai classifiche ma è inutile che ripeti non lo sapevi cioè mi pare tipo l'Iccardo con il GDPCR il GPDR quello che serve si lo sa io sono le classifiche vai vai classifiche anche tu non sai fare? anche tu lo sai fare non sai fare ah non sai fare peggio vai faccio io faccio io dai c'è sta tipo l'archivio delicio jelly dentro quel telefono si infatti chissà che c'è sta maia che tensione bravo un messaggio whatsapp bravo lo stai asfaltando quel coglione di Fede da parte di Uli da parte di Uli è tra un po' che si scannano regà tra un po' si scannano aspetta facciamo così c'è figura di merda Spotify charts mi sono dimenticato di fare una domanda a Fede Fedes cioè la percezione del pubblico perché ho visto che lui dopo ha chiacchierato magari con qualcuno del pubblico chissà che gli hanno detto come loro hanno percepito quest'aria secondo me ne è uscito molto meglio lui comunque come ha detto non ne è uscito bene manco lui perché ovviamente stavano triggerati tutti e due però si di Kele purtroppo che Tezzotti inevitabilmente è un po' di merda di Kele proprio per quanto uno possa essere diciamo indulgente con lui che cazzo di conduzione dai veramente il primo pezzo è Love Guè Marrakesh il secondo è Blitz Juillier e Guè vai vediamo vai il primo Love vediamo Love chi lo ha scritto Guè Marra Love è scritto da poi qui c'è anche i produttori Fabio Rizzo Cosimo Fini Stefano Tognini poi adesso giochiamo online Alessandro Pulga che è Marz Stefano credo che sia Zef ma controlliamo vediamo subito quindi quanti sono? quattro eh ma due sono i produttori lo sai benissimo anche tu che in studio i produttori non è che scrivono sei in studio con i produttori il produttore ti dice fammela un po' più alta fammela un po' più bassa e lì si è accreditato no è semplicemente per spiegare a loro perché sono cose che sappiamo solo noi da interni semplicemente lo dico così va bene ma e adesso mi chiederai dove vuoi arrivare da nessuna parte semplicemente per rispondere e dire in maniera corretta le cose che diciamo semplicemente questo Fede ma non c'è niente di male lui voleva puntualizzare il fatto che scrivono loro e che il testo non viene cambiato da nessuno perché stanno in studio solamente con i beatmaker lui vuole puntualizzare questo non lo fanno tutti loro Marra e Guè scrivono da soli questo pezzo è scritto da loro da soli poi io non so perché francamente di queste cose non mi sono mai andato ad informare su Spotify e poi scusami una cosa ma se io domani gli dico Marra in questo caso il mister sborra scrivimi una canzone però io a te non ti cito esatto e io scrivo che ho fatta io cioè vedete ragazzi infatti secondo me si cade come nei botte su Twitch mi sto già rompendo i coglioni è un meccanismo che non mi piace pure io l'ho detto in passato magari verso qualche youtuber che si faceva scrivere il testo da becco però in quel caso era perché secondo me faceva cagare pure se si era fatto scrivere da una persona molto brava poi non so se sto di cazzate secondo me avrebbe dovuto dirlo Fedez perché qui si sta ignorando l'elefante nella stanza perché di che le ha rotto il cazzo a Fedez perché Fedez ha detto lavoro con Dargen ma tutti quelli che c'è nei Ghost Rider che sono tanti sicuramente Fedez lo sa che lo so pure io alcune persone me l'hanno detto e invece devono passare per grandi artisti che fanno tutto da soli e questo è il problema e questo è l'elefante cioè solo questo si loro sono bravi tu sei una capra e questo è si questi stronzi del pochè hanno scritto buon appetito come se fosse già arrivato in questo caso tutte le volte che mi accadono così è stato scam perfetto vi dovrei chiedere un favore se mi fate chiamare il ristorante con il vostro telefono perché io non posso e in caso annullo in caso vi blasto mi metto vicino alla finestra io vorrei far ascoltare se non attivare i mic nella sala musicale io vorrei far ascoltare la chiamata magari vediamo se prende già da qui e li chiamo ma lo sanno tutti è scam sicuro esattamente elefante nella stanza è un modo per dire quello che è per un scritto andiamo come sa che dicono la via vabbè caso mai mettite col dito sul non prendo comunque nei depositi sia sono segnati sia come produttori che come scrittori del testo quindi di che l'avete pensato grazie Matteo non lo sapevo non lo sapevo chi di questi rap ci sono altri autori che hanno scritto dei ritornelli sì c'è anche nel mio disco basta cazzo 4 grammi esatto te l'ho chiesto basta volevo solo sapere per te perché il Fedezio Giove non ha bisogno solo questo perché ci si evolve e si fanno esperienze nuove ok e chi dice che i tuoi dischi più belli sono quelli passati che cazzo di domanda è non sei più quello di MyFist il tuo credo è meno 16 euro non posso chiamare cioè che cazzo io non chiamo mai nessuno ma lo avresti tu andiamo bene andiamo bene mamma mia che poracci tu dire spero bene ecco perché non chiamo mai nessuno questo è il vero motivo e poi sono l'unico coglione che in Italia non ha la promo sulle chiamate neanche su internet e io lo sai che non lo so se c'è il promo mo lo scopriremo tra poco perché pure io non chiamo mai non chiamo mai mi devono chiamare gli altri al massimo chiamata no è con internet eh sì vabbè è amen mi fate esatto che c'è una lira cosa devo dire sono quelli passati è amen cosa devo dire capite sono domande chiuse che ti devo dire sono una merda non c'è più MyFist allora love 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 per te un disco scritto per la maggior parte con altre persone si può definire un disco personale scritto con altri autori non è una critica a te stiamo parlando di musica e baccavoli abbiamo appena finito di parlare perché lo sta specificando però non so sempre si può definire personale beh nel momento in cui io scrivo anch'io sì cioè io scrivo le strofe e i ritornelli li faccio con altri sì così come fanno tutti gli altri e il fatto che tu lo chiedi a me e agli altri artisti che fanno la stessa cosa non lo chieda è un po' è un po' così ma va bene lo stesso ti voglio bene perché ti sei visto tutte le interviste quindi? no ma sono certo guarda sono sicuro che tu non l'abbia fatto perché ho visto tutte le interviste dove chiedi di me quindi si è visto tutte le interviste e so beh sì tutto esaltato guarda ma dillo senza godere però quindi mi guardi quindi Fedez mi guarda oh 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 so di lo starti simpaticissimo te dove chiedi di me quindi si è visto quasi tutte le interviste e so e so di lo starti simpaticissimo quindi diciamo ma benissimo vogliamo parlare del fatto che chiedo di te alle interviste? vogliamo parlare di questa cosa? eh se vuoi sì fede ma ma io penso che ma anche in America succede questa cosa ci sono degli artisti che sono dei punti di riferimento io l'ultima volta ho fatto un'intervista a Marra dove gli ho chiesto di una cosa ora l'ho fixato l'ego da fibra e tu come ti dicevo prima sei un artista che per me ha capito delle cose prima di altri no? quando ho chiesto di te ad Amis e Jake gli ho chiesto una cosa in relazione ai soldi e ad Amis quando ci ho parlato gli ho detto trate un momento nella vostra carriera in cui eravate paralleli tu hai fatto delle scelte e Fede non le ha fatte ma per me è semplicemente un modo per raccontare un periodo storico che non viene raccontato c'è stato un periodo nella tua carriera no? in cui tu ad un certo punto avresti potuto avere o fare gli stessi passi che ha fatto Fedez ma la sensazione che ho io e l'immagine che ho io in testa è quella di un Amis Killa che è di fronte ad una porta e decidi di lasciarla chiudela e tornare indietro assolutamente sì ti dico anche quando vai quando sono uscito da The Voice e tu sei uno dei pochi che ha deciso di fare delle scelte diverse ma non ci trovo niente di male in questo tu ci trovi qualcosa di male se me la racconti così assolutamente no ti assicuro che se tu guardi il tono in cui parli della mia persona in tutte le tue interviste si nota una vena un po' più dici che non ti piace quello che faccio ma credo che tu l'abbia detto ma chi era sta gallina io da qua te giuro sentivo e giuro ha fatto pronto ha fatto pronto poi pronto mi sente ti vovo solo squillare nella stanza parlava normale con me hai fatto pronto mi senti ho fatto l'ordine per via ok sì un attimo che chiedo ti giuro guarda no regà ve giuro giuro non è perché è una donna era proprio sentivo proprio un acuto che squillava urlando è una certa urlato sentivo va bene ho detto grazie speriamo che arrivi subito vediamo se mi manierò sto pochè posso dire stiamo perdendo tempo a parlare di sta cagata nel senso che indipendentemente non capisco cosa c'è di male in questa cosa no non c'è niente di male però indipendentemente da questo io prima di essere fedez artista che ha fatto le scelte che tu sei una persona sono una persona se tu parli di me in un determinato modo non in mia presenza in maniera continuativa mi viene da dire quello che poi ho detto nella canzone che ho fatto no di Kele che chiede di fedez ad ogni secondo e credo che rispecchi in maniera abbastanza esemplare quello che succede io la prima volta che ti per esempio quando tu intervisti Cosimo la prima volta che ho visto l'intervista dove parli di me e dici sai la mia paura è che tu facessi un feat con quelli là no gli dice Cosimo e si capisce che non c'è della artisticamente parlando non è che sia un grandissimo fan e allora non capisco cosa c'è di male se io chiedo di te ma non c'è niente di male potrò dirti che è una cosa che mi sta sulle palle qua mi sembra legittimo benissimo e quando hai parlato di me l'hai fatto rappando però ok dove vuoi arrivare no chiedendo quindi non sei un rapper ma rappi si ok molto strano non pensi non è strano niente è pure fiero di questa cazzata sono mille artisti che non sono propriamente rapper che rappano ogni tanto nei loro brani e io gli chiederei perché 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 me va così voglio rappare oppure ostile mio è questo no perché no a Fedez io risponderei al posto di Fedez a lui perché infatti ragazzi l'intervista è tutta così levato quel piccolo spezzone è tutto vabbè quindi è proprio quindi perché c'è sempre una velata insinuazione ma quello che dico io è di che le può anche avere le sue ragioni per disprezzare la condotta di Fedez ma dillo ok io dico esplicitamente questa operazione della disney mi fa cagare perché abc lo dico invece sono tutte domandine nascoste non ti sto dicendo non è una critica non è una critica e va diretto e che cazzo dillo dillo si nasconde col palmo della sua mano come si suol dire tutto nervoso cioè è palese che lui ripeto abbia sempre preso Fedez come esempio negativo e ci sta ok ci sta però argomenta questo cioè dice questa scelta mi fa cagare perché X perché porta Y è arrivato no no Gianluca no no non mi stranisca il corriere è che arriva il segnalito oggi comunque live è lunghissima è mezzanotte ma non manca molto però state ancora con noi quindi ci fa piacere una live extra lunga si si come il pisello di un mandingo ecco il segnorito col pochetto ho preso pure l'embaquete che ho comprato non le vedevo non le vedevo le bacchette ma ci sono ci sono raccontaci il corriere si è messa a ride stavo a ieri da chiave vabbè era cinese comunque ok vai andiamo avanti guarda fiero fiero tipo vabbè andiamo avanti come vedi l'ho buttata ce l'ho vai andiamo avanti a me dopo questa chiacchiera ci staremo più simpatici è così che fa la scena rap vedi ma quando inviterò qualcuno che mi sta sul cazzo a San Siro non potremmo dire niente non insiste quando inviterò ancora con sta cazzata preciadina ancora con sta cazzata preciadina non gliela fa allora andiamo avanti l'hai presa bene dai vabbè effettivamente è intrattenente è proprio una merda intrattenente vuoi scegliere tu il numero? no fai tu vado io? ma ne mancano pochi e Fabio Fibba ne abbiamo parlato ti va di parlare di insicurezza? si vai vai insicurezza no ti va di parlare di insicurezza? no no buono zi carino carino sai mi ha fatto e ne vogliate pochi che c'è sta? fammi vedere un po' edamame edamame mandorle salmone mandorle avvocato edamame appunto mango ah il mango buono salsa teriyaki salsa risoi basic ma buono compra il nuovo di mango mio dio che disgusto dov'è finito il gusto? sono quello giusto per farmi iniziare da questi rapper dipendenti è marcio ah ok rapper dipendenti insicurezza? ti reputi una persona insicura? eh sì mi reputo una persona insicura in quali contesti? come? ehm prevalentemente nella musica prevalentemente nella musica ehm avendo fatto no miss non siamo in live registrato via ho compreso come nella musica se nel lato imprenditoriale mi sento molto più sicuro nella musica ci sono tutti i traumi eh è come se facessi all in al al poker no? e quindi c'è c'è dentro c'è dentro un po' tutto e il che mi rende assolutamente assolutamente grazie bro dai è che stiamo quasi a 7000 più insicuro di me e come manifesti questa cosa invece nella musica questa tua insicurezza? nella scrittura dei testi li riscrivi più volte non li ascolti una volta che hai finito di registrare no semplicemente non non avendo non avendo un'alta considerazione di ciò che faccio credo ehm Eric Fromm Fromm dice uno psicologo che ha scritto il libro l'arte di amare dice bellissimo me lo consiglio a mio padre e lo lessi top libro eh di arrivare alla sicurezza ma di arrivare a tollerare l'insicurezza ah beh sì certo sono d'accordo come riesci a tollerarla è possibile tollerarla? ma è assolutamente possibile tollerarla col tempo credo che ognuno trovi il perimetro in cui stare e convivere con le proprie insicurezze sì assolutamente e in che cosa oggi ti senti più sicuro? mi sento mi sento sicuro di non aver paura di sbagliare di non aver di essere fuori dalla competizione credo che questa cosa in primis sia sia la 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 prima catena che si spezza no? e oggi quando vedi un artista che magari vende più di te oppure riesci a fare magari performa più di te o fa palazzetti stadi non è una cosa che ti tocca non ho letto questo libro no perché la sfida è con me stesso come fa ad essere con gli altri è un saggio che parla essenzialmente dei rapporti umani cerca di spiegare l'arte di amare questa è la premessa no? ma in realtà ovviamente non ti insegna ad amare qualcun altro è più amare te stesso poi vabbè è un libro abbastanza antico non mi ricordo di che anno è precisamente ma mi pare non lo so vorrei una cazzata è un saggio romanzo come romanzo? grande ratto è scritto tipo saggio non me lo ricordo male si bode si bode grazie si gode e si bode si bode grazie e si bode e qua tra poco oddio ma manca pochissimo greve meno 8 nuovo record top cioè io non mi sento di dover dimostrare più nulla cioè 10 sub 7 eeeh andiamo nuovo record chiameremo lo yao grandi grazie 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 ragazzi ti aspettate un attimo grazie mille grande grazie mille grazie anche a Tony top record storico raga sto contento dai dai che sta vicino nei boss car mamma mia vorrei dirvi tutto vorrei dirvi tutto ma non posso non possiamo non possiamo tante sorprese mamma mia sono carichissimo spacchiamo i culi a tutti non mi ricordo neanche più che cazzo dicevo scusate posso fare una ricarica adesso si si l'ho scritto io no no citavo blu citavo blu le mie il vabbè lo ricordo io Fedez la mia ambizione ha superato di gran lunga il mio talento grande frase di un pezzo molto bello assenzio gran pezzo bella frase si che sostanzialmente le mie aspettative hanno superato di gran lunga il mio talento non era messa giù così ma era una cosa simile e e credo era così allora ve lo dico vogliamo Adam Kadmon ve lo dico ho parlato un'ora e 45 oggi pomeriggio penso che siamo gli unici in Italia che ancora vogliono Adam Kadmon per qualcosa io Tobi che ci ha fatto un video e mi ha detto un video molto diffamatorio nei miei confronti greve manco io Tobi ho parlato un'ora e 45 e mi ha chiamato lui ovviamente con io Tobi con io Tobi e sto organizzando grazie ad uno di voi io Tobi sarai Boscar no non è vero grazie ad uno grazie a uno di voi perché uno o più ragazzi hanno scritto su Facebook ad Adam mi ha contattato personaggio pazzesco dico solo questo personaggio come potresti definirlo Gianlu misterioso mistico curioso sul livello curioso sul livello misterioso ok era così le mie ambizioni hanno superato di gran lunga il mio talento e quindi cos'altro devo dimostrare in questo momento ho davvero altre priorità ti giro la domanda allora cos'altro puoi dimostrare allora guarda quello che mi piacerebbe dimostrare non vorrei dimostrarlo con la musica cioè la musica non è contemplata in questa cosa cioè la musica è un un modo per sfogarsi per mettersi in discussione per mettere in discussione dei temi e e dove divertirsi sostanzialmente ci sono altre cose su cui mi piacerebbe avere delle sfide mi fai un esempio in questo momento con la mia non parla da musicista cioè qualsiasi musicista che ci crede io direi sempre sì ci credo ho ancora tante cose da dire io sento una fontina esauribile no e penso che sia simile ovviamente conoscendo altri musicisti che c'è questa sensazione di essere sempre un pozzo che non si esaurirà mai no magari lui veramente si concentra di più sul marketing come tutto prima la sua vera passione è quella e ci sta ed è stimolato ma uno deve fare quello nella vita ragazzi è per questo che sentire e si dire da uno quant'anni c'ha a Fedez cioè da un trentenne che non ha più nulla da dire su qualcosa è un po' triste no aspetta con la musica però con la musica con altre cose quindi evidentemente con altre cose sì è quello che sto dicendo però appunto mi fa intuire che quella cosa che hai detto tu prima è vera al 101% però ora c'è proprio la conferma sì 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 così così senti non avere nulla da dire per innovare la musica ma magari per altre cose sì tra l'altro secondo me te l'ha detto anche in realtà in altre interviste è la cosa che lo rende più insicuro se non sbaglio pure nella serie dei Ferragnez dice proprio una cosa del genere durante Sanremo tutta una parte in cui lui vabbè attacchi di panico comincia a tremare sul stomaco è interessante la serie ho pure recensito e lui dice su altre cose io mi sento sicurissimo tipo quando devo fare una campagna quando ho un progetto quando mi affidano qualcosa io lì non temo nessuno sulla musica sì ho paura del pubblico ho paura di come verrà recepita questa cosa ho paura di fallire magari altri hanno il terrore per quanto riguarda il marketing esatto e sono invece animali da palcoscenico sì magari sono dei capri per quanto riguarda il marketing non si sanno vende tipo me io ho il terrore di del momento in cui la mia musica dovrà per forza essere marketizzata perché mi sento totalmente incapace di ragionare in quel modo sulla musica tipo su youtube ci sono sempre riuscito un po' a vendermi cerbero adotto tattiche di marketing del cazzo anche sulla musica non ci riesco perché magari gli do un valore quasi mistico che fa oltre la terra ho capito invece se metà tempo alco dico dai ho capito qual è il tuo processo una volta che hai finito il tuo processo creativo vorresti quasi che la gente lo prendesse e basta sì io ho appunto Milano che è un pezzo che ho finito un anno fa ancora nel mio harddisk perché c'è tutta la struttura videoclip pubblicità c'è tutta la cosa da fare dopo che io il mio lavoro sento ormai di averlo fatto la canzone è finita quei tre minuti e trenta sono riempiti tutto irriempibile sono soddisfattissimo poi dico devo fare videoclip devo fare la campagna dei marketing mi devo vendere bene devo fare la cosa su instagram e dico non me va a shamper preferisco tenermela nel mio harddisk e ascoltarmela io ed è quello che sto facendo da un anno me la riascolto la faccio ascoltare chi viene a casa mia ti capisco perché facevo lo stesso discorso quando lavoravo in palestra odiavo vendermi infatti andavo avanti col passaparola le persone dicono mi trovo bene con Davide ti porto quest'altra persona quando è genuino io sì cioè mi rompevo il cazzo ad andare dalle persone guarda sono bravo quanto te capisco è quella di ogni anno avere un obiettivo da perseguire con la fondazione e di portarlo avanti in questo momento l'iniziativa che è nata con Tog è partita con il disco ma dovrà bella mercante nell'arco di questo anno e l'obiettivo che mi sono dato è abbastanza importante vengo da un'esperienza pergressa che è il fondo per i laboratori dell'ospettac che hanno avuto problemi su youtube dopo che dicevano queste robe su di che erano anni fa copyright ah copyright è il suo cioè è il suo diritto farlo altri problemi li affronteremo dove si è riusciti a raccogliere mi pare più di 6 milioni di euro e di conseguenza ecco fare queste cose mi fanno sentire utile e al netto aggiungo un layer qui mi lancio secondo me anche tutte queste mosse diciamo virtuose di Fedez beneficenza il discorso di San Raffaele i fondi per gli artisti sono cose che lui secondo me fa anche perché non ha questo timore di essere blastato infatti sono cose comunque di DL Zana sono cose comunque safe ok che anche se ti rompono il cazzo pure su quello tu sai che stai facendo una cosa buona e quindi si impegna tanto per questo invece forse perché comunque all'inizio come ha scritto pure qualcuno faceva freestyle faceva tanta roba anche il fatto che per tanti anni lui sia stato super blastato che la gente l'abbia sempre preso come esempio negativo all'interno del rap sei rapper perfighetta eccetera anche inconsapevolmente però non lo so voglio fare psicologo dalla domenica però mi sembra che su quelle cose lui riesca ad impegnarsi un po' lo capisco cioè non so forse Giallo pure tu puoi dire qualcosa su questo nel senso il periodo in cui tutti ti blastavano ti ricordi cioè tu ti sentivi pure bloccato invece magari adesso che la gente dice oh cazzo Giallo come hai fatto ieri tu sei pure più stimolato a fare le cose sì 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 poi nel mio caso funziona abbastanza che quando cioè che è molto benzina per me quando vedo sia la gente che ride sia quando vedo la chat che si salta però sì è ovvio ti butta giù ti butta giù ma tu dove volevi in maniera completamente diversa però sì io mi sentivo tarpato sì io mi ricordo stavi proprio un mood ma è la stessa cosa che vi ho detto in un off live che ora non ricordo neanche quale tipo se mi capitava in caverna magari non avrei detto quella battuta ora non mi ricordo mi era uscito tipo con una frase simile sì perché magari dico vabbè fammi sta zitto perché comunque è abbastanza greve e dice ora me ne sbattavo è limita è limita ovviamente certo ma tu che volete su Fetters l'ho detto questo ah perché era blastato essenzialmente sì un mix di cose poi non per forza a sproposito cioè anche critiche magari si è reso conto che non riesce più a a dedicarsi appieno col cuore a questa cosa forse perché l'impatto emotivo che riceve negativo è troppo forte invece su altre cose è anche un po' il discorso della profezia autoavverante no? che facevano non mi ricordo con chi forse con Carnevale non mi ricordo però sul discorso dell'insegnamento perché quando un professore una maestra ti dicono che sei bravo tu effettivamente un po' lo diventi perché ci credi invece quando te bastona troppo tu ti senti una merda e a un certo punto rinunci ma è anche il discorso che siamo naturalmente più attratti da fare cose che ci fanno stare bene piuttosto che ci fanno stare male no? quindi alla fine uno si ritrova a fare cose inerenti a se stesso sì sì vabbè io posso fare un esempio al benesse io mi sono molto divertito a registrare Blue Valentine molto divertito con Dave con Alex è stato bellissimo per me è chiaro che è una cosa che non so fare non è roba mia però mi sono molto divertito mi piace un po' scrivere così e parlare a cui parlavo non è che cantavo però ovviamente per questi boss non rifarò un'esibizione musicale tra virgolette ma non dico che siano state sbagliate le critiche dico che ovviamente preferisco dedicarmi a cose che so fare però riportata questa cosa su un discorso più ampio io vabbè non ho mai avuto minimamente l'idea di fare qualcosa vicino alla musica però se ovviamente avessi ricevuto un impatto meno violento probabilmente avrei fatto qualche esperimento forse qualcosa di carino sarebbe uscito forse è merda quindi forse è anche meglio questo però vabbè vabbè guarda che dipende pure quando lo fai a prescinde pure se la gente ti blasta sì sì là è cioè io per dirvi quando ero piccolo facevo canzoni ma alcune facevano schifo e me lo dicevano e io avrei potuto quittà però sono andato avanti sul resto l'ho fatto nel senso che poi alla fine pure al cerbero ero overblastato all'inizio poi sono andato avanti perché avevo più diciamo sicurezza di me in determinate cose poi bello non significa che le critiche non siano state giuste però guarda poi poi vi racconto un aneddoto in questa live no perché per due motivi uno perché stiamo già a danzare qui in live se fatto tardi e due perché siamo in troppi c'è stanno persone che magari non ci stanno in altre live io sono stato bullizzato tra virgolette perché comunque dipende uno da come lo percepisce quando c'avevo 13 anni e mezzo su youtube su un videoclip dove io c'avevo la faccia quindi ma poi lo racconterò magari hip hop che è un rap però sei molto bravo a fare quella roba sarei 13 anni e mezzo e ma io mi hanno preso per culo durante una serata pure due che ora sono pure artisti abbastanza riconosciuti senza un po' e io ho avuto pure vabbè lasciampe lasciampe ma no ma ci sta poi ripeto vabbè io sai che io ho tante cose da raccontare però dico sempre tempo al tempo come dice il professor ho anche ogni cosa a suo tempo chiaro ci sta certo ovviamente questo non significa che uno non debba criticare il rischio che poi questa cosa possa impedire ad altri questo io lo dico quindi super legittime le critiche che ho ricevuto vado comunque fiero di quello che ho fatto ma come diceva anche Fedez magari lo farò anche però per il momento non voglio investire tante energie in una cosa che probabilmente mi porterà tanta negatività questo è il punto semplicemente no ma ho continuato poi con tutto che non mi è andata bene comunque ci ho messo la faccia fino a 18 anni e mezzo credo e quella persona era Fedez ho conosciuto Fedez infatti da Alviva allo studio dove andava registrare e lui era andato lì perché collaborava con persone che registravano là e l'ho conosciuto una volta lì mi pare c'avevo 16 anni credo che gli ho detto pure durante l'ho modificato gli ho pure raccontato no no non stiamo in live è una replica quello che si possa dire io preferisco preferisco fare qualcosa piuttosto che stare a guardare mi rendo conto di avere in mano un potere importante e metterlo a disposizione di cause e di di realtà che hanno bisogno di riflettore che un riflettore venga acceso su di loro è la cosa che mi appaga più di tutte è la cosa veramente che mi fa alzare la mattina e dire cazzo Federico hai fatto qualcosa di utile anche per me stesso non c'è nulla di male assolutamente no le critiche mi sembra una persona molto attenta prima mi menzioni l'intervista poi anche quando parli delle cose che fai comunque menzioni dici che sei stato criticato molto per cose che hai fatto come vivi le critiche ti toccano? ad oggi Darth Vader nel momento in cui è Fedez quando sbapa ah è Fedez no sentivo da qua sotto poi mi arrivava no da no che mi arrivava da Cristo ma dove sta la cazzo? sta qua la cazzo ma che cazzo ne so mi sentivo qua sotto da Cristo tipo un Darth Vader meno male che ha smesso di farlo a muscolare mamma mia perlomeno ha capito che si deve mutare quando sbapa la musica e si è arrivato al processo quello che dicevo prima al processo alle intenzioni quindi a dire non è solo un artista quello che dicevo prima al processo alle intenzioni quindi a dire che succede? è successo? ci è arrivata una PEC no no aspetta è solo un artista di merda è anche una persona di merda no? che che è un taglio? oggi non riguardano neanche più la mia cioè credo che si sia superata la fase della critica alla musica e si è arrivato la mia cioè credo che si sia superata la fase della critica alla musica è un taglio? no perché ad oggi no nel momento in cui le critiche la maggior parte delle critiche ad oggi non riguardano neanche più la mia cioè credo che si sia superata la fase della critica alla musica e si è arrivato al processo quello che dicevo prima al processo alle intenzioni quindi a dire non è solo un artista di merda è anche una persona di merda no? che che non si può combattere al netto che non mi interessa combatterla ma anche se volessi non si può perché nel momento in cui tu fai un processo alle intenzioni alle persone cosa ti posso dire io? che non è vero e non posso dimostrare il contrario io mi sono fatto però per scrivere questa intervista un giro delle recensioni legate a disumano no? le hai fatte tu io non lo farei male io ho fatto un giro per cercare di capire ma poi vi spiego perché perché so che c'è un taglio in relazione a Marrakesh il rap no? qual era? com'era arrivato questo disco e le recensioni non sono positive però lì non si parlano delle intenzioni si parla proprio di musica e si dice si dicono cose come Fedez non ha più nulla da raccontare oppure una finta profonda è anche una persona di merda no? che è che è e poi me lo vedo da solo scusate l'unica cosa sai che sta qua in questo spazio ah ok ok abbiamo agito veramente in totale anarchia nel senso che siamo usciti solitamente si esce con tutto il disco insieme noi avevamo già fatto sei o sette singoli prima proprio perché avevamo cioè nella testa il disco era più un'esigenza di contratto discografico se fosse stato per me io avrei fatto uscire singolo per singolo perché ho compreso che uscire fare uscire una canzone una canzone dopo l'altra mi dà l'opportunità di raccontare meglio la canzone sì cioè in questo momento tutti i dischi hanno una vita molto breve non tutti vabbè però è molto veloce è molto più rapido rispetto a prima sì cioè questo è inevitabile per me per come comunico io con le persone dare il giusto spazio ai brani e avere modo di raccontarli con anche più calma senza stare per forza dietro ai ritmi della discografia è stato è stato un bel esperimento e quindi una cosa che avrei voluto fare è uscire singolo dopo singolo in modo tale che avrei potuto raccontare meglio tutte le canzoni non potevo farlo che aspettative avevi con questo disco nessuna aspettative nessuna cioè è vero non posso dimostrare il contrario io mi sono fatto però questo è il taglio 1,16,50 49 ok ed era 1,20 1,19 e 45 eccolo già adesso il fatto che il sapore stia andando benissimo mi stupisce perché pensavo che la forma album non avrebbe funzionato così tanto da far ascoltare anche le canzoni del disco dopo che erano uscite così tante tracce quindi sono piacevolmente stupito del fatto che Stapore stia funzionando in qualche modo sì poi ci siamo lasciati fottuti e riviste poi ci siamo baciati nei posti più tristi ti ho portato un regalo questo è un cavo lavoro voglio farti un regalo la sento sempre vedi andare a dormire qualcosa di dolce un bel poke un bel pompi un bel pompisi pompisi pompino pompino chi lo sa ho portato un libro che si chiama l'arte chi lo sa se stasera pompisi o pompino bello bello però è un bel ci sta vorremmo farla cantare Canepazzo la scriviamo Canepazzo fit Kitano Dai Tutubi Director sì tu dici dai e in realtà pure te hai fotto il posto abbiamo due stili completamente diversi Marco tu non sai ma già sei imbrattata la tua postazione di salsa di soia sì ci ho pure sborato sopra lui è il mio autore preferito si chiama Murakami in questo libro si parla di scrittura quando quando abbiamo pensato di fare questa intervista ho detto una cosa di cui vorrei parlare con fede è la scrittura e ti volevo chiedere quanto tempo dedichi alla scrittura ogni giorno? io? sì ogni giorno? sì ma guarda io scrivo tantissime cose e leggo altrettanto e non sempre le cose che scrivo sono sono musica rettamente musica ragazzi alcune cose non le posso dire poi se come prima vengono dette da altri ok però io devo proteggere le mie fonti che cosa scrivi? mi capita di scrivere poesie mi capita di appuntare pensieri mi è capitato anche di dover scrivere dei monologhi da fare in televisione mi capita mi capita di scrivere le cose più disparate diciamo e sono cose che restano lì oppure che pensi un giorno di mettere un libro non lo so non lo so non lo so e qual è la cosa che ti ispira di più? che mi ispira di più? sì quando scrivi la figa ah non ce n'è una non ce n'è una nel momento in cui scrivi l'ispirazione può derivare da da tantissime cose non mi sento di dirtene una ecco a proposito di scrittura io tempo fa in un'intervista con Jimmy Tights ho fatto più volte l'intervista con Jimmy Tights e è tornata sempre una roba lui mi dice sempre ogni volta che facciamo un'intervista mi dice io ho questo modo di fare mi sveglio la mattina metto un beat e due o tre rotte due o tre orette le passo a scrivere bella per Jimmy Tights attento Simo che stanno a cascate medioriti in testa ma ha scritto mochitano su whatsapp mi fa attiva la gif faccio quale gif quella sotto camchitano ho attivato ha fatto un malseffico bravo una sorpresina sua tu da quant'è che non fai questa cosa di prendere metterti lì e continuamente ah no ma io lo faccio ok e quando? durante le mie giornate ho uno studio si vai raccontami ho uno studio mi metto lì scrivo poi viene Jacopo faccio sentire cosa ho scritto oppure si fa brainstorming la mia concezione di fare musica è molto vicina a quelle che quando? Simone quando scrivi tu? quando? quando mi va quando non ho tempo per scopare e cosa ti ispira? tu l'ispirazione ma che cazzo domande sono? parlamene mi metto al pianoforte e scrivo lo sai che io scrivo tutti i giorni? io no è una merda non ti vergogno un pochetto di questa cosa poi c'è quindi gruppi collettivi di persone l'album dei Velvet Underground è nato così artisti e nell'album c'è c'è Francesco Vezzoli che è uno dei più grandi artisti contemporanei che abbiamo in Italia è quello di contaminarsi l'uno con l'altro e mi capita spesso a me di essere in studio e di scrivere magari non come lo fa Jamie Tice adesso io non so come lo faccia Jamie Tice però mi capita anche a me e c'è stato un periodo invece in cui non riuscivi a scrivere nulla? no mai mai? sempre scritto? no sì ok ma chiedilo senza piangere sempre scritto per esempio qual è l'ultima cosa che hai scritto e di che parlo? l'ultima cosa che ho scritto? l'ultimo brano che ho scritto è un giorno in pretura ah è stato l'ultimo brano che ho scritto sì io e mia moglie siamo tutti esauriti Mauro vignetta di Mauro esauditi come Renzi quando si è preso 80.000 petrol dollari esauditi e da lì non è più messo ma da lì a livello di testi? sì no no perché non sono più andato no mi sei più tornato a scrivere? no ma qualche mese fa è un mese che non scrivi però non sei più tornato a scrivere non sei più tornato a scrivere? ma ti ha detto che l'ha scritto adesso no ma qualche mese fa è un mese che non scrivi però eh vabbè sì no no io invece scrivo sempre e sti cazzi io invece scrivo ma che fordì? ci sono artisti che hanno fatto che ne so cinque anni di nulla più totale e poi se ne sono usciti con capolavori assoluti ma che significa? sta cosa della quantità sopra la qualità non ha un cazzo di senso ragazzi che potete fare uno screen di questo frame e me lo mandate per cortesia? non utilizzarlo male che poi si arrabbia di che eh? di greve no ma io è un frame della live ah della live abbiamo superato i 7.000 giusto giusto però me lo dovete fare proprio completo tutto 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 e non dovete comprometterlo mi raccomando alta qualità grazie in HD no di quello di prima quello di prima mi chiedevo mi chiedevo da quanto tempo non scrivesi un mese c'è qualcosa che non riesci a scrivere invece? c'è qualcosa che magari ogni volta ti metti lì e dici questa cosa la dovrei raccontare e poi ti fermi in un modo o in un altro che mi viene in mente onestamente no hai raccontato tutto senti di aver raccontato tutto ma no dai no e cosa senti non aver raccontato? ma un sacco di cose ma la vita non finisce una volta che fai uscire un disco ci saranno delle esperienze delle cose che inevitabilmente dovrò vivere e raccontare no? no di correlazione a quello che hai già vissuto se ci sono cose che hai deciso di non raccontare oppure che non riesci a raccontare ma no no non ho raccontato ragazzi questo meme di pochelle deve finire subito ma non è che solo perché vi abbiamo fatto vedere prima un bel pochè in bella vista e poi vi abbiamo chiesto di scrinnare una faccia specifica di di chelle ora voi vi dovete mettere a fare meme con la faccia di chelle dentro al pochè per pochelle non fatelo sarebbe una cosa alla Michael Gentili la Sdrubalini SRLS si dissocia assolutamente io mi dissocierei l'adolescenza di cui parlavi prima sì forse di quello poco però evidentemente non avevo l'urgenza di farlo e se oggi ci dovresti scrivere una canzone da cosa partiresti? e non lo so cioè se ti dico che non ho l'urgenza di farlo partirei ma sarebbe forse una seduta di psicanalisi probabilmente sarebbe una sarebbe una conversazione con il mio psichiatra ok prossima foto ne mancano pochissime abbiamo quasi finito va beh Axe ne abbiamo ne abbiamo parlato un po' prima vuoi approfondire il tema Axe? no abbiamo parlato abbastanza prima ma sì cioè va bene va bene e cosa manca? Sfere basta numero 10 e quello è un Ferrero Russo gelato tutto il pieno buono in indelizioso buono il Ferrero Russo gelato basta che musica ti hai mai maniato il Ferrero Russo buono sì un'altra che cazzo gelato è notte buono buono gelato mi sa di scappare ho detto già tra l'orto ma è nuovo come fai l'ho già mangiato il Ferrero Russo no quello gelato ah no il Ferrero Russo il Ferrero Russo il Ferrero Russo quello gelato è nuovo vabbè come lo chiami guarda è questa è la pronuncia esatta Sfera e Basta cosa pensi? Sfera e Basta io l'ho conosciuto adesso non voglio dire una cagata ma Sfera e Basta io me lo ricordo che venne quando io ero al muretto con Emis e uscì il mio primo disco autoprodotto che smazzava a mano pata cake che Sfera e Basta venne al muretto a comprarlo lo vendevo tipo il fumo a 5 euro così e basta poi e basta perché poi non l'ho più non l'ho più visto ti capita di ascoltare la sua musica? onestamente no no oggi i numeri dicono che meno i numeri di Spotify dicono che è lui il migliore in termini di numeri devo me ne esplodere qual è il suo più grande talento da esterno guardandolo da fuori non ascoltando bene la sua musica non saprei dire credo che abbia intercettato una wave la wave della trap e che sia stato quello a farla meglio presumo c'è stato un periodo storico in cui tu eri il nuovo che per un periodo ha dominato le classifiche oggi guardando Sfera in che cosa voi due eravate così tanto diversi siete così tanto diversi il Fedez giovane dallo Sfera giovane ma siamo completamente diversi cioè parliamo di cose diverse credo che abbiamo urgenze diverse quindi non sono due cose sovrapponibili cioè sono due campionati completamente opposti secondo me cioè non riesco a trovare delle analogie ok ma volevo fare un confronto e capire quello che è la domanda Davide cazzo cazzo nel senso già lui rispetto al Pippega mamma mia qual è la differenza tra Pippega sai che noi siamo l'esatto contrario qua non è che c'è paura nel parlarne qua c'è paura proprio pure a fare pure a fare la domanda perché poi ti vengono a dire a te come mai hai fatto qua la domanda come mai mi hai messo in mezzo si incazzano però noi ci comportiamo in maniera ovviamente completamente diversa a me non piacciono queste interviste cioè io sono sincero che non le avevo viste quelle di Kele quando c'è qualcuno che si vede che non lo apprezza particolarmente perché ho visto quelle là tipo con Jamie Dykes con Maragash e Fibra quindi così tanto era un but completamente diverso quella Quax pure una piede mezzo però non così cosa però i tuoi dischi hanno venduto tanto hai venduto veramente tanto c'è stato il periodo in cui vendivi veramente tantissimi dischi oggi che fase stai vivendo nella tua carriera e come la colleghi con le vendite cioè perché per forza deve essere collegata alle vendite no no parlo di numeri parlo di numeri adesso cioè sto parlando di numeri che fase è della mia carriera sì in termini propri numerici beh io sono contento cioè io sono uscito con sei singoli che comunque sono andati molto bene tutti quindi io sono contentissimo al netto che non me ne frega un cazzo vabbè il dilac non ti frega un cazzo però ti chiedo una davvero cioè sono andati molto bene però quindi sono contenti cioè secondo me credo che il fatto che riesci a slegarti da questa cosa poi in qualche modo si percepisce che non c'è più della pesantezza dietro forse non lo so e senti c'è qualcosa c'è troppa pesantezza c'è tutta leggeresse c'è qualcosa che non riesce va bene inevitabilmente sto invecchiando e cioè però non mi metto sicuramente a fare il giovane cioè per intercettare il pubblico giovane non so come dire e quando hai fatto il pezzo con la Supreme cosa stavi facendo invece stavo collaborando con un stavo collaborando uno bravo vai ultime due foto vai ultime due foto non c'è una guerra fredda è una guerra fredda sì ma io riesco riesco a conversare siamo riusciti a cacchiare senza limitiare ma abbiamo praticamente finito ah c'è Ax ciao però Ax ne abbiamo parlato perché tornare a parlare scusa prima gli ha chiesto dobbiamo parlare di Ax no l'abbiamo già parlato ok non sa manco quello che sta a fare sta proprio vabbè entrato nel pallone vabbè c'avrà scaletta sì sì però improvvisa un attimo già prima ok abbiamo già parlato di Ax e ora riparti The Ax grande J-Axe che verrà per la prima volta ospita al Cerbero ai Boscar J-Axe per la prima volta sì 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 e quello che è venuto l'altra volta era J-Charles marra parli tu dai ammazzo io sono top intervistatore non chissà parlare adesso di lui nel disco beh perché ha fatto parte della mia vita non lo sapremo mai tipo all'ultima cena veramente chi c'era siamo davvero convinti che fossero amici come ai tempi di J-Axe non era cioè non era ha fatto parte della mia vita recente e ha fatto parte di una di una di una ferita importante sulle relazioni della mia vita quindi fatto di Chiara probabilmente era in scaletta ma Fede se io l'ho detto non ne parliamo quello ci sta no ma mi sto mettendo anche un po' nei panni di Di Kere ci sto provando sì sì sto provando sto cambiando un po' prospettiva cioè ma io lo sto fatto dall'inizio dell'intervista è colpa sua ed è per quello che alcune cose non le sto capendo cioè ci si è messo lui in questa posizione esatto perché è un meccanismo che a me non mi rappresenta quindi non riesco però in questo specifico momento c'è sta che va nel pallone solo che se sta anche autoilludendo che si è andata bene forse non lo so vuole convincere il pubblico nei suoi oscuri panni sì è una mia vita non vedo come nascondere perché dovrei nascondere questa cosa e c'è qualcosa che ti ha portato a ripensare a quell'amicizia oppure beh ma in che senso no dico parlarne ora magari c'è qualcosa beh ora ma non è mica successo dieci anni fa no dico però magari c'è stato un episodio qualcosa che ti ha portato a ripensare alla vostra amicizia no beh il disco comunque è stato scritto da un anno e mezzo che io lavoro a questo album quindi è inevitabile che è stato scritto in una fase in cui ero più vicino a quel periodo lì no e quindi non ci vedo posso dire una cosa privata che mi ha confessato Fedez cosa ti ha detto il tuo grande amico Fedez prego non come il più in Pega però no no mi ha parlato molto bene di Ax di Alex lo dico perché è una cosa bella nonostante la separazione diciamo anche turbolenta non avevo dubbi no però sai comunque sono successi i casini grevi comunque mi ha parlato molto bene dal lato personale sarà che io non so un cazzo perché io non so informato dai motivi della separazione e noi glielo ne ha ne ha anche chiesto perché pensavo che poteva essere una domanda che poteva annigliare il clima perché non non so nulla a tal proposito magari sai una cosa un po' troppo intima no ma più che altro sai che c'è c'è sarà un motivo che io sappia perché cazzo no no ma semplicemente hanno fatto mille interviste dove chiedevano solo quell'Ax immagino che gliel'hanno chiesta a Steck a lui come rispondeva dell'intervista che ha fatto di Chele ad Ax ha chiesto un sacco di cose su Fedez sugli articoli quindi sarebbe stato uno superfluo due inutile piaceva rovinava troppo quel mood c'era un mood troppo bello secondo me ma tanto che te dovavi e poi sti cazzi che me ne frega ma neanche a di che mi interessava così tanto che io l'ho chiesto in privato a uno o all'altro che cazzo me ne frega non gli l'ho chiesto non mandava neanche mi è capitato di parlare di questa intervista perché era venuto insomma a giorni vabbè basta non credo cioè credo che il tempo lenisce tutto no però non mi sento in realtà non mi sento di escludere nulla guarda quando ho fatto Sanremo che dissi non andrò mai a Sanremo non mi sento di escludere mai un cazzo nella vita perché può succedere di tutto ecco ho imparato questo e cosa ti manca di quel periodo storico di Neutopia ma niente non ho grandi rimpianti io nella vita guarda ti dico è successo sono contento che sia successo è andata come è andata ma poi si va avanti ecco hey io sono Matteo Valenza no no vabbè che c'è da ridere dai che cazzo mi ha fatto ridere ma Simone mi ha fatto ridere vabbè pure ciccata a terra che cazzo dai che è una persona grassa che sta a promuovere in auto da me ha fatto ridere Simone una persona grassa eh vabbè lo so che non c'è niente da ridere Davide mica siamo dei portabandriati del body shaming e io stavo a ridere per Simone e vabbè e io stavo a ridere per un commento in chat chiudiamo col disco e poi ci sono i biscotti della fortuna quella cosa che avevi detto sul P-Pega lo fa effettivamente di Chele i biscotti della fortuna 11 biscottina ti chiedo un po' dell'album ho visto una tua intervista alla Fazio e ero curioso di di guardare le interviste e sapere di cosa avreste parlato e in tutte le interviste si è parlato è durata quanto? 20 minuti poi le interviste alla Fazio non è che durino tantissimo si è parlato della campagna fanno cagare ma sono comunque migliori delle due incredibile ti ing si è parlato di tuo figlio è vero molte interviste di di Chele sono migliori di quelle di Fazio di tua moglie ed è come se per lui o per molti il Felix cantante non esistesse questa cosa è una cosa che ti ferisce oppure non te ne frega niente facendo tante cose ed essendo esposto è sempre la stessa domanda è sempre la stessa domanda formulata in modo diverso ma ve ne state rendendo conto? si si è uguale a prima è la stessa identica domanda che poi non è detto che non debba per forza dargli fastidio sta cosa se a lui non ne frega niente ci dice tanto di Fedez assolutamente magari un'altra persona potrebbe dirti in realtà si mi fa male questa cosa vorrei essere riconosciuto per la mia musica non è questo il caso quindi va ma più che altro l'hai capito cazzo l'ora e mezza l'ha anche già detto porca puttana su tanti livelli credo che sia inevitabile no? poi cioè di quello che mi chiede Fazio non posso rispondere io sì no logico logico no mi chiedevo magari come ti fa sentire questa cosa hai lavorato per un anno e mezzo di un disco beh ma a me onestamente che fa cioè a me raccontare il disco in un'intervista non è che mi cioè come spiegare una barzelletta cioè la canzone va ascoltata quindi per me andare da Fazio non era tanto parlare con Fazio nel mio disco era andare a cantare le mie canzoni quindi nel momento in cui io ho cantato le mie canzoni Fazio mi può chiedere quello che vuole così come tu però alla fine la canzone te l'ascolti non è che c'hai bisogno poi dell'audiolibro dell'artista che ti spiega il significato della canzone grazie per la donazione infatti questa cosa è fantastica ragazzi da Fazio non si è parlato del disco perché qui no pure qui voglio parlare del tuo disco in realtà sta parlando dell'intervista di Fazio e del fatto che Fazio non gli abbia parlato del disco ma parlarete allora stanno solo parlando dell'integrità artistica di Fedez o presunta tale dei suoi dissing delle sue litigate con gli amici fine non si è parlato di altro però come dice anche Fedez nemmeno si vuole cioè queste interviste non è che servono per parlare dei dischi traccia dopo traccia cioè un po' cringe come approccio però neanche così cioè no lo puoi fare però nel senso che senso ha chiedere perché quest'altro intervistatore non ti ha fatto parlare del disco è quello che stai facendo anche tu ti ha risposto Fedez perché evidentemente non gli interessa ma ce sta eh come con noi con Ax abbiamo parlato di altro il Cerbero 6K a luna di notte è solo noi 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 mazza è luna questo è per dare una svegliata chi si era addormentato al computer è sveglia è trick e track è trick e track è trick e track è trick e track non c'è nulla di male che un intervistatore voglia essere polemico no 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 ma infatti ripeto semplicemente cioè stai ponendo una domanda che hai già fatto 40 volte ok e soprattutto questa tua intervista è esattamente la conferma di quello che stai chiedendo a Fedez tu stai rispondendo alla tua stessa domanda con la direzione dell'intervista sono d'accordo con te le scelte musicali però io preferisco che vengano ascoltate cioè non lo so non è il mio mestiere quello di fare le domande sui dischi quindi se non me le chiedono io non cioè che ci posso fare e quando hai iniziato a lavorare questo disco che cosa volevi raccontare cioè qual era l'esigenza che avevi dentro di lei l'esigenza primaria calcola è un anno e mezzo iniziato pre-pandemia e poi finito ho continuato in pieno lockdown e poi finito quest'estate praticamente è stato veramente un momento anche di sfogo cioè c'è stato un momento un altro hype train ragazzi ma neanche al collegio era un momento per poter uscire guarda che è le live lunghe per raramente noi siamo arrivati a fare così tanto tempo di live quanto è? 4 ore 3 ore e 48 top eh chill bello chill si 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 merda ci piace ci piace è un paio d'anni e lo riripeto che dico che il futuro del cebero è questo cioè live che iniziano alle 21 e finiscono intorno all'una e le due secondo me si 15 riposo 15 quando è veramente utile quando c'è veramente un motivo bisogna parlare è un'idea però secondo me funziona secondo me funziona quando è spontaneo cioè tipo oggi non è che cioè in realtà ho visto che durava così tanto ma non ho detto manco la vediamo tutta posso buttare là perché noi se andate a vedere moco tutto che mi ricordo iniziavamo sempre tardi abbiamo iniziato nella caverna partì puntualissimi ricordo c'è stato il primissimo periodo che partivamo proprio sempre in orario sempre in orario e secondo me bisogna prendersi un po' più di riposi magari di mo' sta live non ci abbiamo niente di che parlare magari siamo stanchini riposo perché noi se ci fai caso difficilmente scambiamo riposiamo proprio mai scam mai quasi mai quindi cioè siamo abbastanza attivi con tutto che l'unico problema è che se fai una live lunga devi avere per forza tante cose di cui parlare qua c'è comunque un contenuto unisci quelle che sarebbero state 15 e 21 però spesso magari arrivi che sei troppo stanco non c'è la forza per argomentarle cose io preferisco più impostazioni minimo un'ora due volte al giorno poi se è di più che ci va poi vabbè sono visioni alla fine sì 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 cioè nel senso se è l'ora vabbè se poi ci viene deve fare tre ore sti cazzi dipende pure il periodo quando magari devi fare tipo quando è estate che la sera magari devi uscire pure guardare i cazzi e lì poi può diventare una prigionia che magari il giorno non c'è un cazzo da fare no quello sì per la vita privata sì perché sai che noi abbiamo la fortuna che possiamo scegliere i nostri orari però allo stesso tempo questa però vi faccio un esempio il collegio no il collegio una cosa pure che dobbiamo adattare al nostro stile di vita però dobbiamo pure tenere conto di quando ci stanno le persone che ci guardano quindi bisogna pensare c'è bene possiamo sì però tipo il collegio no gli ultimi siamo arrivati che non ce la facevamo più pure se il giorno dopo riposavamo ai 15 erano diventate insostenibili se non fosse stato per cane pazzo e comunque adesso abbiamo un contenuto su cui stiamo discutendo ma che comunque è una base è come per chi fa gaming tu sei già un contenuto che sta là è chiaro che riesci a stare a 4 ore sì non c'è un contenuto fisso che poi porta avanti per così tanto tempo poi che non è fisso da quel contenuto no no dovrebbe essere ovviamente variegato eh ma variegato tenere quel ritmo per 4 ore no infatti si può fare solo con un'organizzazione quasi da tv locale o comunque quasi alla RAI infatti ho parlato di evoluzione se avessimo degli editori degli autori ti parlo della next next job che ancora non concepiamo non puoi far manco una live al giorno però a quel punto avere un ritmo diciamo televisivo però noi siamo abituati a fare 2 live al giorno tu immagina se diventa che devi fare una live al giorno cioè non possiamo stare in difficoltà che poi devi fare 2 ore minimo 2 ore e mezza 3 ore minimo minchia ma però sarà una nuova realtà però per ora secondo me si impostazione tipo che ci sta un'intervista al giorno bisognerebbe cambiarla quando c'è un motivo tipo se magari subentra la cosa o ai 15 no e magari chissà quale motivo però per adesso non so quanto possa convenire ma giusto se dovessimo impacchettare quello che è il cerbero in uno show giornaliero tipo di seconda serata ma serve una mini redazione lì perché poi ogni giorno un ospite oltre ai contenuti da commentare cioè vabbè sì alla fine allenamento pure quello se cominci a lavorare per 4 ore con quel ritmo ti abitui la stessa cosa ti fa 2 ore e 2 comunque vabbè sì sì cose che si potranno sperimentare sicuramente l'occasione di mettere un po' di merda anche dentro il disco ma anche di buttarla fuori nel momento in cui ristudio è un disco di canzoni non è un concept album è un disco domani c'è l'onora George alle 15 top live mi pare che ci ho pensato neanche fare il disco non sapete fare uscire le canzoni no? sono un po' intimorito ma sono anche consapevole che sono un bravo intervista non c'è una canzone legata ad un'altra in qualche modo ogni canzone è una storia a sé e scrivendolo e riascoltandolo adesso qual è la cosa che è venuta meglio per te del disco? il brano di cui sei fiero? se li ho fatti uscire perché mi piacevano tutte mi piace il fatto che comunque ho affrontato sonorità nuove ho affrontato la scrittura inevitabilmente in maniera diversa avendo avuto delle contaminazioni diverse ed è un'avventura completamente nuova rispetto a prima che è quello che cerco di fare sempre cioè di far sì che non si ripete che il mio andare in studio il mio fare musica non diventi una routine perché quella cosa lì mi mi annoia non so come dire quindi cerco sempre di cambiare mi racconti il metodo Fedez che tu arrivi in studio ascolti delle reference com'è il metodo Fedez? ma dipende dalle canzoni cioè ci sono delle situazioni in cui abbiamo pulito apposta lo studio si viene in studio io conosco la Gioci fai trovare un ambiente pulito e profumato stamattina hanno pulito quindi ha pulito già prima da delle reference musicali ti faccio un esempio meglio del cinema nasce in studio a Bagnolo cremasco da Simonetta e la reference come mood come atmosfera era Go Flex di Post Malone che non c'entra un cazzo però col pezzo quindi siamo partiti da quel giro di chitarra lì ovviamente poi abbiamo cambiato tutto e tu parti da una reference e arrivi poi ad un altro ad un altro mondo sostanzialmente quindi inizi dalla base per poi approcciare la scrittura o a volte mi capita di avere io dei testi già fatti e di dire partiamo da questo e costruiamo un brano su un testo già fatto sostanzialmente dove poi manca l'inciso il ritornello e il brano più difficile da scrivere di questo disco qual è stato? a nessuno non ho avuto particolari difficoltà c'è a dire difficile fammi pensare un brano difficile da scrivere ma nessuno e con quel brano hai chiuso questo disco? c'è hai detto boom questo è l'ultimo brano e il disco lo consegno un giorno in pretura ma che è stato poi l'ultimo che hai scritto sì ti chiedo a proposito un giorno in pretura ma è davvero un album da mille querele? in che senso? nel senso che in comunicazione anche quando è uscito il disco hai postato quella foto di Matrix sì ma non è per l'album io ce le ho davvero mille querele indipendentemente dall'album sì sì no pensavo quelle sono tutte vere e con il disco le sono arrivate no? con il disco attualmente no ma io sono già stato querelato dalle persone citate in alcune da alcune delle persone che sono citate nel disco quindi sono già arrivate ti chiedo questa cosa in relazione a un brano no? tu dici cosa rimane dei tatuaggi che non fanno male non mi riguardo mi sto già sul cazzo amo sta vita anche se è quella di un altro che nove su dieci abbiamo problemi che dici su nove non siamo sinceri un selfie allo specchio e mi sto già sul cazzo perché ho due figli così non mi ammazzo mi racconti? questo è un brano in un momento in cui ero molto molto giù e ero in studio con Jacopo e Simonetta e scrissi questa frase che è ho due figli così non mi ammazzo che è una frase molto forte che dissi in una seduta col mio terapista e questo brano rappresenta un momento molto cupo non della mia vita di una mia giornata di un mio periodo abbastanza breve in cui avevo bisogno di tirare le somme e il fatto di dire ho due figli così non mi ammazzo è è quello che ti dicevo prima cioè l'età adulta la maturità ti senti compiuto quando veramente la tua vita e altre vite dipendono da te in qualche modo in cui ci sono ci sono delle priorità che in cui è inevitabile sbagliare e questo brano è credo l'esegesi del del mio stato d'ansia rispetto a tante tanti punti interrogativi che mi porto dietro amo sta vita anche se quella di un altro amo sta vita anche se quella di un altro perché molto spesso la narrazione che si fa dall'esterno della mia persona non corrisponde con quello che poi vivo io realmente no e a volte il rischio è anche quello di credere ma sono d'accordo Ciri peccato sia finita in quel modo dopo questa apertura infatti questa parte questa è molto interessante è molto interessante e ha ragione eppure lui ha un mood diverso infatti c'è dovuto arrivare a Fedez a rispondere in questo modo perché le prime le prime domande anche nel merito stava rispondendo in modo scazzato pure Federico stava tutto scoyonato banalizzando generalizzando perché il mood era quello piano piano si sta aprendo hanno fatto ha fatto il percorso un verso diciamo la narrazione che viene fatta sia coerente no? che se ti stai sbagliando forse è vero quello che dicono di te in qualche modo ti interroghi anche su questo e che cosa non sanno tutte le persone fuori cioè cosa decidi di non far vedere? tante cose tanti momenti della mia vita decido di non far vedere so che ti sembra strano ma no non mi sembra strano è così e che cosa ti spaventa? mostrarli? no semplicemente non ci sono delle cose che reputo opportuno non mostrare credo sia normale sì 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 grazie Apocalippo grazie bello nostro così in chiusura proprio grazie bro e cinque della buonanotte proprio però c'è lui per me è schiavo del voler compiacere tutti per forza sono d'accordo ora ragazzi stavamo vedendo a chi fare il ride anime night live con il trio di lupus Livio Meliador e il Maggi ciao Lucia 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 ma deve stare a dormire a stora ammazza nonna ciao ronna grande Lucia vediamo stanno a parlare mancano ancora dieci minuti ah no pensavo che era finita ho sentito tipo una sigla ah ok ok non è finita già l'ora ma tra poco abbiamo chiamato gli artisti cinque minuti allora guarda dipende da caso a caso cioè per esempio lavorando con gli A la prima cosa che gli ho detto è voglio rifare la cassa spinge quindi abbiamo contattato fra la cassa spinge come spinge tuo marito power frenchers power rangers facciamolo con mischeta anche lei era fan è venuta a muschio è nata un po' così la cosa e questa è quella vecchia questa speranza è uno dei rapper che stimo di più attualmente come mai lo trovo super ridi questi riconoscevo quando erano completamente sconosciuti perché uno dei tre aveva il fratello che era l'ex della mia ex mi sa abruzzesi loro vorrei dire cazzate lo trovo buone pecore forse uno dei pochi rapper senza sovrastrutture senza quinta cinematografica davanti poi è un patatone sinceramente a conoscerlo è veramente un patato poi chi è che c'è comunque da caso a caso non è che ci siamo scammato ventiero no banana grazie banana ho visto il bit non ho quantificato ma grazie adesso chiamo quello chiamo quello chiamo quell'altro che è successo vai ultime domande poi abbiamo finito tu dal 2011 hai sempre deciso di documentare la tua vita no? l'hai sempre fatto prima con i chronicles ho sempre avuto la passione del raccontarti del raccontarmi sì hai mai pensato però oppure ti immagini un periodo in futuro e non ti vergogni sparirai per un po' di anni ah può essere quello che ti dicevo prima mai dire mai ma ti spaventa sparire cioè ad un certo punto non esserci più e attualmente no anche perché è inevitabile in questo momento ci sono sono abbastanza presente quindi è un po' difficile sparire questo anche volendolo non so come dire e come mai senti l'esigenza di raccontarti così tanto cioè di mostrare al mondo così tanto la tua quotidianità eh la mia quotidianità? sì ma io credo di vivere lo spirito del tempo cioè in che senso cosa intendi raccontare la mia quotidianità far mostrarti raccontare comunque lo fai dal 2011 ma sono un personaggio pubblico quindi mi mostro ma non tutti i personaggi pubblici lo fanno quindi che data è che lo fai cosa è che ti spinge a farlo? la voglia di di condividere probabilmente la voglia di raccontare la voglia di la voglia di parlare questa realtà era pure una domanda interessante però pure lui non sta proprio nel mood ma dopo un'ora e tre quarti sì sì o annichilì tanto che ci sei arrivato così questa parte mi piace l'intervista ci sta cioè non è tanto se sei un personaggio pubblico vabbè ho capito ma fibra c'è un altro approccio sì appunto perché grazie fan to spot perché lo fai come lo fai esatto perché senti questa necessità interessante i tempi che corrono sì va bene ma dici perché ci sta la voglia anche di mettersi in mostra c'è tante cose cioè non c'è mai una sola motivazione che induce le persone a induce a fare qualcosa sono sempre una sfumatura di tante cose può esserci una motivazione che prevale su un'altra ma non ce n'è mai una no? eh hai ricevuto lo stemma beat fan toots pop oh mai visto in vita mia grande fan toots il dramma di questi tempi cioè vedere tutto in bianco uno fa una cosa per questo motivo o per l'altro no dentro le persone convivono più motivazioni che spingono a attivarsi a fare qualcosa a mettersi in mostra a parlare a raccontarsi no? quindi è difficile dirti ho una motivazione per il quale parlo comunico ce ne sono tante in primis sicuramente quella di di avere uno strumento per le mani che mi permette di poter comunicare delle cose e quindi cerco di cogliere l'occasione che cosa ti spaventa dei social? dei social? sì c'è qualcosa che ti spaventa dei social? le cose che spaventano ho imparato a digerirle nel senso ho abbastanza dimestichezza col mezzo quindi che mi spaventano in senso letterale cioè che mi provocano baura nulla 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 di che cioè spavento è un'emozione forte ragazzi l'ho detto è chiaro dopo un'ora e mezza di interrogatorio non te va di aprirti ma è legittimo è per quello che Dickie non è in grado di intervistare sì ha fatto il processo inverso l'ho detto prima è partito carica a molle di mollo rompo mollo sfondo e poi vuole l'introspezione sincera ad un ospite che è trattato male fino a mo non esiste da una parte uno potrebbe pure dire però visto che l'ho già blastato nel tempo non posso neanche fare intervista solo intima e allora grazie un accaso un accaso non ufficiale e allora lui è vittima di se stesso non aveva alternative se non un'intervista brutta un pochele ho d'accordo i momenti in cui magari i social riescono a cambiare il tuo umore in un modo o in un altro una foto che fa meno like oppure una foto che fa meno like un esempio una foto che fa meno like oppure un messaggio in DM che ti offende direttamente ma sì ma sicuramente dei commenti delle cose sicuramente ci sono delle cose che ti possono far incazzare più di altre ma credo che sia umano nel senso forse più di altri riesco a farmi scivolare addosso le cose perché rispetto a una persona che non è esposta come me ne sento molte di più e ne vedo molte faccio un esempio per rispondere pure per aggiungere a quello che diceva Simone l'avete avuto oggi no? Anima ok? Grazie Max Grazie io ho criticato nel tempo alcune cose di Anima oggi è entrato è stata citata anche la cosa sulla quale discutemmo lui disse in quel caso infatti avevi ragione oggi succede la stessa cosa Ciccio io ho fatto quello che facessi tu all'epoca però comunque ho criticato anche l'approccio attuale che ha avuto Anima però è andata poi è stata pure improvvisata tra l'altro ha scritto un chat noi stavamo in live non è che faccio il pavido ti ridico quello che ti ho detto ovviamente però parliamo di una cosa nel merito grazie Sid forza Napoli grazie perché Fedez accettava di fare questa intervista non si aspettava il trappolone no se l'aspettava se l'aspettava però ci sta secondo me su uno che mi critica Aladino grazie Aladino grazie Aladino uno che mi critica tanto poi mi invita ce vado io pure so così pure Simone e Gianluca immagino uno che magari ti critica tu dici ok vediamo se poi mi ripete queste cose e voglio anche rispondergli a livello a livello comunicativo sarebbe stato devastante cioè di chi è che ti invita per un confronto di chi è che ti invita per un confronto e tu rifiuti vince lui è il discorso che facciamo l'altro giorno e Fedez non è venuto e quindi l'avrebbe blastato ancora di più c'ho sonno abbiamo finito ne sento molte di più e ne vedo molte di più quindi è più difficile ma non è cioè le cose che mi fanno incazzare quando mi dici una cosa che ti fa incazzare sui social non è mai non è sicuramente la foto che fa pochi like ma non è grazie Sid non è meno riconducibile grande Sid a stecca le cose che mi capita più spesso è entrare in diatribe con con personaggi della politica o altre cose quelle cose mi fanno incazzare ok quelle cose mi fanno abbastanza incazzare e si vede poi dopo quando ne parlo allora abbiamo finito prima di finire ti faccio una domanda ti va di aprire il biscotto della fortuna il biscottino è il biscottino qual è la lezione che non hai mai imparato? avevo zero fiducia nel fatto che stress è arrivato alla fine ce l'abbiamo fatta ce l'abbiamo fatta cosa dice? tranquilli siete in ottima forma io con l'aiuto del vostro intuito riuscirete a risolvere una situazione delicata no è successo esattamente l'opposto soddisfatto ti ha tradito il tuo intuito hai la stessa funzione dei biglietti stessi in realtà no la lezione che non hai mai imparato? la lezione che non ho mai imparato è uno la pazienza due non farmi prendere dall'istinto ne sai qualcosa grazie grazie a te però attenzione la bomba finale sei rilassato ah qua è posa all'indietro qua è il finale il finale attenzione ragazzi il gran finale il gran finale allora il gran galà chiuso finisce l'intervista però grazie grazie a te però mi hai chiesto di tutti e non mi hai chiesto dell'unico rapper con cui lavori ed è un peccato perché secondo me avrebbero potuto sarebbero potute nascere delle cose interessanti come la sensazione è che sia lui il tuo dramma è risolto e no ma questa sensazione e ma cavolo se non ne parliamo non puoi saperlo no perché l'hai menzionato tantissime volte durante questa intervista come fai tu con Fedez ogni volta sì quindi il suo dramma è risolto con la differenza il trauma è risolto Sid grazie con la differenza che ha messo diversi rapper ha parlato di tutti tranne che The Will come è la sensazione che il suo dramma è? ma se parliamo di rap di cosa ti devo parlare? ma ci sono tanti artisti vabbè è un peccato un'occasione persa mi spiace sì spero che questa cosa ti passi grazie ragazzi è stato un piacere il suo dramma prendi il libro grazie a tutti grazie a tutti ragazzi grazie di essere stati qua prendi il libro e se ne va e anche grazie stretta di mano e fa vedere non è Gali è Marrakesh ragazzi avete sbagliato già l'altra volta non lavora più con Gali è Marrakesh non è persa mi spiace perché c'era quella roba di Marrakesh e lui nelle storie lei aveva detto eh lo di per esempio una sorella che era mi ricordo lesbica quindi può parlare di questi temi c'era tutta quella roba lì grazie ragazzi è stato un piacere prendi il libro grazie grazie a tutti grazie a tutti ragazzi grazie ad essere stati qua vabbè sono andati via insieme vabbè ma salutalo cioè solitamente grazie stretta di mano guarda un faccio vabbè c'è spero che sta cosa ti passi vabbè c'è il covid le mani non se li potemo dà i comiti non se li potemo dà e allora e quindi e quindi c'è la sigla finale saluto che squali state arrivà E' L'O Rochelle state pure registrando tutti al bagno come si è fatto grazie a tutti grazie a tutti